Prego, accomodatevi per cortesia. Non apri i lavori se non siamo in numero legale. Bene, allora, siamo 22, pertanto il numero legale è rispettato. Bene, riprendiamo i lavori. Chiedo all'assessore se vuole dare risposta alle richieste e ai chiarimenti dei consiglieri presenti. Grazie, Presidente. Partirei dai consiglieri che sono presenti e quindi posticipiamo la risposta all'architetto Giannelli. Sì, infatti, posticipiamo la risposta all'architetto Giannelli. Anche se nelle risposte al consigliere Loperfido ci sono dei rimandi diretti anche alla risposta al consigliere Giannelli. Allora, procediamo in questo modo. Io leggo il sunto della domanda per come è stata formulata e poi darò la parola a chi è preposto a darne la risposta. Inizio con il consigliere Loperfido relativamente alla riapertura dei termini per le osservazioni. Allora, riguardo a questo non vi è stata alcuna riapertura dei termini. Le osservazioni, il periodo per presentare le osservazioni è scaduto, come lei giustamente indicava, a fine settembre. Ciò nonostante, e ciò non di meno, sono lo stesso pervenuti agli uffici delle richieste di osservazioni, delle osservazioni da parte dei cittadini e non sta nei compiti dell'amministrazione non recepirle, nel senso arrivano e gli uffici, infatti, come lei avrà visto anche nell'elenco delle osservazioni, ha inserito e ha schedato tutte le osservazioni pervenute. Ci siamo confrontati anche con gli uffici regionali a riguardo del comportamento relativamente a quelle osservazioni che sono pervenute al di fuori dei termini previsti di norma e che, infatti, anche nella bozza di delibera sono indicate come pervenute al di fuori dei termini. E si è constatato che ogni comune le ha valutate in modo diversificato. Alcuni hanno terminato con l'analisi solo di quelle prevenute nei termini, altri invece hanno, in ogni caso, considerato corretto dare risposta ai cittadini. Atteggiamento che l'amministrazione aveva già tenuto quando è stato fatto il Pums, tant'è vero che nelle risposte al Pums sono state analizzate, e quindi hanno trovato risposta, tutte le osservazioni pervenute, anche quelle che erano pervenute posteriormente allo scadere dei termini di norma. Quando è stata fatta la commissione del 22 dicembre, in quella sede la commissione ha affrontato la questione e in commissione, insieme, vista appunto l'atteggiamento diverso che era stato deciso e adottato anche a livello regionale e suffragati anche dalle indicazioni degli uffici competenti regionali, abbiamo insieme con la commissione stabilito che avremmo dato risposta tutte le osservazioni pervenute entro la data coincidente con la prima commissione nel quale si iniziavano a vedere le riserve, perché da lì in poi si iniziava l'analisi delle riserve. E così abbiamo fatto, decidendolo in commissione, ma i termini non sono mai stati riaperti, nel senso che i termini erano scaduti, ma i cittadini hanno presentato lo stesso osservazioni, liberamente. E questa è la risposta a riguardo della domanda relativa alle osservazioni. Sempre il consigliere Loperfido sottolinea che in fase di adozione del piano si è incisi anche sugli obiettivi e sulle strategie. Questo non è assolutamente vero, nel senso che non c'è stata nessuna incremento, modifica o implementazione o cambio di contenuto né delle strategie né gli obiettivi del piano. Qui mi leggo anche alla risposta alla prima domanda del consigliere Giannelli. Con la Regione, a seguito della presentazione delle osservazioni delle riserve regionali, che non sono diverse come tenute e come contenuti quelle che sono le riserve regionali, che sono pervenute anche a tutti i comuni che redigono un piano regolatore. Basta che, se avete voglia, vi leggiate quelle del Comune di Trieste, quello che è il ruolo della Regione e che la Regione esprime con le riserve. A seguito della presentazione delle riserve regionali, l'amministrazione ha svolto tutta una serie di incontri con gli uffici regionali per capire come implementare gli elaborati che fanno parte del piano, al fine fondamentalmente di renderli coerenti con quella che è una modalità, neanche espressa perché non sta nella norma, della Regione, di disegnare o raccontare i contenuti del piano struttura. Anzi, della componente strutturale, perché in Friuli, Venezia e Giulia, la Regge parla di componente strutturale e non di piano struttura. Sarebbe stata in primis la Regione stessa a indicare se il piano andava riadottato o meno, perché sia gli uffici regionali che noi abbiamo chiari quali sono i termini della norma. e il lavoro che è stato svolto è stato quello della trascrizione dei contenuti che erano stati espressi in un determinato modo nella componente strutturale e che sono figli forse di più di una cultura di altre Regioni che adottano da molto tempo queste modalità, a quelli che sono i modi di espressione e di rappresentazione della nostra Regione. Tutto questo è stato visto con una serie di incontri o precisamente con 11 incontri con gli uffici regionali e è servito appunto per semplificare la rappresentazione o lavorare sulle modalità della stessa. Ma anche a dichiarazione specifica della Regione, mai la Regione ha voluto incidere o ha considerato incongrui e quindi di necessaria implementazione o modifiche gli obiettivi e le strategie che il Comune si era dato nella delibera di direttive. Per quanto riguarda, e mi sembra di aver risposto, a tutte le domande del Consigliere Loperfido che chiedeva l'amministrazione quindi la questione della riadozione data dalla modifica degli obiettivi e delle strategie e dichiarando che ci sono state delle modifiche sostanziali e della questione delle osservazioni. Consigliere? Queste erano? No. Sono le tre. Però le due e mezza. Consigliere Loperfido, ne è saltata qualcuno o ha risposto a tutte? Sì, queste due aveva fatto. Sì. Grazie. Passo la... Per quanto riguarda il Consigliere Sperotto, non ho capito. Per quanto riguarda il Consigliere Loperfido, Va bene. Oppure passiamo. Relativamente alla 7A, lei mi chiede se è stata recepita la riserva 7A, le confermo che è stata recepita e a riguardo passo la parola all'architetto Giuliani. La riserva 7A se è stata recepita, chiedeva il Consigliere Sperotto. È acceso. Sì. Dunque, la riserva 7A è stata recepita e è stata portata un'integrazione al rapporto ambientale in sede di contradduzione che ha legato al parere motivato dove si specifica che è esclusivamente un modo di espressione invece di dire che si impone questo tipo di procedura siccome questa procedura era già stata ipotizzata in uno dei tre scenari nel rapporto ambientale hanno detto utilizziamo quello scenario lì e in particolare quella tecnica che è quella degli elementi prestazionali negli edifici che quindi negli scenari era utilizzata come uno degli espedienti per garantire la sostenibilità avendo scelto tra tutti gli scenari lo scenario che sembrava più interessante per ottenere i risultati richiesti dalle direttive dell'amministrazione comunale questo stesso tipo di politica è stata utilizzata per garantire la sostenibilità ambientale è un modo di esprimersi la regione intravedeva in questo una non diciamo precisa imposizione abbiamo integrato il rapporto ambientale per farla diventare una più esplicita richiesta come aveva richiesto la regione relativamente invece a quanto riguarda la questione della situazione tributaria fiscale relativa ai crediti allora io inizio la risposta poi passo la parola al segretario sì che c'è allora diciamo che l'unico elemento e rispondo a entrambi anche al consigliere freschi l'unico elemento innovativo per quanto riguarda il comune di Pordenone è l'inserimento del concetto di credito volumetrico e di quindi questa espressione del doppio indice sulle aree legato ad una parte di indice che è quella che è già dimostrata come sostenibile dal rapporto ambientale strategico e dalla VAS e una parte di indice invece che va acquisita con i crediti volumetrici che nascono dalla rigenerazione allora per quanto riguarda chi genera il credito questi vengono generati da edifici esistenti perché si parla di rigenerazione di patrimonio edilizio esistente quindi lì non c'è una tassazione diversificata a meno che nella rigenerazione non vengono fatti quegli interventi che dal punto di vista fiscale già oggi vengono previsti come tassabili adesso sappiamo che ultimamente viene chiesto l'accatastamento delle superfici fotovoltaiche sui superiori ad una certa quantità eccetera ma nulla c'entra col piano regolatore per quanto riguarda invece la caduta del credito volumetrico sulla sull'area greenfield che viene trasformata lì niente cambia rispetto alla tassazione attuale nel senso che viene già prevista l'IMU si paga già una parte sull'edificabilità una percentuale che naturalmente però verrà calcolata esclusivamente sull'80% cioè su quella che è effettiva non su quella che può essere acquisita che invece verrà tassata solo ed esclusivamente a seguito dell'acquisizione quindi del completamento dell'indice stesso se non sono stata sufficientemente chiara passo la parola al segretario per integrare tassazione e questione tributaria fiscale riguardo ai crediti volumetrici e alle aree in precauzione il tema dei diciamo dei diritti delle cessioni di cubatura o dei diritti volumetrici è un tema che è iniziato qualche anno fa inizialmente era correlato solo a convenzioni fra terreni finittimi da una parte all'altra poi con la creatività della pianificazione urbanistica la cosa si è andata a strutturare anche se non è ancora diciamo così diffusa e quindi si è venuto a creare un meccanismo in cui ci sono delle aree cosiddette di decollo di una fase in cui questi diritti che vengono creati sono fermi in volo o comunque inseriti in un registro pubblico o meno e poi la fase di atterraggio dove il diritto poi si attua quindi sotto l'aspetto della della fiscalità diciamo indiretta cioè quella dell'atto specifico notarile si è già pronunciato il consiglio nazionale notarile seppur in modo non lasciando comunque dei dubbi diciamo risoluzione agenzia delle entrate e Cassazione tendono anche se in modo non così prevalente diciamo tendono a considerare il trasferimento di cubatura allo stesso effetto allo stessa stregua di un trasferimento di diritti reali questo sotto profilo fiscale quindi agli effetti per dire rispetto a al valore poi di un bene nella casistica nostra noi abbiamo cos'è che produce cioè allora prima rispondo all'area di atterraggio nel nostro sistema come delineato con le risposte e le riserve con il regolamento prevede che l'80% della cubatura sia correlata all'80% del terreno quindi lì è quello che è un valore chiaro il 20% solo se c'è il contratto quindi se c'è un credito comperato quindi in questo caso l'IMU si calcola su questo perché qui parliamo di potenzialità per la parte invece di partenza ci sono due tre tipologie una è quella della diciamo la realizzazione di interventi energetici questi cioè che possono essere su un immobile allora questi se necessitano secondo la normativa fiscale in una modifica catastale per dire impianto di pannelli fotovoltaici che superano tot kilowattora bisogna catastarlo e quindi fa crescere il valore caso contrario non ha nessun effetto quella potenzialità il fatto che quell'edificio realizzando degli interventi cioè abbia una potenzialità di incubatura che può cedere diversa invece la situazione delle aree aree tendenzialmente verdi o inedificabili che a cui il sistema cioè il sistema della pianificazione che andate ad approvare attribuisce una potenzialità edificatoria da trasferire quindi non realizzabile in loco ma da trasferire questo ovviamente dal punto di vista fiscale comporta un incremento di valore perché la semplice potenzialità e quindi è un incremento di valore che cessa nel momento in cui o l'area è ceduta o comunque è ceduto il credito quindi va sul registro e quindi appunto scompare il valore ma se è un'area da agricola bisognerà aggiungerci quel valore potenziale della cubatura che trasferisce no 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 nel momento in cui la ponete con l'approvazione è piano sì nel momento che è messo in registro di diritti che è fuori o ceduto a qualcuno se è ceduto non è più correlato finché no no il virtuale finché è correlato inerente a un'area di partenza ne valorizza l'area sì poi guardate il contesto fiscale poi di queste non è così chiarissimo questa però è così questa è così no li ho liberati no li ho messi in evidenza quindi il piano mi ha attribuito sì dipende sì se prima era se li ha aggiunti sì se li ha aggiunti sì cioè faccio un esempio se prima era un'area edificabile sì se prima era un'area edificabile con un indice 1 1-1 e con questo piano diventa area di tutela area verde però suscettibile c'è da acquisire per compensazione ambientale quindi vale 0-2 poniamo che vale 0-2 e quell'area vale 0-2 se invece non ha potenzialità edificatoria cioè non ha potenzialità a creare crediti è 0 quindi da 1 va a 0 quindi paga come zona agricola ma se ha un po' di potenziale edificatoria da mettere a registro nel momento in cui è potenziale è sufficiente la potenzialità il fisco quando vede potenzialità non basta cioè non aspetta la la concreta la concreta attuazione specifico ad esempio che ad oggi dal punto di vista fiscale l'imposizione su di un'area verde o verde ambientale eccetera è inferiore rispetto a quella di un'area agricola dal punto di vista fiscale riguardano proprio casi di contenzioni tributari in ordine a questa tipologia perché ha citato della giurisprudenza mi pare prima segretario perché quello che un po' mi preoccupa come consigliere comunale appunto l'incertezza che mi pare purtroppo ci sia e non sia po' quindi lei conferma che si ha incertezza su questo materia grazie e qui ancora di più grazie passo alle risposte alle domande dell'architetto Giannelli allora in primis le risposte mi chiedeva l'architetto se le risposte sono state confrontate con gli uffici regionali sì le risposte sono state confrontate con gli uffici regionali in una successiva serie di incontri che sono stati precisamente undici e che sono riportati nella dichiarazione di sintesi questi incontri sono stati fatti tra gli uffici competenti e i professionisti e l'ufficio di piano e sono stati finalizzati a valutare e a controllare insomma quello che era la modalità di modifica della norma e degli elaborati al fine della loro rispondenza a quelli che erano i contenuti delle riserve regionali il lavoro quindi è stato puntuale e estremamente approfondito mi preme anche in questa fase far presente una cosa ovvero che il documento adottato con il piano adottato cioè il piano regolatore adottato a luglio di quest'anno poteva essere modificato solo attraverso due modalità una le riserve regionali e una le osservazioni dei cittadini che hanno necessità di però istruttoria per capire appunto la congruenza rispetto ai principi del piano adottato di conseguenza non era non vi è alcuna altra modalità di modifica dello strumento adottato se non successivamente con delle altre varianti ma in questa fase quello che poteva essere fatto era le modifiche del documento adottato rispetto a quanto contenuto nelle riserve o alle domande dei cittadini quindi nel momento in cui la regione ci ha chiesto di riportare la norma regionale noi nel momento in cui abbiamo accolto la riserva non avevamo possibilità o modalità di modificare la norma regionale se non quella di recepire la norma regionale e quindi di modificare gli elaborati congruamente a tutte le norme regionali sovraordinate che sono state riportate nella riserva questo è anche per dare già in sintesi ma poi gliela daremo nel dettaglio risposta a varie sue richieste dove ci chiede se abbiamo modificato gli indici di copertura o quant'altro o se abbiamo aggiunto degli elementi noi abbiamo potuto inserire solo elementi previsti nella normativa sovraordinata se la normativa sovraordinata dà determinati indici quelli sono stati riportati e non sono stati modificati perché magari hanno stati modificati nel piano e nella riserva chiedendone l'adeguamento alle leggi sovraordinate questo è stato fatto passo al secondo posso? ok diamoci una regola cioè lei mi dice tutte le risposte io poi le torno a dare o possiamo no su quello che no 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 ma su quello che lei ha detto io devo assolutamente dissentire glielo dico dopo eh no scusi scusi non è vero in sede di redazione del piano prima dell'adozione voi non avete fatto nessun incontro perché me l'avete detto è evidente a nessuno avete fatto i 11 scusi allora è evidente che dopo ci sono c'è una unica modalità per modificare il piano a seguito delle osservazioni opposizioni della regione e dei cittadini ma quando io vi ho chiesto all'inizio quando si fa il progetto si fanno delle revisioni anche informali si va in regione e si dice vorremmo fare questo 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 che ne dite lei mi ha risposto non abbiamo fatto nessun incontro adesso per farvelo approvare perché non mi roppano le balle ne avete fatti ben 11 allora c'è qualcosa che non mi torna o prima siete stati incauti per non dire altro oppure adesso siete pedisse qui per non dire arrendevoli per non dire schiavi di una regione che badate bene spesso e volentieri ha fatto delle osservazioni dal mio punto di vista improprie non condivisibili allora quando si fa un piano regolatore soprattutto soprattutto di tale portata innovativa si va in regione e si dice vorremmo usare i crediti come si dice volumetrici sì no se no la regione non avrebbe risposto la regione ribadisce che non è possibile limitare l'attività privata eccetera eccetera ma può farlo intervento queste considerazioni sono oppure intervento adesso lei ha fatto la domanda lei ha risposto non ci sono state riunioni ci sono state 11 non voglio ribadire che in sede di progettazione non c'è stata neanche una riunione adesso 11 le ripeto quanto l'abbiamo già detto in commissione noi di solito le procedure non ce le inventiamo ma facciamo quello che viene previsto dalla norma l'istituto come l'ha già risposto della revisione come la chiama lei non è visist tant'è vero non lo faccia neanche lei con me tant'è vero che per quanto riguarda il bando l'ha detto direttamente l'ingegner nel momento in cui siamo andati in regione col bando la regione ha specificato che naturalmente nelle sue competenze si esprime per quelle che sono le modalità e quindi avrebbe sicuramente fatto guardi dopodiché io alla sua domanda rispondo che ma consigliere lei dice voi con questo avreste dovuto fare cioè prende atto che non hanno fatto dopo nell'intervento spiegherà dove hanno sbagliato nessuno le toglie la possibilità ma facciamolo dopo adesso diamo la risposta a tutte le domande il consigliere Giannelli vuole sapere che cosa succede se non vanno se non andassero bene le risposte e quindi passo la parola all'architetto Giuliani per spiegare al consiglio quella che è una procedura che abbiamo già spiegato al consiglio e anche in commissione è già acceso eh non sento scusami allora nel caso che il consiglio comunale decida di approvare il piano e di inviarlo in regione sono possibili tre soluzioni primarie la prima è che il piano venga rivisto dalla regione rispetto a tutte le osservazioni che sono state fatte ma anche le osservazioni dei cittadini e le risposte ovvero le contribuzioni che ha scelto di dare amministrazione comunale che lo ritenga che le ritenga corrette e quindi il piano viene approvato pubblicato sul Bur e quindi da lì ha efficacia la seconda ipotesi è che la regione nell'esame post approvazione individui una serie di elementi che secondo lei non sono la risposta che lei ritiene corretta alle richieste che sono state avanzate sotto forma di riserve oppure che in sede di controdeduzione siano avvenuti nuovi elementi perché noi in sede di controdeduzione teoricamente dico noi nel senso di questo consesso più tutti i consulenti può aver introdotto in sede di controdeduzione quindi la regione adesso non lo sa ancora una serie di modificazioni nuove aree eccetera possono esserci state delle modificazioni tale per cui l'amministrazione regionale ritiene di approvare il piano chiedendo delle rettifiche obbligatorie quindi modificando di autorità il piano ammettiamo che ci sia faccio un esempio più banale possibile c'è un'area che è stata introdotta che la regione ritiene che sia sbagliata per un qualsiasi motivo ambientale carico urbanistico localizzazione impropria e decide di chiedere all'amministrazione comunale di toglierlo o meglio lo approva togliendo quell'area lì esiste un altro caso che naturalmente deriva dal fatto che la regione ritenga che le modifiche necessarie secondo il suo intendimento per avere un piano che risponda a tutti i requisiti siano talmente tante e complesse e una incidente sull'altra per cui non è possibile dall'esterno individuare uno specifico punto in cui eseguire una censura senza coinvolgerne degli altri per questo motivo la regione chiede rimanda al piano al comune affinché effettui le modifiche che secondo lei vanno fatte e lo e rifaccia la procedura che quindi è quella della del ripartire con l'adozione eccetera queste sono poi naturalmente ci sono invece le risposte che possono dare le amministrazioni che sappiamo sono essere il tribunale amministrativo ma anche la corte europea perché ci sono una serie di temi che sono particolarmente sensibili alla corte europea per cui ha dato sempre una giurisprudenza costante che è quella di opporsi a qualsiasi tentativo di non tenere in considerazione il rapporto ambientale o meglio il fatto che tutti i piani e i programmi in Europa devono essere sostenibili dal punto di vista ambientale che è anche quello che sostiene sommessamente il piano e che ha avuto da questo punto di vista un risultato positivo da parte di tutti gli enti che hanno competenze ambientali che hanno esaminato il piano stesso relativamente alla riserva 6 l'archeologia chiede il consigliere quali interventi siano ammessi sono stati integrati con quelli che sono previsti dalla soprintendenza ovvero qualsiasi alterazione morfologica dei interventi edilizia ammessi a qualsiasi alterazione morfologica del suolo e del sistema delle acque superficiali deve essere valutato dal punto di vista paesaggistico ed ambientale b nel rispetto di quanto sopra sono consentiti interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi ciclopedonali c non sono consentite nuove costruzioni ad eccezione di quelle necessarie a tutela e protezione dei reperti archeologici per quanto riguarda la procedura per quanto riguarda la procedura è quella prevista dalla legge ovvero la commissione urbanistica integrata del comune che esprime parere e lo invia alla regione che poi ha tempo per l'approvazione commissione edilizia integrata che poi invia il parere alla regione che ha 25 o 45 giorni di tempo per esprimersi per quanto riguarda la riserva 8A 8A il consigliere chiedeva quali sono le fasce di rispetto che sono state inserite le fasce di rispetto sono quelle previste dal PRITML scusate il giochetto di parole ovvero 60 metri per la viabilità extraurbana di primo livello soggettata a pedaggio 40 metri per la viabilità extraurbana di primo livello diversa da quella di cui al punto A 30 metri per la penetrazione per la penetrazione urbana per quanto riguarda il controllo degli accessi passo la parola all'architetto Moras se gliela danno sì ecco sostanzialmente sono quelli del piano regolatore vigente che prevede un'autorizzazione che prevede il rilascio di un'autorizzazione per l'apertura di nuovi accessi da fondi privati sì più avvicinato così ecco 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 adesso sì quindi allora dicevo 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 che sono quelli previsti dal piano vigente sostanzialmente perché non sono stati modificati di molto ed è prevista un'autorizzazione all'apertura di nuovi accessi quindi quelli esistenti vengono salvaguardati e mantenuti e quindi la regolamentazione è prevista solo per quelli nuovi quindi l'apertura di nuovi accessi privati sui seguenti tratti stradali rete stradale regionale di primo livello sulle penetrazioni urbane individuate dal piano regionale di infrastrutture via Roveredo e qui c'è l'elenco via Roveredo via via della Comina via Consorziale via Maestra Vecchia via Valle Venezia via L'Aquileia via Le Treviso via Nuova di Corva ci stiamo riferendo solo ai tratti esterni al centro abitato dovrà comunque essere subordinata la verifica del carico veicolare in relazione alla tipologia dell'intervento ecco questa è la è la norma in estrema sintesi per quanto riguarda la riserva 8b l'amministrazione comunale modifichi l'articolo 109 introducendo le risultanze dello studio sulla viabilità che a loro volta dovranno essere messe in correlazione con le prescrizioni di quel parere espresso il consigliere chiedeva se l'analisi incrementale del traffico viene fatta dall'amministrazione l'architetto Giuliani le risponde sì questa è stata una richiesta della riserva regionale e è anche comprensibile nel senso che uno in anticipo pur disponendo di una serie di destinazioni non può conoscere preventivamente gli impatti e questo inibisce il fatto che l'amministrazione faccia un controllo a priori infatti come voi sapete esistono due tipi di impatto uno è l'impatto che uno può stimare per una specifica attività ovvero destinazione d'uso e questo lei dice si può fare a priori lo può fare l'amministrazione prima di se c'è un'area in cui è meglio non mettere il commercio lo si può individuare attraverso un'analisi comparata tra i flussi le zone di interesse eccetera esiste tuttavia un altro tipo di valutazione di impatto che è la valutazione di impatto cumulativa se tu metti una media struttura di vendita va bene se ne metti vicina un'altra va bene se ne metti altre quattro non vanno bene perché la valutazione di impatto è cumulativa e è cumulativa soprattutto per quanto annette alla sfera commerciale da vari punti di vista per esempio l'analisi delle valutazioni di impatto della compatibilità urbanistica di una grande struttura annettono a tutti gli aspetti quello ambientale di impatto trasportistico ma anche di impatto sul commercio e sul numero di addetti e quando si fanno queste valutazioni viene calcolato il numero di nuovi addetti che sarebbero quelli dell'esercizio della nuova struttura ma anche le perdite di impiego che si ottengono per esempio negli esercizi di vicinato la fa la propone il soggetto e poi viene valutata l'amministrazione che fa la proposta se tu hai la settima media struttura di vendita devi vedere cosa succede unendo questa settima le altre sei che già ci sono cambia radicalmente è come essere in uno in un ascensore in due in un ascensore in 62 in un ascensore cambia ascensore non sale scusi l'esempio banale la fa il privato e viene valutata l'amministrazione comunale se c'è una zona commerciale in quella zona commerciale l'utilizzazione fondiaria è il 60% con quella utilizzazione fondiaria sai quanti metri quadri puoi fare di commercio non ne puoi fare di più il comune dispone lo studio in modo che il cittadino sappia già perché deve essere il cittadino a pagare io ne ho commissionati di studi anche all'ingegnero Onsel tanto per non andare lontane e costano un bucchio di quadrini dovrebbe essere il comune a dire in quella zona che abbiamo zonizzato così e così io so come si fa ecco ma non è questo il problema Gianelli lo so benissimo che su un'area c'è una certa capacità e quindi sai la volumetria e sai la struttura che avviene ma l'impatto non si fa solo su quell'area lì ma si fa valutando anche quest'area in rapporto a tutte le altre e tu non lo sai perché non sai quale a quel momento lì sono state realizzate no ma lo fai sulla massima utilizzazione il comune sa esattamente lungo quella strada quali attività ci vanno ma la massima utilizzazione è una cosa assolutamente relativa beh è flessibile l'assessore mi dice che non posso non posso non possiamo il tema è se ci metti l'IKEA è una cosa se fai una media struttura di vendita che vende bulloni triangolari che vanno bene in tutto il mondo per 18 ditte l'impatto è un po' diverso no perché se io so che lì ci può andare l'IKEA faccio un impatto per l'IKEA per il massimo non per il minimo scusa eh l'assessore che dicevi prima è calcolato per il carico massimo non per il carico minimo no è calcolato per un carico se tu ci metti di più se tu ci metti di più allora non va su e quindi però chi ha fatto l'assessore ha studiato e ha detto non più di 6 persone non più di 500 kg comunque in tutte le regioni si sta andando verso poi naturalmente si fa pagare al 5 mila no si fa pagare al 5 mila è una valutazione degli impatti cumulativi esatto esatto eh ma che devono essere fatti di volta in volta no 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 su un'asse stradale li puoi fare per quanto riguarda la riserva 9 nel centro commerciale all'ingrosso le destinazioni previste sono centro direzionale circuito doganale officine e servizi per gli operatori del trasporto sedi per operatori spedizionieri del trasporto centro logico per quanto riguarda il progetto coordinato dell'ambito 1 e 5 e la la trasformazione no la a livello regionale le destinazioni che sono previste sono queste per quanto riguarda la riserva 10 commercio al dettaglio il consigliere Giannelli dichiara che c'è una modifica complessiva invece è una solo una specificazione di quelle che sono le destinazioni possibili e tra queste visto che il piano regolatore acquisisce quanto già contenuto nel piano del commercio che è in vigore che è già in vigore a Pordenone ricordo che all'interno del centro storico il piano della grande distribuzione prevede 6.000 metri quadri a libera localizzazione proprio nell'ottica che qualora arrivasse una realtà entro il ring si il centro storico fa parte dell'entro ring è tutto dentro il ring ci sono 6.000 metri quadri di grande distribuzione che si possono allocare all'interno del ring quindi anche all'interno del centro storico e che nascono proprio per la volontà di poter acquisire qualora vi fosse la domanda di dar risposta anzi qualora vi fosse la domanda ad una grande distribuzione all'interno del ring e del centro storico per quanto riguarda la riserva 12C zone P4 chiede quali destinazioni d'uso le destinazioni d'uso sono uffici servizi tecnici amministrativi attrezzature ed impianti per la ricerca tecnologica centro di calcolo elettro contabile o elettronico a servizio anche non esclusivo di impianti produttivi e commerciali per quanto riguarda le modifiche di standard questi non possono essere fatte in quanto vengono recepiti gli standard previsti dalla norma sovraordinata per quanto riguarda la riserva 12E aviosuperficie passo la parola all'architetto Giuliani aviosuperficie aviosuperficie dunque il esiste un a nord di Pordenone esiste un aviosuperficie che è di carattere abbastanza cioè provvisorio perché è un aviosuperficie che per ora ha però una concessione esiste un intercomunale perché fa parte anche di sentire l'aviosuperficie viene individuata con una serie di norme da parte dell'ENAC le norme dell'ENAC non brillano per chiarezza noi abbiamo provveduto all'interno del piano adottato ad inserire i vincoli determinati dalla presenza dell'aviosuperficie che sono una zona entro il quale l'altezza è funzione dalla distanza della fine della 60 metri dalla fine della pista e ha una lunghezza che è determinata dalla lunghezza della pista e il rapporto dell'altezza massima è un trentesimo della distanza dal vertice dalla fine della pista al punto in cui tu fai il calcolo non so se è chiaro esiste devi fare no è semplicemente una misura meccanica tu calcoli l'area che sta all'interno della mappa a seconda della distanza dalla pista puoi salire e dalla zona di vincolo hai un certo fattore 300 lo dividi per 30 e quindi l'altezza è 30 metri ok ovviamente questa norma è stata richiesta dalla regione poteva essere anche tenuta all'interno della tavola del vincolo comunque è stato costruito questo articolo all'approvazione del piano verrà inviata all'enac per verifica come sempre si fa se ci saranno delle indicazioni su come meglio esprimere questo vincolo verrà fatta una specifica variante per quanto riguarda la 13.3 parametri urbanistici ed edilizi quali sono sono quelli riportati rispetto al testo unico dell'edilizia e e le leggi della regione nel senso che la regione ha specificato che vanno riportati pedissequamente nella dicitura quelli del codice dell'edilizia senza che il comune possa darne una libera interpretazione o un'integrazione per quanto riguarda il punto 13.4 ovvero la riserva 13.4 ovvero allora la riserva 13.4 parla del perimetro dei PAC ma mi sembra che la domanda che il consigliere abbia fatto è perché abbiamo continuato a identificare dei PAC sì non riguardo al perimetro giusto ecco perché le norme sovraordinate specificano che laddove ci sia una determinata indice di edificazione già presente sul lotto o in lotti liberi e quindi che non presentano edificazione non urbanizzati l'unico modo per prevederne l'edificabilità è quella del PAC ovvero della pianificazione indiretta per quanto riguarda la riserva 13.6 relativa al centro storico noi nella zona del centro storico di Pordenone attualmente abbiamo ancora in ancora in vigore due piani di recupero di iniziativa pubblica che sono il piano di recupero di Corso Garibaldi e il piano di recupero del centro storico all'interno della norma su riserva regionale è stato integrato l'articolato inserendo quelle che sono le classificazioni previste nei piani di recupero e che potranno essere modificate a seguito di modificazione o di ristesura dei piani di recupero stessi e quindi come nel piano di recupero del centro storico che è tuttora cogente per quanto riguarda la possibilità di intervento del centro storico sono riportate appunto coerentemente le destinazioni e le tipologie di intervento partendo dal presupposto che il piano di recupero del centro storico ha come obiettivo quello della salvaguardia del bene architettonico e di conseguenza punta particolare attenzione al suo mantenimento ciò nonostante già nella normativa sono previsti tutta una serie di interventi che però a seconda del grado di vincolo dell'immobile devono confrontarsi con la sopraintendenza e quindi a prescindere da quello che può essere l'indicazione normativa che l'amministrazione dà se il bene è vincolato è nel confronto con la sopraintendenza che si riesce o si dovrebbe riuscire eventualmente a ridurre l'impatto del vincolo su quella che è la possibilità di intervento del manufatto stesso per quanto riguarda e qui parlo specificamente degli ascensori dove l'amministrazione è da anni che sta sostenendo un privato nei confronti dell'amministrazione della sopraintendenza che non permette l'installazione di un ascensore ma siamo da anni che abbiamo questa interlocuzione con delle difficoltà estremamente significative 13.8 le zone H4 le nuove destinazioni d'uso 13.18 anzi pagina 41 grazie sono state previste e chiedeva al consigliere se è stato previsto un indice fondiario diverso rispetto a quello previsto in linea con quanto dal consigliere stesso suggerito in commissione anche in questo caso gli indici sono quelli della normativa sovraordinata e l'architetto Moras specifica il perché anche perché la riserva dice che la riserva dice che la zona H4 si ritiene che sia da sostituire il testo adottato con quello vigente quindi noi abbiamo preso il testo vigente così com'era e l'abbiamo riportato non potevamo fare diversamente anche perché non c'erano osservazioni o possibilità di modificare il testo normativo per quanto riguarda la riserva 13.35 dotazione parcheggi ridotta nelle aree servizi tecnologici un quant'altro e superficie fondiare aumentata al 40% anche in questo caso la riserva regionale non parla delle zone produttive in genere specifica che dal punto di vista della regione le zonizzazioni che per l'amministrazione riconoscevano le attrezzature per impianti di lavorazione cioè quelle che noi avevamo indicate come LI devono invece rientrare nelle D3.1 con una normativa specifica ma mi sembra che la sua domanda non fosse relativa a questo ma in modo generale a dei parametri delle zone D anche in questo caso i parametri sono quelli della legge sovraordinata cioè quelli indicati dal testo regionale sia per quanto riguarda le superfici che la dotazione di parcheggi per quanto riguarda la 13.38 13.38 parliamo degli ambiti di tutela del tracciato della Pontebana e qui passo la parola all'architetto Giuliani per quanto riguarda chiedeva il consigliere come si risolvono i problemi delle criticità ambientali è una specifica riserva regionale che chiede sostanzialmente una specificazione agli articoli che descrivono i criteri di salvaguardia della Pontebana a questa richiesta di precisazione noi abbiamo risposto modificando integrando la norma come ci sembra che possa funzionare meglio a noi sembrava funzionare perfettamente anche prima ma tant'è per quanto riguarda il 13.39 vincolo paesistico paesaggistico scusate su quali corsi d'acqua chiede il consigliere è stato posto viene posto su quelli che sono indicati dalla regione ovvero i fiumi torrenti corsi d'acqua e le relative sponde o i piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuno elencati nell'allegato C della quarta circolare esplicativa della legge regionale 52 del 91 come di seguito riportato fiume Meduna fiume Noncello roggia Rorai o Burida roggia Remegnoli roggia Cavallin roggia Codafora roggia Molini Pagotto collatore San Valentino o la Vallona e Canale detto la Peschiera roggia Filatura i terreni con termine e i laghi compresi in una fascia per una profondità di 300 metri dalla linea di Battigia anche per i torrenti territori scusate elevati sui laghi elencati nell'allegato B della quarta circolare esplicativa della legge regionale 52 barra 91 come di seguito riportati lago presso Villa Poletti lago presso il cotone edificio veneziano lago Tomadini lago Burida lago e Polle di Risorgiva a nord di via Bellasio io avrei concluso bene lei ritiene Assessore lei ha concluso chiedo ai consiglieri se c'è qualche altro chiarimento nessun chiarimento pertanto come sapete adesso apriamo la discussione un intervento per consigliere della durata massima di 30 minuti bene su quello che abbiamo appena solo sulle riserve regionali solo sulle riserve regionali sì sì consigliere Giannelli scusi c'è la discussione adesso in commissione capigruppo era stata espressa la possibilità di dare una prima parte di intervento dopo le riserve una seconda dopo le osservazioni è logico che se in consiglio si vuole partire con le osservazioni io inizio a leggere le osservazioni no scusi Assessore calma per specificare allora adesso si apre la discussione sulle riserve regionali ripeto ogni consigliere ha la possibilità di intervenire una volta sola per 30 minuti tempo massimo ho ricevuto la risposta da parte dell'assessore ma io ho chiesto un'interpretazione autentica da parte del segretario io ho appena chiesto ai consiglieri se sono soddisfatti delle risposte lei non c'era adesso lei mi dice che non è soddisfatto adesso sentirò l'assessore sono soddisfatto delle risposte dell'assessore che ha dato ma il segretario ho capito ho capito quindi qual era la domanda scusi bene risponde lei l'assessore un attimo un attimo dicendo che a seguito delle riserve regionali sono stati sviluppati tutta una serie di incontri con gli uffici regionali per la stesura delle riserve non vi è stata nella risposta alle riserve una modificazione di quelle che sono le strategie o gli obiettivi del piano che sono rimasti identici a quelli che sono contenuti come sono stati espressi nella delibera di direttive sono stati rappresentati in modo diversificato per rispondere a quelle che sono delle esigenze che non sono neanche indicate in norma da parte della regione ma che sono di consono uso alla regione stessa sarebbe stato la stessa regione a indicare l'eventuale necessità di riaduzione in tutto il lavoro che abbiamo svolto cosa che non è mai emersa e perché non c'è stata una modificazione degli obiettivi e delle strategie che sono stati splittati sono stati rappresentati graficamente e diversamente che hanno comportato all'aggiunta di alcune tavole perché la regione chiedeva una rappresentazione grafica ulteriore a metà tra il piano struttura per come l'avevamo disegnato noi e il piano operativo per come era disegnato e quindi questi sono gli elaborati redatti dopodiché in ogni caso il piano una volta se il consiglio lo vorrà approvato va in regione e la regione ha il suo compito nei 90 giorni successivi di valutare tutte le risposte ma quello che noi abbiamo fatto è stato fatto con un'interlocuzione costante della regione e come anche dichiarato come ho già detto dalla regione stessa fin dai primi incontri non era intenzione della regione mettere in discussione gli obiettivi o le strategie che sono stati che sono il corpus del piano regolatore bensì semplificarne la rappresentazione o la modalità di rappresentazione al fine di renderla più coerente più vicina a quelle che sono le modalità adottate dalla regione stessa bene grazie adesso il segretario darà risposta sono un tecnico non sono né architetto non sono né un avvocato cerco di fare con le poche competenze che ho di trarre tesoro da quanto leggo e se non capisco cerco di informarmi quando leggo sulle riserve regionali in conclusione si ribadisce la necessità di riverificare per ogni sistema ed ambito considerato la definizione degli obiettivi ovvero situazioni finali che si intendono raggiungere e soprattutto delle strategie modi e tempi per farlo che si intendono conseguire affinché la definizione del quadro degli stessi così come messo a punto dal piano risulti più aderente con il livello di approfondimento progettuale richiesto dalle normative e dagli strumenti di pianificazione territoriale di programmazione sovraordinati la ridefinizione del quadro ridefinizione ridefinizione del quadro dovrà pure risultare più coerente in conclusione dall'insieme delle considerazioni fin qui svolte nei confronti del quadro degli obiettivi e delle strategie così come delineato dal piano emerge la necessità di dover effettuare una sorta di ricomposizione degli stessi ricomposizione quindi ridefinizione e ricomposizione di obiettivi e strategie per uno degli ambiti che costituiscono i sistemi rappresentati nella leggenda dal piano struttura sia possibile direttamente ed agevolmente ad esumere gli elementi costitutivi seguenti corrispondente zona omogenea o categoria urbanistica prevista nell'assetto azonativo del piano operativo il significato che si intende attribuire agli obiettivi ossia alle situazioni finali che il piano si propone di conseguire il significato che si intende attribuire alle strategie ossia le modalità della tempistica per poterle attuare la tipologia della flessibilità ammessa ossia operativa o strutturale i criteri le modalità di trasposizione delle previsioni contenute soltanto nel piano struttura il grado di cogenza e quindi di invariabilità che si intende attribuire agli obiettivi ed alle strategie quindi le riserve regionali dicono ridefinizione e ricomposizione delle obiettive strategie quindi se non sono modifiche sostanziali richieste queste chiedo un'interpretazione autentica da parte del segretario rispetto al fatto che di fronte alle sollecitazioni sovraesposte questo piano regolatore debba essere riapprovato debba essere riadottato prima di essere riapprovato grazie se ne ha un'interpretazione autentica su quello che pensa l'attitudine io devo rinviare a lei poi la mia risposta allora devo dire neppure io consiglierlo perché sono un tec prima di fare la sostanzialità riguardo riguardo alla deliberazione nella deliberazione si vede notevolmente come sono delle modifiche sostanziali allora sulla natura di sostanzialità delle modifiche o delle ridefinizioni e composizioni del piano regolatore di questo piano regolatore quindi del documento tecnico che viene sottoposto al consiglio comunale per rispondere alle riserve regionali è un tema che è stato sottoposto al redattore noi abbiamo un redattore del piano abbiamo un redattore del piano quindi un tecnico perché è come parlassimo in realtà stiamo parlando di pianificazione ma è come parlassimo di un progetto è un progetto di fatto è un progetto non è un progetto di edificazione cioè di un immobile ma è un progetto di di proposta di gestione urbanistica del territorio e quindi il redattore può dirmi anche rispetto a come ha riscritto se è una semplice ricomposizione e quindi gli obiettivi sostanziali non cambiano ma sono solo meglio specificati e pertanto non necessita una riadozione io mi devo ottenere a quello che mi dice il parere di realità tecnica e il parere del progetto ma il consigliere Loperfi ha ricevuto la risposta adesso non sarà d'accordo però la risposta è questa perché probabilmente è un'altra emozione per loro e la prima è un'altra cosa significa per lui si se vuole prendiamo il vocabolario ma significa mica ricomposizione significa impacchettare in modo diverso no ricomporre e ridefinire significa precisare meglio dopodiché sul come se ridefinendo uno mi cambia gli obiettivi e voi mi dite che sta cambiando gli obiettivi se li cambia o incidono pesantemente devo ritirare il parere di legittimità non c'è sempre una valutazione della regione finale voglio dire non è che aspetta no silenzio ehi silenzio 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 basta stare calmi stiamo calmi per cortesia consigliere Bianchini non si preoccupi stiamo gestendo prego consigliere ragazzino guardi nel 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 parere che ha presentato lei questa mattina nel parere che ha presentato lei questa mattina si è soffermato sulla questione dell'osservazione dei cittadini dei privati mentre dopo il punto procedeva questo continuava questo il punto 15 della legge regionale 5 all'articolo 63 bis e dice qualora siano state formulate riserve della giunta regionale il consiglio comunale si pronuncia motivatamente sulle stesse e approva lo strumento urbanistico generale eventualmente modificato in accoglimento di esse ovvero decide la sua rielaborazione e questo l'abbiamo affrontato poi dice la riadozione comunque necessaria quando le modifiche da portare siano tali da incidere su obiettivi e sulle strategie quindi ci chiedono la ricomposizione e ridefinizione e secondo lei dopo che la giunta regionale dice dovete ridefinire e ricomporre lei non tiene in considerazione questo basta che lei mi dica per me va bene e noi ce ne prendiamo ne prendiamo atto allora chiedo al redattore del al redattore del piano dice un intervento quindi una precisazione sulla natura di questa ridefinizione e ricomposizione sì e dopo che ascolto ben prego che ascolto di nuovo prego vado prego ok dunque noi abbiamo letto molte volte le osservazioni alla prima riserva che è la riserva regionale sulla riorganizzazione del piano struttura e abbiamo fatto diciamo Toneguzzi a botta Toneguzzi dieci incontri undici incontri con i funzionari regionali per vedere quali erano i temi e questi incontri sono stati stimolati sia da noi ma anche dai funzionari regionali stessi e c'è una lunga corrispondenza di mail che quindi sono a disposizione che fanno vedere di cosa si parlava e naturalmente ci sono tutti gli upgrade delle varie soluzioni ora come lei sicuramente sa la componente strutturale la componente operativa del piano nella legislazione della Friuli si differenziano per il fatto che la componente strutturale non è cogente mentre lo è la componente operativa e anche per il fatto che c'è una una relazione necessaria tra la componente strutturale e la componente operativa per cui se davvero ci fossero stati gli elementi di non collegamento e non sincronia tra la componente strutturale e la componente operativa come ipotizza lei nel caso di necessità di una riadozione la regione l'avrebbe detto come prima cosa non sono state fatte non è stata fatta nessuna modifica di carattere strategico e per i seguenti motivi che è quello che lei ipotizzava come rischio e non è stato fatto per due motivi uno l'amministrazione comunale non può farsi dire gli obiettivi strategici da un altro ente per quanto importante e subordinato a garantire il corretto svolgimento dell'iter e dei contenuti di piano ma che non può sostituirsi all'autonomia comunale nell'individuare le strategie e quindi per partito preso le strategie vengono individuate a livello comunale il secondo motivo è che tutte le strategie erano già presenti all'interno del piano e sono state riorganizzate semplicemente in una tavola in scala 1 a 5.000 dove è stata fatta una specie di passaggio tra la piano strutturale e il piano operativo se infatti terza prova se fosse così come si dice cioè ipotizzando questo rischio la regione avrebbe chiesto di cancellare annullare la tavola della componente strutturale in scala 1 a 10.000 mentre ha detto che è da tenere e che si farà una specificazione sulla scala 1 a 5.000 per tutti questi motivi siamo concordi anche con i funzionari regionali noi non abbiamo registrato le conversazioni ma le mail lo dicono chiaramente e quindi è sicuro che non ci sono modifiche sostanziali anche perché l'amministrazione non voleva farle le modifiche sostanziali perché gli obiettivi del piano erano una cosa in cui l'amministrazione ha riconfermato la fiducia se posso dire una piccola cosa rispetto a questo tema che emerge tutte le volte non tutte le volte qua in tutti i piani che ho fatto in vita mia è che il contributo della regione della provincia dell'asra dell'arpa di tutte le aziende viene preso come un compito in classe con la correzione a matita rossa e a matita blu che è un criterio che può essere utilizzato per un compito in classe ma non può essere certo utilizzato per un elemento complesso come un piano che deve tener conto di un sacco di problematiche e cercare di portarle a compimento in maniera equilibrata è positivo che la regione faccia tutte le osservazioni e che ci dica le cose e non serve a nessuno e sarebbe una spesa pubblica inutile che la regione perdesse tempo a dire le cose positive che ci sono all'interno del piano dice quella che secondo lei sono i temi in più le riserve sono fatte di due aspetti uno sono degli articoli che si rifanno degli articoli di legge come tale sono abbastanza univochi due tutto il resto è interpretazione di persone e infatti le risposte sono la spiegazione di come il piano è stato sviluppato e quindi noi non possiamo utilizzare quello che dice la regione come dei meno e quando li dice positivi dei più perché tutti gli enti per risparmiare tempo ed energie dicono solo le cose che non vanno allo scopo di consentire a tutti di tenerne conto per migliorare e avere un piano più efficace questa è la realtà grazie 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 consigliere Loperfido con questo tipo di posizione e con quello che io ho visto non sono in grado di dire di veri elementi bisogna riadottare se non ho degli elementi degli elementi più profondi il dubbio leggendo all'inizio poteva venire ma dopo l'interlocuzione che hanno avuto gli uffici la corrispondenza non va in questa direzione e siamo comunque su una materia tecnica con la sua cioè che non ha dei guardrail così stretti lui conferma cioè che io non sono in grado di cioè non ho elementi in questo momento per ritirare cioè per dire no questa approvazione definitiva è illegittima perché bisogna riadottare va bene grazie signor segretario bene posso dichiarare chiusa la fase delle richieste di chiarimenti e delle successive risposte pertanto adesso passiamo alla discussione sul tema delle riserve regionali sulla base di quello che è stato poi illustrato dall'amministrazione bene vi invito pertanto ad iscrivervi per l'intervento consigliere Sperotto prego Sì ho mezz'ora di tempo ma diciamo ci metterò molto bene molto meno nel senso che anche l'ultimo intervento e comunque la mia anticipazione c'era anche un'anticipazione su quello che sarà un po' il il voto che verrà espresso su questa riserva sicuramente è un piano molto complesso e le riserve regionali rappresentano uno snodo centrale mi pare che ci siano dei punti assolutamente di snodo fondamentali che hanno indotto l'amministrazione ovviamente chi sta lavorando su questo piano a fare delle modifiche importanti io politicamente sono distante dal consigliere Loperfido però mi chiedo se sia più prudente fare un passaggio di una nuova riadozione del piano oppure assumerci il rischio di una aperta e chiudere virgolette bocciatura da parte della regione questo si è deciso di in parte ovviamente andare nella direzione che la regione ci aveva ci aveva segnalato e modificare in più punti questo piano regolatore inserendo ovviamente altri limiti inserendo altre norme cercando di adeguarlo e purtroppo temo anche dall'incertezza manifestata dalle ultime parole del segretario comunale che forse sarebbe opportuno valutare appunto mi ripeto l'opportunità di una riadozione la risposta cioè quello che ci sto pensando molto a questo piano regolatore io non lo vivo pur essendo un consigliere di minoranza non vivo questo passaggio con semplicità quando si adotta uno strumento urbanistico di questo tipo ci sono un sacco di investimenti che il Comune ha fatto ci sono degli sforzi cioè questa amministrazione ha lavorato si è lavorato tanto su questo piano però è meglio valorizzarli cercando di evitare qualsiasi inciampo anche pesante quindi con la massima strategia di prudenza oppure è meglio andare avanti fino alla fine e dopo ci troveremo una bocciatura che peserebbe molto sia se ci fosse una prosecuzione di una maggioranza politica che è come quella attuale sia se la maggioranza politica dovesse essere diversa nel senso che questo piano ovviamente non verrà poi realizzato e messo in atto da questa amministrazione ma da un'altra quindi dobbiamo decidere con degli strumenti che abbiamo in mano in questo momento che non sono di certezza perché purtroppo abbiamo dei profili di incertezza cioè abbiamo un parere legale comunale su una riserva regionale cioè vale a dire che l'amministrazione ha deciso perché si ritiene forte dal punto di vista giuridico di non adeguarsi a quello che in qualche modo la regione ci diceva può essere assolutamente legittimo la maggioranza servirà a questo però rimangono dei profili di incertezza tali secondo me da valutare una prudenza se leggo la risposta le prime pagine alle riserve regionali dire che siano semplicemente delle riserve che riguardano che hanno indotto l'amministrazione a spiegare meglio il proprio piano mi sembra purtroppo molto molto riduttivo rileggendo si dice si ricepisce le riserve regionali si modificano gli elaborati relativi alla componente strutturale del PRGC apportando la seguente integrazione quindi noi non stiamo parlando di spiegare meglio abbiamo apportato delle integrazioni adeguamento delle tavole CS19ABC riguardante la componente strutturale riorganizzazioni riorganizzazione degli obiettivi strategie di piano e loro esplicazioni elaborato CS19D riorganizzazione della relazione generale per la parte riguardante la componente strutturale nelle seguenti componenti territoriali scala intercomunale scala metacomunale scala comunale subcomunale solo a leggere questo si capisce che evidentemente non solo di spiegazioni tutto il lavoro che è stato fatto dopo le riserve regionali si è trattato a giustificazione del fatto che l'amministrazione comunale intende comunque proseguire e adottare e votare appunto queste riserve in senso positivo ci viene riferito di passaggi interlocutori con gli uffici regionali che sono assolutamente legittimi e anzi aggiungo doverosi sui quali però ovviamente nessuno potrà darci nessuno abbiamo ancora troppi margini di incertezza sono state inserite tralasciando gli aspetti che riguardano appunto le riserve 7A e 7B di cui si è già parlato molto dei veri e propri ulteriori limiti nei confronti di soggetti privati ad esempio inserendo per quanto riguarda le fasce di rispetto rispetto ai tratti stradali rispetto al piano adottato abbiamo inserito di nuovi limiti di nuovi parametri per cui abbiamo inserito delle nuove normative 60 metri per viabilità estraurbana 40 metri per la viabilità estraurbana nel primo livello diverso da quella di quel punto A 30 metri per le penetrazioni urbane le suddette fasce di rispetto sono state ridotte della metà di fuori centri abitati per le zone previste come edificabili del presente piano mentre è stata confermata l'assenza all'interno dei centri abitati ecco un soggetto privato che rispetto al piano adottato si trova a questa misura ovviamente avrà cioè su questo soggetto inciderà molto questa modifica non si può dire che sia una modifica esplicativa o di interpretazione è una modifica sostanziale e oppure andando avanti rispetto alla riserva numero 8 ai fini dell'apertura di nuovi accessi dovrà essere attivata una verifica del numero e della reciproca a distanza degli stessi e ovvero possibile si dovranno individuare soluzioni per il loro coordinamento e razionalizzazione ai fini della sicurezza stradale proseguendo ce ne sono ce ne sono molte di questi interventi per cui io ribadisco per prudenza e comunque dovendo sicuramente dire che di lavoro qui ce n'è e ce n'è stato tanto ritengo che su questo punto andrebbe ci dovrebbe essere un atteggiamento di prudenza e pertanto preannunciando già il mio voto e il voto del gruppo sarà un voto contrario su queste riserve grazie grazie consigliere Sperotto consigliere Cabibbo prego grazie presidente il collega Sperotto ha già introdotto alcuni degli argomenti forti che riguardano le osservazioni non le osservazioni ma in modo particolare appunto le riserve regionali vincolanti io ovviamente non ho la presunzione di intervenire dal punto di vista tecnico ma credo che nessuno possa farlo e nessuno possa mettere in dubbio anche la redazione di questo piano regolatore dal punto di vista tecnico e quindi come ho fatto nel momento in cui c'è stato presentato questo piano regolatore così come credo poi rientri nelle prerogative del consigliere comunale e del consiglio comunale sottolineerò alcuni aspetti di tipo politico che però emergono da queste indicazioni che arrivano dalla regione intanto premessa di carattere generale è che noi ci troviamo a due mesi dalle elezioni ancora con una procedura in corso che vorrebbe e sottolineo il condizionale vorrebbe giungere all'approvazione di un piano regolatore allora già questo è un fatto direi grave dopo quasi cinque anni di amministrazione arrivare così diciamo in zona cesarini a 30 giorni dall'apertura della campagna elettorale mi pare già un segnale di grande e grave debolezza di chi ha gestito questa misura che non è una misura di poco conto non è una delibera non è un bilancio ma è un atto che dovrà nelle intenzioni condizionare la vita della città nei prossimi anni per le prossime generazioni direi quindi arrivare in questo modo così veloce costringendo a tre riunioni di fila in tre giornate consecutive il consiglio comunale ma soprattutto così a ridosso delle elezioni credo che non sia sicuramente né un bel segnale per la cittadinanza ma né neanche un bel segnale di come nasce e di come andrà a finire questo piano regolatore tra l'altro sommerso da indicazioni provenienti dalla regione vincolanti nonché da osservazioni dei privati cittadini detto questo c'è un altro aspetto politico che non possiamo non rilevare in questa fase del dibattito e cioè che a pagina 93 seguenti della relazione di piano sono indicate le cosiddette invarianti cioè quelle direttive fondamentali obbligatorie per legge che devono tracciare il disegno del piano regolatore quindi i punti fondamentali i pilastri su cui il piano regolatore che viene presentato poi nel dettaglio tecnico si fonda queste invarianti sono quattro qui poi Assessore mi correggerà se sbaglio ma penso alle quattro gambe di un tavolo o se vogliamo alle quattro colonne portanti di un tempio il primo il non consumo del suolo quindi l'obiettivo di non consumare ancora suolo per la costruzione l'aumento della sicurezza terzo punto la salvaguardia ambientale e quarto punto la cooperazione sovracomunale ebbene di queste quattro gambe di questo tavolo immaginario che è il piano regolatore la regione con la riserva numero uno interviene in maniera piuttosto pesante e direi anche passatemi il termine in maniera politica con un significato cioè che travalica i tecnicismi di un piano regolatore tanto da sostanzialmente spazzare via quella che doveva essere la quarta gamba di questo tavolo e allora mi chiedo se un tavolo con tre sole gambe può continuare a stare in piedi credo proprio di no allora al di là della risposta del segretario generale al di là delle cose tecniche io devo citare perché qui nella documentazione che ci è stata consegnata anche in in commissione quindi rispetto alle risposte alle riserve regionali vincolanti viene riportata solamente la parte finale però la regione sulla riserva numero uno scrive mi pare all'incirca sei pagine di osservazioni e di relazioni e dice come considerazione conclusiva sugli obiettivi e sulle strategie si ribadisce la necessità di reverificare per ogni sistema ed ambito considerato la definizione degli obiettivi cioè le situazioni finali che si intendono raggiungere e soprattutto delle strategie modi e tempi per farlo che si intendono conseguire come riportati nell'elaborato relazione generale come citavo prima affinché la definizione del quadro degli stessi così come messo a punto dal piano risulti più aderente con il livello di approfondimento progettuale richiesto attenzione dalle normative e dagli strumenti di pianificazione territoriale e di programmazione sovraordinati quindi qui si parla la regione dice necessità di riverificare definizione degli obiettivi e delle strategie che devono essere più aderenti alle norme e agli strumenti di pianificazione continua la regione la ridefinizione del quadro suscitato dovrà pure risultare più coerente sia con la identificazione di tutti gli elementi territoriali esistenti e di sviluppo puntualmente rappresentati nel piano struttura sia con l'approccio delineabile dalla legge regionale 2007 per i piani che si intendono interpretare con maggiore pienezza la potenzialità struttura trattasi infatti degli strumenti urbanistici che costituiscono un progetto di sviluppo territoriale di più ampio respiro di prospettiva temporalmente quantitativamente svincolato dalla programmazione decennale propria del livello operativo io queste parole le interpreto nel senso di una critica al fatto appunto che manca un ampio respiro una prospettiva temporale e quantitativamente svincolata da quella che può essere la programmazione del livello operativo e quindi una critica seria importante sotto il profilo politico la regione continua dicendo si ravvisa la necessità di rendere più esplicito il grado di cogenza e quindi di invariabilità degli obiettivi e delle strategie nell'assolvere il ruolo di quadro territoriale a cui riferirsi per gestire il campo di determinazione sia della fase preliminare di revisione ad aggiornamento del piano sia di quella interna alla procedura di approvazione quindi non è nemmeno chiaro quale sia il grado di cogenza in conclusione nei confronti del quadro degli obiettivi e delle strategie così come delineato dal piano dice la regione emerge la necessità di dover effettuare una sorta di ricomposizione degli stessi cioè la regione nella riserva numero uno vi dice cara amministrazione comunale di Pordenone qui non si tratta di apportare degli aggiustamenti delle modifiche di tipo tecnico ma si tratta di riverificare strategie e definizione degli obiettivi la regione utilizza termini come emerge la necessità di dover effettuare una sorta di ricomposizione degli obiettivi e delle strategie e quindi è chiaro che in modo particolare poi questa riserva numero uno che viene appunto anche riportata nelle risposte che poi il comune tenta di dare dice che si formula una riserva di carattere generale e sottolineo la parola generale proprio perché si riferisce a quella parte generale del piano che riguarda appunto le invarianti che dovrà portare il comune a specificare ed integrare gli obiettivi e le strategie riferite a tutti gli elementi territoriali rappresentati nel piano struttura nonché ad esplicitare il grado di invariabilità degli stessi e a superare i rilievi puntualmente evidenziati vuoi nei confronti della loro rappresentazione vuoi nei confronti della loro sostenibilità vuoi infine nei confronti dei limiti di invariabilità nei termini di seguito riportati eccetera eccetera allora questa riserva numero uno è una riserva importante che ha un carattere politico perché sostanzialmente vi dice guardate che una delle invarianti di quei quattro pilastri e cioè la cooperazione sovracomunale così come l'avete scritta pensata e fatta non sta in piedi dovete ridefinirla completamente allora io mi chiedo come si fa a dire che qui noi oggi possiamo approvare un piano regolatore valido alla luce di queste indicazioni direi molto molto chiare della regione io credo che chi si assume la responsabilità di votare questo piano regolatore dovrà pensarci molto bene perché è un piano regolatore che sulla base di un documento di un atto ufficiale quindi non di quello che dice consigliere Cabibbo ma di un atto ufficiale della regione previsto dalla legge io non credo che possa essere considerato regolare sotto un profilo prettamente anche amministrativo e che in caso di ricorso potrebbe potrebbe portare addirittura all'annullamento del piano regolatore e di tutta e di tutta la procedura anche perché è la stessa legge regionale la numero 12 del 2008 citata ovviamente nel testo della delibera che all'articolo 63 bis dice esattamente questo articolo 63 bis comma 15 qualora siano state formulate riserve dalla giunta regionale o siano state presentate opposizioni e osservazioni sullo strumento urbanistico generale il consiglio comunale si pronuncia motivatamente sulle stesse e approva lo strumento urbanistico generale eventualmente modificato in accoglimento di esse ovvero decide la sua rielaborazione la riadozione è comunque necessaria quando le modifiche da portare siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3 lettera A obiettivi e strategie la regione dice e parla appunto di ridefinizione degli obiettivi di riverificare le strategie allora secondo il sottoscritto noi siamo in questa parte della norma quella cioè che prevede che nel caso in cui le modifiche da portare siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie per i motivi che vi ho citato la riadozione è comunque necessaria e quindi questo piano regolatore non può passare qui o domani o dopo domani ma deve essere riadottato e questo ripeto al di là delle questioni tecniche che anche il collega Loperfido ha già ben sollevato in precedenza ma proprio anche sotto un profilo politico e amministrativo perché se togliamo una gamba da un tavolo che ne ha quattro e che sono le quattro invarianti non è che il tavolo traballa il tavolo cade grazie consigliere cabibbo bene nessun altro iscritto perciò consigliere piva prego grazie presidente io stamattina ascoltando attentamente più o meno insomma tutto questo tipo di discussione sul piano regolatore sulle osservazioni della regione per il piano regolatore devo dire che mi ha veramente soddisfatto nel vedere una competenza così forte da parte di tutto il Consiglio diciamo dall'opposizione i quali nei loro interventi sembra che sia cambiato un po' il mondo anche chi non capisce niente di architettura o di ingegneria però ha una competenza fantastica su quello che sono le situazioni che si devono creare o obiezioni sul piano regolatore io sono convinto di una cosa chi ha preparato il piano regolatore quindi diciamo lo studio di professionisti qua dell'architetto Giuliani non sia un dilettante cioè che abbia avuto modo di fare altri altri piani regolatori non so volevo chiedere per caso c'è stato qualcuno che ha protestato perché non andavano bene architetto voglio dire è giusto fare un po' di opposizione ma mi pare che insomma andare a fare opposizione su cose che forse non si capiscono tanto bene perché essendo non una materia attinente all'attività lavorativa di ognuno di noi diventa un po' difficile in definitiva poi pretendere che questo consiglio non deliberi una situazione di questo genere non la deliberi perché c'è il timore che possa essere bocciata dalla maggioranza beh allora non si dovrebbe presentare nessuna delibera perché ogni volta c'è la possibilità che la maggioranza bocci questo insomma credo che in questo modo non è costruttivo ma è qualcosa insomma di dire contro contro a tutti i costi io per conto mio non conosco bene la matematica anzi direi che non la conosco per niente però però sono certo non so Riccardo se tu sei un esperto sei un architetto non lo so ho capito probabilmente avrei fatto il piano regolatorio da qualche parte insomma ma comunque anche se ci sono degli esperti credo che bisogna credere e avere fiducia diciamo in un'azienda che fa i piani regolatori e ne ha fatti parecchi se io ho un problema di salute non è che vado da un laureando in medicina vado da uno specialista perché sicuramente mi dà delle risposte migliori allora se tutte queste cose sono fatte solo per fare una critica politica e non è assolutamente diciamo disdicevole questo però bisogna capire che è una critica politica non è una critica fattiva quindi voglio dire andiamoci piano con questo tipo di situazioni perché mettiamo in discussione anche le qualità e le capacità di chi fa piani regolatori da molto tempo quindi ragazzi credo che dobbiamo avere un'analisi ben diversa soprattutto a limite dei chiarimenti devono essere su quale funzione e cosa può essere che viene messo in discussione ma questo lo deve dire lo studio di professionisti insomma noi che di conoscenze specifiche di questa materia c'è l'architetto Giannelli Pedicini che non vedo per cui gli unici che potrebbero dare qualche risposta diciamo abbastanza per cui ecco credo che dovremmo attenerci tutti a un indirizzo positivo di quella che è poi l'azione che farà la maggioranza con la costituzione e con l'avvio del piano regolatore ecco e comunque sarà sempre un lavoro un frutto un prodotto che verrà che sarà a disposizione della città per renderla più godibile per renderla più attraente anche se qua sembra che ci sia un lager per porto in onda perché nessuno invece non è vero la città è viva e lo sarà ancora di più godibile e attraente quando andrà in vigore piano piano il piano regolatore grazie Presidente per fatto personale no non è anche per no 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 adesso do la parola al consigliere Daniele non c'è fatto no no ho ascoltato allora sì allora ho ascoltato perfettamente bene allora come ho valutato i vostri interventi solamente dal punto di vista politico giustamente dell'opposizione così l'intervento del consigliere Piva era dal punto di vista politico non potete prendere come una questione personale non può dire che noi abbiamo fatto una questione basata su niente quando abbiamo citato le riserve di domani infatti no 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 ma non ha detto ma non ha detto questo scusi non ha detto questo non ha detto questo non ha detto questo il consigliere Piva no no parlava dell'aspetto dell'aspetto tecnico del contenuto del piano non delle questioni di di legittimità o quello non mi sembra l'abbia detto nulla perciò che fatto personale poi scusi il consigliere Picciano lei non è neanche mai intervenuto perciò proprio nei suoi confronti non ha detto niente consigliere Daniello comunque lei dopo interviene e può dire interverrà prego grazie grazie presidente devo dire che non avevo gran che voglia di intervenire sugli aspetti perché non sono una tecnica ma non l'ho presa brava sì non l'ho presa come una questione personale l'intervento del collega Piva ma lo lo vedo come una nota e un intervento stonato allora anche se non siamo dei tecnici collega Piva qui facciamo politica e ognuno interviene politicamente adottando le proprie posizioni tu le tue e quegli altri e l'opposizione avrà i suoi metodi i suoi contenuti quindi non serve non serve criticare che cosa abbia detto l'opposizione perché mera opposizione o altro i contenuti vanno vanno rispettati quindi io farò un brevissimo intervento che varrà anche come dichiarazione di voto non vedo non vedo l'opportunità che a due me scusi consigliere siccome è già la seconda volta che lei è il secondo consigliere di dichiarazione di voto ma noi non votiamo poi alla fine della discussione che sia chiaro questo non si vota alla fine di tutto si si ecco no perché non vorrei ci fosse questo e questo da aspettare eh no 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 si si voterà alla fine si vota alla fine si vota alla fine comunque questo il piano regolatore doveva essere mi ricordo bene l'interventa del sindaco nel in un giornale locale dicendo io a fine mandato presenterò il piano regolatore e lo devo portare a casa però eh sindaco siamo un po' ristretti con i tempi perché a due mesi dalle elezioni portare a casa un piano regolatore che ancora non ha ricevuto l'ok definitivo dalla regione mi sembra un po' stretta come eh carta d'identità anche perché eh mi pare che siamo un po' in affanno su queste questioni perché i quattro punti fondanti di questo piano regolatore che sono il non consumo di suolo la salvaguardia ambientale la sicurezza e la cooperazione sovracomunale da quello che ho potuto leggere perché leggo l'italiano anche se sono opposizione piva non eh non sono molto chiari proprio da parte della risposta delle risposte della regione stessa non ci sono noti né tempi né strategie per eh perché siano eh queste aderenti a norme e le possibilità di questi quattro punti vengono a mancare in questo piano i colleghi prima precedenti a me come opposizione hanno evidenziato già eh la terminologia tecnica del dubbio almeno su quanto riguarda la valutazione alla fine che potrebbe essere quella eh regionale giustamente il collega eh Sperotto eh si è posto una domanda e vi ha posto una domanda cosa faremmo se dopo eh la regione non accoglierà a pieno le valutazioni e la rivisitazione perché da quello che ho capito questo non sono modifiche non sostanziali che avete apportato ma sono una è una sostanziale revisione rimodulazione e ricomposizione del piano regolatore che doveva essere appunto la carta identità di questa di questo quinquennio e quindi i miei dubbi sono sulla effettiva validità non tanto sul lavoro che ha effettuato lo studio di professionisti che avrà sicuramente fatto altri piani regolatori e ahimè è guai se non li avessero fatti ma è buon per loro però il dal punto di vista politico che cosa vi portate a casa un nulla di fatto di fatto un nulla di compiuto di fatto non ci sono i tempi non ci sono i tempi e le azioni da da che vi sono stati chiesti anche dalla regione quindi cosa fare di questo piano e di queste osservazioni alle 169 osservazioni che sono state fatte ahimè è un è un brutto è una brutta uscita è una brutta uscita dal punto di vista politico soprattutto grazie grazie consigliere Daniello consigliere Piccinato prego grazie presidente no io rispondo un attimo al collega Piva perché assolutamente non vorrei essere proprio volgare per cui mi conterrò però 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 diciamo che ha esagerato perché perché nel messaggio che ha fatto passare che qui dentro salvo i due architetti gli altri sono tutti ignoranti quindi anzi probabilmente anche gli architetti perché non sono perché anche gli architetti che non fanno esattamente il piano regolatore quindi non conoscono le procedure nel dettaglio quindi non sono assolutamente sul pezzo devono star zitti loro e figurarsi gli altri evidentemente per il nostro collega Piva soltanto i premi Nobel forse possono parlare perché magari anche loro in qualche materia in qualche specifico dettaglio potrebbero essere ignoranti quindi devono tacere anche loro quindi ma mi chiedo collega Piva come fai a dire che gli interventi dei tuoi colleghi come hai fatto a dire che gli interventi dei tuoi colleghi sono ignoranti se nemmeno tu dici di essere in grado di conoscere la materia perché se non conosci la materia come fai a valutare gli interventi degli altri no io ti chiedo questo perché evidentemente stai dando dimostrazione di come uno parla ma senza proprio sapere ecco perché visto che qui noi ci prendiamo la responsabilità del nostro voto allora dovremmo dire la nostra poco o tanto che sappiamo diciamo la nostra e allora o dobbiamo prendere criticamente un verbo e andare giù come le capre a seguire quello lì no non è così poco o tanto che sappiamo cerchiamo di confrontarci e di capire nel meglio possibile la materia quindi altrimenti si prenda si dica il consiglio comunale non serve non si voti decide il tecnico festa finita tutti contenti sarai contento tu ma io forse no perché non facciamo un buon servizio tornando al di fuori della polemica che veramente è stata una cosa che ho ritenuto sia da cittadino che da consigliere comunale di non poter accettare ma andando a parlare giusto due minuti perché i colleghi che mi hanno preceduto hanno già fatto degli ottimi interventi e quindi ribadisco e rimarco perché rimanga anche gli atti che condivido assolutamente la questione della tempistica ritengo che si sia veramente ridotti all'ultimo non dando un buon servizio alla città nel senso che esemplifico quello che sto cercando di dire che se appunto ci si accorgesse se c'è qualche problema di fondo con le riserve regionali ecco che allora si dovrebbe rimandare l'atto il che diventerebbe un grosso problema per l'adozione e quindi per evitare questo la mia impressione è che alla fine poi l'amministrazione cosa farà? Imporrà criticamente l'adozione di tutte le osservazioni della regione senza valutarle alla fine senza neanche dire in maniera effettiva ma questa è una cosa buona questa è una cosa cattiva tra virgolette per restare terra a terra quindi l'impressione che non venga fatta un buon servizio alla cittadinanza con una valutazione dettata dai tempi opportuni ma piuttosto dalla fretta che è sempre una cattiva consigliera e quindi avere costantemente una spada di Damocle puntata sulla testa per dire comunque dobbiamo fare così non garantisce che venga fatto un buon risultato poi già nella volta scorsa io avevo detto in parere politico mio personale riguardo a quello che penso di questo piano ma avremo modo di parlarne ancora però ribadisco che il fatto che ci siano state che abbia visto anche così tante opposizioni o comunque richieste da parte dei cittadini sia un segnale molto importante del fatto che comunque la città si sia posta innumerevoli domande abbia posto innumerevoli questioni che poi vedremo con l'assessore insomma se saranno risolte se saranno sorpassate se ci sarà modo di migliorare la situazione insomma delle preoccupazioni dei cittadini certo è che forse un percorso un attimo preso con una tempistica migliore avrebbe dato o potrebbe dare un risultato migliore grazie grazie consigliere consigliere dalmas prego intervengo perché mi hanno detto che qua i capi che ho qui che devo intervenire no no una materia la conosco pochissimo prima l'architetto Giuliani mi pare che abbia detto sostanzialmente c'è un'autonomia semplicemente per rientrare un po' sul vexata questi o sollevata dalle opposizioni in ordine alla necessità di riadottare o meno il piano regolatore a seguito delle riserve della regione di un'azienda allora mi pare che ci sia giurisprudenza che dica benissimo in questa regione che il piano urbanistico il piano regolatore generale del comune lo strumento urbanistico non è del comune è un processo un procedimento formazione progressiva che vede anche la compartecipazione della regione la regione non esercita caro professor Giuliani un ruolo meramente di controllo partecipa all'adozione e perciò anche all'approvazione l'adozione e l'approvazione sono del comune ma sostanzialmente la regione ha un potere sostitutivo mi spiace che non ci sia il segretario generale qui agli unde e miglioratamente rappresentato dal vice segretario perché la questione sollevata su che cosa e in che modo avremmo dovuto procedere era semplicemente risolvibile col potere sostitutivo della regione in quanto i commi 15 16 17 18 dell'articolo 63 bis della legge urbanistica regionale 23 2007 numero 5 dicono chiaramente che c'è un potere sostitutivo della regione il presidente della giunta regionale interviene con delibera di giunta e fa quello che il comune non avrebbe fatto secondo la regione quindi questa discussione sulla necessità della riaduzione è una discussione interessante per le opposizioni gestita in modo un po' deve essere anche un po' più pregnante da parte vostra semplicemente perché io ritengo che la lettura della norma regionale sia assolutamente chiara per cui il comune può dire quello che vuole in sede di riaduzione o semplicemente sull'approvazione delle riserve su un parere motivato come lo scrive qua si pronuncia motivatamente sulle riserve ma se alla regione non sta bene interviene e si sostituisce questo mi pare assolutamente chiaro il che fa decadere qualsiasi cogenza o pregnanza del concetto di che oggi qualcuno cercava di sostenere in ordine alla cosiddetta necessità della riaduzione voi avete detto che esiste un carteggio uno scambio di intenti e di mail con le amministrazioni regionali e i servizi competenti in ordine allo svolgimento sostanzialmente di queste riserve io ho ascoltato questa mattina l'illustrazione dell'assessore sostanzialmente una persona dotata di buon senso non può che fidarsi di ciò che viene detto ciò che è stato detto perché noi non abbiamo strumenti che ci permettano non so gli altri colleghi dell'opposizione se ce l'hanno ma strumenti che ci permettano di verificare quanto detto da voi cioè che l'andamento sulle riserve della regione avrebbe sostanzialmente un placet da parte degli uffici regionali io sono portato a credere che sia così sono portato a credere che sia così non credo che insomma un'amministrazione regionale pensi di così bocciare sonoramente o non dare efficacia esecutiva al piano anche per ragioni che sono come dire politiche ci sta assessore no? ci sta nella forzatura che avete fatto quella di arrivare all'approvazione all'adozione di un piano regolatore generale strumento urbanistico per eccellenza del comune in un quadro normativo in evoluzione qual è quello della regione Friorezza Giulia sulla in ordine all'applicazione delle UTI che quantomeno e vedremo l'applicazione di queste cose il combinato disposto di queste norme anche dopo le pronunce del TAR che sono annunciate nei prossimi giorni perché è evidente che la pianificazione urbanistica non può non tener conto ciò che sta intorno a noi non può non tener conto della filosofia che ispira la vostra amministrazione e che ha ispirato anche la stessa amministrazione regionale al momento in cui dice che insomma bisogna superare piccoli comuni bisogna procedere all'aggregazione più vaste e quindi bisogna riorganizzare di conseguenza il territorio quindi sarà un buon banco di prova anche questo cioè capire come mettete insieme come si metteranno insieme insieme queste cose sugli aspetti generali vabbè io appartengo a una minoranza di una riserva indiana che è favorevole al consumo di suolo e lo dico perché ritengo che intorno a questa ideologia ben pensante ben figurante o ideologia dei beni comuni bene comunista in realtà ci sia il concetto che noi siamo così belli che possiamo descriverci un mondo sempre migliore dove non si consuma il suolo tutto fantastico tutto magnifico in realtà questo è per pochi è per pochi e sarà per pochi ci sono delle osservazioni qui vado fuori dal tema sono state portate poi le affronteremo nella seconda parte di questo di questa giornata di questa sessione consigliare e sono quelle provenienti dagli operatori economici dai costruttori che dicono chiaramente che voi avete pensato un piano per ricchi avete pensato un piano dove dobbiamo avere la macchina più bella la 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 casa più bella la classe energetica per eccellenza con costi tutti da verificare dove il collegio costruttori vi dice ma dove vivete siamo a Pordenone non siamo nel centro o nel salotto buono di Milano ecco perché intorno al concetto sostenibile apprezzabile del non consumo di suolo in realtà si cela un meccanismo molto selettivo un meccanismo che premia chi già ha più degli altri e fondamentalmente non consentirà ciò che è necessario per questa città lo diceva bene Giannelli il candidato moderato di queste elezioni comunali quando ha detto abbiamo bisogno di tutto e abbiamo bisogno anche di tutti quindi non possiamo non tener conto di ciò che hanno detto e lo vedremo in seconda parte i costruttori gli operatori e poi c'è un'altra questione grande enfasi non so se rientri nelle invarianti perché stiamo parlando di cose abbiamo affrontato a luglio dello scorso anno piano regolatore generale però c'è questo tema del fabbisogno abitativo che improvvisamente viene scoperto per 15 anni questa amministrazione comunale non sapeva neanche cosa fosse il fabbisogno abitativo e credo sia stato necessario un intervento molto puntuale con tanto di convegni e di pubblicazioni fatto dall'amministrazione provinciale per spiegarvi che cos'è il fabbisogno abitativo e la fotografia del fabbisogno abitativo nella nostra città dà uno spaccato drammatico drammatico fosse un termine eccessivo comunque preoccupante noi non siamo una città che cresce in residenti ma diminuisce in residenti in base all'ultimo censimento del 2011 di oltre mille unità cresce il numero delle famiglie cresce il numero degli anziani in modo esponenziale over 65 e cresce ed è cresciuto il numero è la percentuale degli stranieri esistenti nel nostro paese soprattutto nella città di Pordenone quindi non abbiamo avuto meno pordenonesi che stanno a Pordenone e hanno scelto di investire la propria casa la nuova casa nei territori di Mitrofi Pordenone Sporcia Fiume Veneto no? magari dove mi è più facile portare i bambini a scuola dove mi è più mi costa meno l'abitazione ce l'ho già in classe energetica adeguata no? quindi c'è un tema che è importante io non so se voi avete la sicurezza con questa forzatura che state facendo cioè di arrivare a fine del consiglio con un piano regolatore approvato di risolvere quello che è il problema numero uno in questo momento cioè il fatto che questa città non è attrattiva non lo è stato non è colpa di Pedrotti ben si intenda non è colpa di Pedrotti probabilmente le colpe stanno prima stanno nel momento in cui abbiamo fatto la variante generale voi variante generale Bolzone lei assessore è stata l'assessore di Bolzonello e nello stesso tempo l'assessore di Pedrotti riuscite a dire tutto è contrario di tutto avete fatto una variante come si chiamava quella di Bolzonello 73 che era un piano regolatore generale eh si 77 che era un piano regolatore generale e adesso scoprite che non si consuma più suolo che non si costruirà certamente più potranno costruire solo taluni e in ogni caso le imprese e coloro i quali fanno l'edilizia non avranno certezza in ogni caso del loro investimento con le norme vincolanti che avete che avete predisposto ecco allora che il tema del fabbisogno abitativo che è lo specchio in sostanza di come si vive a Polderone di cosa è stata questa città ben inteso cioè non è che si vive malissimo però è in dubbio il fatto che i dati ci dicano che noi non siamo stati attrattivi chi l'ha preceduta signor sindaco non aveva dubbio sul fatto che bisognava far bere il cavallo in quel momento e quindi concedere cubature e quindi ampliare il patrimonio edilizio tant'è che abbiamo circa 2.000 alloggi inoccupati sfitti invenduti rispetto ai quali non so che tipo di risposta voi potrete ottenere attraverso il meccanismo delle perequazioni delle compensazioni attraverso un concetto che va addirittura in taluni casi ad incidere profondamente sul concetto di proprietà edilizia come facoltà di poter realizzare intorno a ciò che è mio una qualcosa perché questo sarà subordinato ad una valutazione di tipo sovietica che viene imposta dal nuovo piano regolatore generale e con questo ho concluso grazie consigliere dal masso nessun altro iscritto pertanto dichiaro chiuso chiusa questa prima fase di discussione allora come anticipato all'inizio dei lavori adesso passiamo alle chiuse prego mi distratto mi distratto su che cosa consigliere Giannelli risposta cioè deve fare l'intervento mi distratto no mi sorprendete sì va bene ma lei vuole intervenire io avevo capito che non sarebbe intervenuto questa io ho aperto la discussione sulle riserve regionali perciò se lei vuole intervenire deve intervenire adesso può intervenire anche alla fine se vuole parlare delle riserve nessuno glielo impedirà però scusate potete potete dare allora scusi noi abbiamo appena finito di discutere sulle riserve regionali esatto sì io sono arrivato ha finito tre secondi fa dal MAS stavo parlando no nel casino che succede spesso sì ma ci si può iscrivere anche prima che uno termini comunque io avevo capito che lei non volesse vuole intervenire o non vuole intervenire no sto chiedendo intervenga un attimo sto chiedendo poi ci saranno le osservazioni dei cittadini giusto sì e potremmo intervenire anche su quelle no allora ripeto no 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 scusate ripeto allora osservazioni allora le osservazioni verranno illustrate dall'assessore per gruppi alla fine dell'illustrazione del gruppo ci sarà la possibilità di fare interventi a chiarimenti perfetto e l'assessore darà le risposte dopodiché passeremo al gruppo successivo e l'altra fila sarà sebastra alla fine dell'esame di tutte le osservazioni si aprirà la discussione perfetto quella normale chiamiamola rituale cioè primo intervento 30 minuti tempi raddoppiati secondo intervento 10 minuti sulle osservazioni sulle osservazioni dei cittadini però nulla le impedisce di parlare anche delle riserve regionali anche nella discussione finale perché si parla di tutto no perché il mio intervento uno è sulle osservazioni regionali uno è sulle osservazioni dei cittadini e uno è sul piano regolatore e quindi io adesso voglio intervenire in merito alle risposte dell'amministrazione al parere regionale tipo qua sì ma consigliere Gianelli sì calma voglio che sia voglio che sia chiaro questo perché non voglio che ci siano equivoci certo il consigliere può intervenire adesso mezz'ora per mezz'ora e poi a fine dell'esame di tutto il documento che è il piano piano regolatore in buona sostanza potrà intervenire una prima volta per mezz'ora e una seconda volta per 10 minuti non ci sono altre possibilità di intervenire poi le dichiarazioni di voto scusi noi adesso abbiamo esaminato le risposte che l'amministrazione anzi che voi avete dato alle riserve regionali giusto? su questa potrò fare il mio intervento o no? sì ma glielo devo ripetere bene poi risponderete alle osservazioni fatte dai cittadini sì e potrò intervenire o no? come discussione o come richiesta di chiarimento? no no come discussione e anche come richiesta di chiarimento sarà sì potrà intervenire ma sarà l'ultima discussione questa è una delibera che prevede una discussione con un primo intervento e un secondo intervento quello che abbiamo fatto adesso è stata una deroga al normale svolgimento dei lavori abbiamo previsto in sede del capigruppo la possibilità di fare un intervento anche in questa sede questo è tanto ma vede quindi io posso intervenire sulle osservazioni dei cittadini un'altra mezz'ora e poi e poi perché non ci sono solo le osservazioni poi potrei dare dire quello che penso su questo piano regolatore secondo intervento 10 minuti la discussione finale è su tutto il documento non solo su osservazioni dei cittadini se poi vuole utilizzare la mezz'ora solo per replicare o discutere sulle osservazioni dei cittadini va bene ma può parlare di tutto prego prego consigliere fate di tutto per non farci parlare ci rinvicheremo ci rinvicheremo ci rinvicheremo abbondantemente allora no di qui do faremo addirittura in sede di capi gruppo abbiamo previsto abbiamo previsto una mezz'ora di tempo in più per singolo consigliere no ci impedite abbiamo previsto mezz'ora è previsto un regolamento io dal doppio prego ma no ma dai non si parla per mezz'ora sulle riserve ma no non esiste allora io dico due parole sulle riserve regionali riservandomi poi di no io voglio dire scusi ma siccome siamo tre amici io ho bisogno di dire quello che penso su questo piano regolatore ma non lo voglio dire sfruttando le riserve regionali quindi mi dica lei quando posso dirlo dopo ok quindi devo quindi devo tacermi adesso perché se ho a disposizione mezz'ora per le riserve e mezz'ora per le osservazioni dei cittadini poi sul piano regolatore dieci minuti io vorrei poter dire due osservazioni cittadini no non stiamo discutendo approvando un piano regolatore non stiamo in sede di adozione qui perché mi vuol dire parli adesso guardi posso posso prendo io la respira parli di quello che vuole in questo momento consigliere Giannelli se vuole parlare il piano regolatore parli adesso il piano regolatore io non le tolgo la parola perciò anche perché lei è un tecnico perciò voglio dire siamo siamo curiosi di sentire che cosa da dirci perciò parli del piano regolatore allora va bene non porto via tutto all'aula ma è un problema non è un problema dei microfoni è un problema dei chirurghi che mi hanno salvato la vita no 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 perché ho avuto qualche problemino sono stato salvato qui abbiamo abbiamo un medico che testimonia la competenza la bravura di gente che lavora però che la regione vuole farci sparire il piano regolatore non prevede non prevede nulla pericolo allora io trovo ve l'ho anche detto un progetto di solito va revisionato in sede preliminare ho trovato che il fatto di non essere andati in regione a discuterle preventivamente ci ha portato a 30 pagine vergognose un parere regionale che il mio collega probabilmente non merita che l'assessore non merita ma chi l'ha letto sa che è un parere feroce arriva a dire ma voi sapete che ci sono un paio di leggi che dovete rispettare eccetera e qua assessore mi dispiace devo però dire che il parere regionale in molti punti non era condivisibile e cioè aveva un'impostazione burocratizzante populista spesso inconcepibile che voi accettando tutte le riserve regionali avete subito e per me questo è grave guardi se entro nel dettaglio ma dalla ecco la riserva ve lo dico subito le riserve normative sa che a un certo punto la regione alla fine fa un bucho di riserve normative bene di quelle riserve normative non ce n'è una competente fatta con criterio sono tutte buttate là che voi avete accettato senza andare su una regione e dire non ci sto non ci sto questa amministrazione sta facendo un piano regolatore in qualche modo guidata da dei personaggi che quando governeremo noi se governeremo noi andremo a trovare per contrattare una prepotenza e una come si dice sovrastano la illegittima necessità che ha un comune di decidere a casa sua nel merito nel merito lei mi ha detto e anche l'architetto mi avete detto quasi tutto va bene voglio dire siete stati esaustivi salvo il fatto architetto che se per caso le risposte che noi stasera o domani sera approviamo non vanno bene alla regione il piano salta non è vero che viene approvato perché no perché tutto quello che la regione dice deve essere recepito dagli elaborati grafici che vanno riapprovati vuol dire che torna tutti in stand by detto questo mi interessa poco il parere regionale mi interessa di più il parere su quello che avete risposto a 150 cittadini non 1500 non 15.000 150 cittadini per cui io ho finito per quanto riguarda il parere regionale siamo sovrani nel nostro territorio qualcuno doveva andare su a dirlo a questi signori di Trieste non l'avete fatto vi siete limitati a dire ci avete fatto queste osservazioni vincolanti ok le accettiamo tutte io da voi non me le aspettavo bene grazie prego dico sull'ordine dei lavori volevo chiedere se era possibile fare un'interruzione perché siccome citerei molto da partecipare a un convegno organizzato alle 17.30 presso la sede del PD in cui l'assessore Gianni Torrenti viene introdotto dalla candidata sindaco Daniela Giust e il convegno inizia appunto tra pochi minuti citerei molto a partecipare perché parla delle scelte della regione per sport e cultura c'è un assessore regionale che parla di tematiche importanti e fondamentali per la città visto che stiamo parlando anche di piano regolatore vedo che è così importante che la candidata sindaco Daniela Giust ha pensato bene di allontanarsi dal consiglio comunale chiedevo se era possibile fare una sospensione dei lavori per poter partecipare liberamente ad un incontro simile perché insomma se il piano regolatore è così fondamentale per la città ma chi si candida a governare questa città sarà lontana in piena discussione penso che sia più importante quel convegno quindi le chiedo cortesemente se è possibile fare questa interruzione diciamo all'assessore Torrenti di fare la riunione dopo le 22.30 è una mozione d'ordine è una mozione d'ordine quindi se qualcuno ha il suo numero di telefono no a parte gli scherzi allora adesso procediamo assessore però scusate adesso fate mettetevi no 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 mettetevi nei miei panni io devo intuire che allora io non vedo nessuno iscritto dico signore è chiusa e dopo vi iscrivete dopo che io ho detto è chiusa datemi agevolatemi date la mia attività lei deve intervenire non l'avevo capito intervenga mi sembrava parlasse di qualcosa perché qual è il problema no l'ho dichiarato prima adesso non l'ho ancora dichiarato no adesso non l'ho ancora dichiarato però io io suggerirei io suggerirei a tutti quanti anche alla maggioranza che voglio dire non voglio non voglio valutarla come una presa in giro non mi voglio pensare che i consiglieri siano persone così serie da non utilizzare il consiglio prende in giro nessuno prego grazie presidente guardi cercherò di mettermi nei suoi panni e cercare di agevolarla non essendo eccessivamente non dilungandomi non dilungandomi così la metterò nelle condizioni di rimanere fresco fino alla fine perché comunque è evidente che quanto emerso nelle riserve regionali esprimono delle forti perplessità poi per quanto riguarda ciò che uno può pensare sul fatto che la regione abbia competenza o meno di esprimere delle delle riserve che possono incidere o meno sul piano regolatore cittadino questo lo lasceremo a chi interpreta il diritto però insomma visto i toni usati insomma io mi ricordo che quando ero a scuola vedevo la correzione dei compiti no? mi consigliavano il compito prima ancora di vedere il voto vedevo tutto sto rosso prendevo paura e capivo che dovevo rifare l'anno ripetere l'anno perché non avevo capito molto no? non che non che ecco guardi il colore della giunta poi c'è la linea rossa insomma sono diverse cose che fanno capire qual è l'orientamento però dico quando uno a scuola non andava molto bene gli dicevano guarda non è che non ci arrivi ognuno a modo proprio ci arriva con le sue tempistiche non prendere paura se vedi il segno rosso se è preso 5 sicuramente capirai dove hai sbagliato impegnati e vedrai che l'anno prossimo va meglio ed è un po' quello che ci saremmo aspettati nel momento in cui di fronte a questo questa marea rossa crescente che insomma a me mette paura sia dal punto di vista scolastico che anche dal punto di vista politico ovviamente si scherza mi sarei aspettato insomma di una rivisitazione nei punti fondamentali di questo di questo piano regolatore perché noi viviamo in una città che è inutile che ce lo diciamo cioè tutti hanno avuto il loro merito ma ce la siamo anche trovata un po' così per caso una città molto ricca una città in cui i cittadini arrivavano non perché ci fosse un vero e proprio progetto politico di far crescere la città ma perché eravamo a 100 chilometri dal confine ed ecco allora 10-12 caserme che hanno fatto sì che Pordenone si popolasse di tantissime famiglie da altre parti d'Italia avevamo un'azienda che tranneva l'economia e che era arrivata ad avere migliaia e migliaia di dipendenti quindi migliaia e migliaia di famiglie nel momento in cui la politica ha iniziato a cercare di avere un processo di governance del territorio ha più o meno cannato tutte le previsioni perché quando tutto galoppava eravamo arrivati a pensare che Pordenone potesse avere 70-100 mila abitanti e quant'altro siamo ancora a 56 mila grazie anche al fatto che Pordenone ha una forte presenza di immigrazione straniera questa volta mentre all'epoca erano in migrazione da altre regioni e questo assolutamente ha cresciuto la ricchezza e l'attrattività di questa città penso che pochissimi il mio caso della mia famiglia ma tanti altri pochissimi di coloro i quali si avvicinarono a Pordenone negli anni 60 70 e 80 trovarono Pordenone così cittadina piccola ma con una qualità della vita tale da dire effettivamente è una bella città dove si sta bene c'è una qualità della vita ottima ci sono aziende che danno un salario che garantisce una qualità della vita molto onorevole per quanto riguarda i genitori e i bambini garantivano ai propri figli la possibilità di mandarli a scuola liberamente attraversando la strada del proprio quartiere di poter avere degli percorsi di sviluppo scolastici che gli permettevano di avere un ingresso nel mondo del lavoro in modo abbastanza agevole anche dal punto di vista economico con riconoscimenti appunto dignitosi ma quando poi la politica ha iniziato a cercare di governare questa governance non certamente soltanto per la classe politica ma anche per l'economia mondiale per i flussi migratori che stanno cambiando gli eventi Pordenone si è ritrovato a essere una città che non è cresciuta se non per i flussi migratori dall'estero che arrivavano a Pordenone e diciamo tutto sommato Pordenone si sta bene però non siamo cresciuti come avremmo sperato e questo vuol dire che la politica in realtà quando ha provato a governare questo fenomeno il fenomeno della crescita di Pordenone una crescita programmata ha fallito sicuramente non è compito non è responsabilità soltanto della politica ma anche della politica che forse non si è resa conto che Pordenone è cresciuta per tanti motivi ma forse poco riconducibili riconducibili alle scelte della politica perché appunto le caserme ce le ha messe lo Stato la Zanussi era cresciuta grazie la Zanussi era cresciuta grazie alla lungimiranza e la Zanussi la salve lungimiranza di alcuni imprenditori i quali poi si dedicarono anche a cercare di formare il personale il personale che sarebbe poi andato a lavorare nelle loro aziende con alcuni centri di formazione istituto professionale e simili però insomma diciamo che Pordenone adesso veramente si ritrova nell'occasione con l'opportunità di ridisegnare per il futuro una città che sia ancora attraente e attraente deve essere per diversi motivi dal punto di vista economico io nutro un profondo amore nei confronti della mia città sarò sempre riconoscente nei confronti della mia città farò di tutto per rimanere ad abitare qua ma se avessi dovuto vedere soltanto il punto di vista economico allora avrei fatto quello che hanno fatto tre giovani su dieci sarei andato ad abitare nell'Interland sarei andato ad abitare a Cordenons sarei andato ad abitare a Roveredo sarei andato ad abitare al di là di Via Nuova di Corva nella parte che è nel comune di Azzano sarei andato ad abitare a Porcia perché perché tutto sommato si raggiunge il centro di Pordenone in poco tempo e pago meno il prezzo delle case e tutto sommato riesco ad avere una qualità della vita che mi consente di vivere bene e quindi se posso risparmiare sulla casa tanto vale che vado ad abitare fuori Pordenone e questo è innegabile un processo demografico che avete visto anche voi in questi anni signor sindaco e io sono su questi banchi ahimè nel senso che sempre all'opposizione confidando che un giorno cambierà la cosa ma da dieci anni e nel mio primo intervento di insediamento perché oltre al sindaco che fa l'intervento sulle linee programmatiche anche i consiglieri d'opposizione fanno il loro intervento e dissi confido che questa amministrazione faccia qualcosa per far sì che le giovani coppie rimangano all'interno del comune di Pordenone per abitare mi venne detto sì certamente terremo in considerazione siamo sono passati dieci anni due giunte il primo sindaco è diventato vicepresidente della regione il secondo sindaco non verrà riconfermato in tutto questo non si è fatto molto ed è la stessa cosa che dicono anche le riserve regionali ovvero se dite che bisogna cercare di far sì che si possa abitare a Pordenone non è stato non è stato definito il modo in cui si possa rendere economicamente vantaggioso che l'unica cosa che muove a parte l'affetto ma l'affetto è una cosa che riguarda una minimissima parte dei cittadini di Pordenone o dei cittadini in genere che prevalentemente devono guardare l'aspetto economico non è stato citato non è stato fatto alcuna non è stato preso alcun provvedimento specifico che dimostri come sia più conveniente rimanere a Pordenone magari ristrutturando una vecchia casa una vecchia abitazione la vecchia casa di famiglia piuttosto che andare ad abitare appunto nell'Interland e allora si poteva dire facciamo in modo che si possa almeno investire a Pordenone per far sì che attività commerciali possano arrivare in città e ad avere una può essere non so temporaneamente una fiscalità di vantaggio per far sì che a Pordenone si possa aprire ma neanche questo è stato fatto viviamo in una città in cui aprire un negozio in centro si ritrova una concorrenza che intanto deriva dal fatto che a differenza che in altri posti i dipendenti devono pagarsi il parcheggio a 1 euro 60 l'ora ci sono anche gli abbonamenti ma non valgono per tutti e allora tanto vale che forse conviene aprire un negozio presso il centro commerciale Meduna dove di sicuro i clienti arrivano senza dover pagare il parcheggio e trovano ugualmente dei negozi e quindi è una concorrenza svantaggiosa nei confronti di chi vorrebbe investire in centro ma non li viene non li viene consentito non li viene consentito dal punto di vista economico che ripeto è ciò che muove le decisioni delle persone e allora di fronte ad un'amministrazione che deve pensare alla Pordenone del futuro ci saremmo aspettati di vedere delle decisioni di lungo respiro e invece noi continuiamo a vivere una città che pensa di riuscire a fare la lotta all'inquinamento atmosferico chiudendo il ring come se chiudendo il ring che avrà non so una circonferenza di 7 km neanche chiudiamo il ring pensiamo che siccome c'è un decreto del sindaco che dice oggi targa alterne e le macchine che inquinano non entrano dentro il ring allora automaticamente le polveri sottili si fermano come se fosse una barriera senza pensare che poi magari abbiamo a un chilometro della pontebana e che quindi continuano a transitare automezzi di tutti i tipi però siccome noi abbiamo il provvedimento preso da da questa giunta come si chiama respiriamo Pordenone si possa respirare tranquillamente aria pulita soltanto perché c'è questo provvedimento e abbiamo chiuso il ring e quindi noi pensiamo di aver fatto il bene della città semplicemente per questo motivo e invece mi sarei aspettato visto che ci avete messo cinque anni per fare un piano regolatore di fare delle azioni a lungo respiro mi sarei aspettato qualcosina di più che da anche quello che vi dice la regione e poi il documento dal quale si trae spunto perché ripeto collega Piva è vero non sono un esperto ma mi fido di quello che dicono gli uffici della regione cioè la direzione centrale infrastrutture mobilità pianificazione territoriale lavori pubblici edilizia in cui non penso che ci vada a lavorare che ci vada a lavorare Emanuele Loperfido che non capisce niente ma ci vanno a lavorare persone che hanno vinto concorso per merito sono entrati là probabilmente e sono anche magari laureati o hanno fatto delle specializzazioni che le hanno permesso di essere competenti in materia e hanno detto guardate che voi avete fatto qualcosa che doveva essere per quello che era nelle vostre intenzioni doveva essere un documento fondamentale per il futuro della città invece di futuro qua se ne vede ben poco perché viviamo una città molto delicata dal punto di vista del territorio dal punto di vista idraulico e dal punto di vista della sicurezza idraulica però prendiamo delle decisioni che in alcuni casi si autorizza ad occhi chiusi perché lì si può fare in altri casi in cui no tu non ti meriti niente e non ti devo neanche spiegare perché non ti meriti niente perché noi il consiglio comunale possiamo anche non dover giustificare il motivo per cui noi ti diciamo no tu non hai diritto a fare questa cosa che è quello che ci hanno detto stamattina e allora ripeto di fronte a una presa di posizione molto forte da parte della regione in cui dicono guardate che sarebbe da rivedere tutto quanto da ricomporre voi dite no no in realtà guardate che non ci hanno detto assolutamente così anzi era soltanto questione di mettere a posto un punto una virgola noi ne prendiamo atto io pensavo che quando era scritto tutto quanto in rosso almeno un 30% era quasi sinonimo di bocciatura mi rendo conto di aver studiato e essermi diplomato nel 94 magari diciamo nel 2016 sono passati un po' di anni e il 30% di rosso significa che siete della parte giusta politicamente ed è anzi una nota di merito vedere tutto questo colore rosso e onestamente io avrei preferito che questa giunta perché guardi signor sindaco io veramente lo dico con rammarico io credevo che lei nel momento in cui nel momento in cui si è insediato a fare il sindaco di Pordenone pensavo che veramente avrebbe preso in mano l'amministrazione dal punto del manageriale e invece anche lei è caduta nel tranello politico quindi una cosa ho dovuto farla perché me l'hanno chiesto a Trieste parlo dell'ospedale altra cosa ho dovuto farla perché la mia maggioranza vuole così e il piano regolatore nonostante tutti i segni rossi deve assolutamente portarlo a termine entro questo mandato perché nonostante i nomi ricandidi nonostante i nomi ricandidi nonostante lei abbia detto che la sua giunta comunale non ne salverebbe neanche uno però il documento politico più importante di questa amministrazione questo sì invece deve andare avanti per forza con le forzature che abbiamo sottolineato prima nonostante ci fossero anche i margini per poter lavorare insieme all'opposizione e dire guardate sì effettivamente quello che ci avete detto forse da rivedere prendiamoci un po' di tempo per analizzarlo bene non è per forza detto che debba approvarlo questa amministrazione perché se questo documento è valido buono se tutto quanto ciò che è stato fatto dai tecnici dagli uffici è buono e non abbiamo dubbio che sia buono non abbiamo assolutamente dubbio sul fatto che sia buono ma è sicuramente migliorabile non capisco per quale motivo deve essere per forza questa amministrazione a vorreste portare avanti con testa ardagine un'amministrazione che poi non lascerà assolutamente niente di sé se non questo documento perché di questa amministrazione sappiamo che né lei né la maggior parte della giunta a parte l'assessore Conficoni che in modo caparbio continua a postare le sue foto e no sta postando foto di tutte le azioni meritorie in tema di piantazione di margherite quindi dicevo a parte si sta piantando margherite quindi non capisco per quale motivo questa amministrazione insista così caparbiamente come disse una volta il collega del MAS dovuto probabilmente dal fatto che siete tetragoni non si capisce per quale motivo si insista sul punto non vi abbiamo detto che tutto va male non ve l'abbiamo detto noi ve l'ha detto la regione ve l'hanno detto dei tecnici esperti e noi vi chiediamo semplicemente di rivalutare approfondiamo tutto quanto assieme ed eventualmente non deve essere per forza questa amministrazione sarà la prossima sarà la Daniela Giust che anche se non è presente non è presente sicuramente apprezza questo piano e lo potrà votare sia adesso che tra cinque mesi ma sarà molto meglio approvare un piano regolatore se approvato non perché c'è la fretta dei tempi ma perché è approvato convintamente sulla validità dei punti nel merito grazie consigliere consigliere De Bortoli Presidente io sono molto stanco perché vengo da visto la giustificazione però mi ha stimolato molto sentire gli interventi fatti dai colleghi consiglieri sì effettivamente per chi ha fatto tanti anni questa amministrazione ma che ha amato e apprezzato la città che l'ho aspitato negli anni 70 dopo che era rientrato nel proprio paese si era anche innamorato di questa città è per quello che tante volte scendiamo nei tavoli dei consigli nei banchi dei consigli e solo nei banchi del consiglio comunale per poter dare un contributo allo sviluppo della città in cui vivi in cui hai fatto crescere i tuoi figli in cui speri che i tuoi figli debbano lavorare in questa città e non all'estero e spero che questa città dia sempre risposte maggiori alle famiglie che alloggiano o comprano una casa in questa città e cercano di vivere con i servizi di questa città io intervengo per queste cose e purtroppo sono molto stanco e ammareggiato perché dopo tanti anni io sono stato anche in maggioranza l'anno 88 con il sindaco Carlin sono in amministrazione dall'83 dunque proprio non è l'altro ieri insomma dunque conosco i sviluppi di questa città in maggioranza si facevano tante varianti e si diceva sempre già allora che questa città mancava di un piano regolatore perché questo strumento era uno strumento che poteva determinare lo sviluppo di una città e il benessere dei propri cittadini dunque lo spiegavamo da tantissimi anni e noi si facevano molte varianti guardate che le varianti che si facevano non erano varianti favore al singolo erano varianti se vogliamo fare Presidente io prima era la sopra che parlava ma è qua che parla col pubblico vediamo un attimo possono camionarsi fuori tanto spazio in comune aspettiamo che finisca il consigliere ha finito? grazie a lei grazie a lei per la tua cortesia per cui capisce le varianti non erano per i singoli erano per la città quella volta e ogni volta si faceva una variante si diceva auspichiamo che venga fatto più urgentemente possibile un piano regolatore generale di questa città che era proprio lo strumento che avrebbe determinato un rilancio della città quando si parlò di questo piano regolatore ma insomma in questa tornata amministrativa io feci un calco dico vabbè questa volta hanno tutte le condizioni favorevole perché questa città abbia uno strumento adeguato e molto efficace perché l'amministrazione regionale è uguale all'amministrazione comunale l'amministrazione nazionale è uguale quella regionale e comunale forse si parleranno forse otterremo degli aiuti perché questa città mi sono reso conto che negli ultimi anni a differenza di quando arrivai che il mio babbo alla mattina alle 5 mi portò davanti alla Zanussi ed eravamo in camoprofughe noi eravamo in camoprofughe noi italiani eravamo in camoprofughe quella volta ma mio babbo venuti qua col treno pagato da noi mi portò alle 5 del mattino a vedere davanti alla Zanussi decine e decine di autobus di pullman che arrivavano a portare cittadini dei limitrofi a lavorare alla Zanussi ma decine di pullman che arrivavano qui da Caorla da None Veneto e si diceva questi adesso vengono col pullman ma domani cercheranno di trovarsi casa vicino al lavoro perché se uno abitava a Caorla e abitava a None Veneto abitava a Motto di Rivenza andava da sé che non si alzava due ore prima al mattino ma cercava di trovare un'abitazione vicino al proprio posto di lavoro la trovava la prendeva in affitto acquistava faceva famiglia e aveva il lavoro vicino e questo era il segnale per un inciso permettetemi io vi invito una mattina di queste alle 8 a venire nel centro dopo il ring che è via Oberdan allungate 30 metri e venite in via Montello via del Belunello all'incrocio oppure andiamo a vedere dove c'è l'ipercoppe ci fermiamo un'oretta perché così si capiscono le cose e vediamo la storia dell'aria in quel momento quando ci sono centinaia di macchine ferme in fila in coda per fare un tratto breve della Ponte Banna che ci mettono 45 minuti a fare che va dall'incrocio di Porcia all'ipercoppe dove c'è il ponte del Meduna allora voi capite che se fermate il centro storico di Pordenone dove c'è il ring non risolvete il problema dell'inquinamento è inutile che ci riempiamo la bocca di questo fatto qua perché come diceva qualcuno l'area non ha sbarramenti dunque qua c'è da sistemare veramente grandi scelte viarie di questa città con la gronda nord che non è stata mai fatta abbiamo una circovalazione che è una città cittadina e oggi pensiamo che sia una circovalazione ma non è così abbiamo una una tangenziale sud che non può partire non può partire perché abbiamo solo due entrate a Pordenone non è una tangenziale è un'autostrada con due uscite una commerciale e una nel 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 città di Pordenone la fiera in pratica ecco se ho paura che ultimamente ci sono sempre meno possiamo sentire la barzelletta che sta raccontando visto che ridete no vabbè ma ho capito ho capito ma tu lo devi finire di questo paragonista tu stai ridendo con le persone perché raccontano le barzellette e mi mangi di rispetto capito vai fuori se devi parlare a fare la barzelletta vai fuori capito e impara un po' l'educazione no te lo dico a te non a qualche scusate silenzio perché è la seconda volta che mi disturbi e mi interrompi il mio intervento capisci consigliere De Boe invito il pubblico a fare silenzio per cortesia invito il pubblico a fare silenzio ecco allora cerca di impararlo per favore e sii più educato silenzio grazie non dare ai remoto parla di questo momento non perdo il filo io perché sono molto più vecchio di te e in questo momento siedo da molto più non perdo il filo perché non sentiamo vogliamo chiudere quale è lo scambio consigliere e soprattutto della città è ancora un ragazzino un bamboccione che deve crescere consigliere te lo dico io che sei così mi stai disturbando ci ho detto allora siccome è la seconda volta che te lo dico vai fuori dell'aula a fare il barzolettaio ridendo capito consigliere De Bortoli capito questo sì o no e rispetta chi è qua tanti anni consigliere De Bortoli allora scusate invito il pubblico a non parlare e non fare rumore consigliere De Bortoli Allora stavo dicendo giustamente che ho la sensazione che negli ultimi anni gli amministratori hanno perso un po' l'osservazione di questa città perché lo vediamo ne abbiamo parlato è una città che è un po' spenta è una città che non ha attrattività cioè diminuiamo lo dicono i dati non lo diciamo noi consiglieri di opposizione o di maggioranza non c'è più gente che corre a Pordenone né per passare la domenica né per abitarci e tanto meno per lavorare perché tutte le azioni di queste ultime amministrazioni sono sulla sorvettura dell'aria però non facciamo impresa anche questo piano regolatore abbiamo fatto tante consultazioni che doveva essere quasi perfetto perché con tutto quello che ha fatto questo piano regolatore e avendo una regione amica e uno stato amico non può arrivare indietro con 55 pagine tutte di rosso cioè vuol dire che qualcosa non ha funzionato cioè il dialogo qua abbiamo parlato molto nel territorio ma evidentemente non abbiamo parlato molto con gli organi competenti che potevano intervenire su quello che facciamo noi perché bastava andare un qualche viaggio ancora in più a Trieste probabilmente queste 55 pagine da tutto in rosso potevano essere molto meno in rosso e oggi forse discutevamo di realmente delle grandi scelte che avrebbe fatto questa amministrazione che si è trovata a gestire questo fatto qua tra l'altro si è trovata a gestire perché poi bisogna dircelo no un sindaco che è stato chiamato a gestire questa città ed è una persona per bene perché io ritengo che è una persona per bene non con grande esperienza e non ha potuto applicare la sua managerialità in questa struttura che rimane comunque una struttura politica e però è stato subito abbandonato io penso che ha durato 6-8 mesi di un matrimonio felice e poi è stato un po' abbandonato in tutte le scelte anzi quasi compresso quasi obbligato a fare delle scelte che non erano sicuramente nella sua memoria o nel suo pensiero a fare queste scelte perché io ritengo che uno che viene dall'entità privata esterna pensa e dopo si scopre che non è così di arrivare sull'amministrazione pubblica e poter dare del suo invece no perché le composizioni il sistema politico anche su un piccolo entità come il comune come un'amministrazione comunale ha la sua valenza a me dispiace perché io penso che poteva essere una persona che poteva dare ancora il suo appordenone e essere facilmente ricandidata politicamente passa il fatto che uno non si ricandida perché non vuole ma poi lo sappiamo tutti non molte volte succede se non per casi estremi che una persona che governa 5 anni poi non si ricandida perché c'è un valore aggiunto che va da sé su questo non si mette in rischio evidentemente questo ma torniamo all'argomento per cui io penso che questo piano non ha le grandi scelte di Pordenone perché le grandi scelte non sono le piste ciclabili che sono doverose ma non sono preponderanti perché uno non può andare tutto il giorno in bicicletta e poi non avere il posto di lavoro e non portare a casa il pane ai propri figli per mantenere la famiglia una volta c'erano dei principi fondamentali che era la casa il lavoro e la sanità questi erano tre principi fondamentali che guardate che li cercano anche i profighi che vengono qua oggi cercano questi tre elementi la casa il lavoro la sanità non è che cercano altre cose forse cercano un quarto elemento che loro non avevano la loro testa ma noi glielo stiamo dando l'ozio di poter vivere senza fare niente questa è una cosa che abbiamo trasmesso noi a queste persone perché abbiamo ben visto e le vediamo anche nei documentari o nelle trasmissioni nazionali che le strade anche in zone di guerra sono abbandonate l'erce ma non c'è nessuno che prende una scopa e un badire le leva questo basta guardarlo perché sapete noi la città è anche bella perché i cittadini portenonesi non aspettano la nettezza urbana li abbiamo educati per comportarsi così ma molti nella zona friulana e terremoto in segna non hanno aspettato che arrivasse l'entità pubblica per fare qualcosa lo hanno fatto la domanda i nostri amici che vengono qui hanno la stessa cultura di questo? non so io non credo perché oltre che usare lo smartphone in centro con tutto quanto quello che ne va dietro non ne vedo fare molto con la scopa e poi se c'è qualche cosa che mettiamo in piedi per dimostrare che fanno qualcosa anche loro ma sono molto come si dice molto propagandistiche queste cose qua ma non altro allora questo piano regolatore le assorbazioni fatte da regione portano anche questo non c'è nulla in questo piano che sia determinante per portare Pordenone agli albori che aveva una volta dove chi veniva a Pordenone veniva per il lavoro che c'era assumevano a Pordenone tantissima gente c'era una capitata di industria una città che si sviluppava noi siamo arrivati qua per quello noi eravamo a Brescia potremmo andare a lavorare all'OM ci hanno offerto lavoro all'OM perché erano camporafogli di Gandiano ma mio padre dice andiamo a vedere Pordenone ma non siamo andati a vedere Pordenone alle 11 del mattino al caffè municipio o in piazza siamo andati a vedere le fabbriche che c'erano a Pordenone cosa succedeva lì perché lì c'era il lavoro e lì c'era e perché dopo quando siamo arrivati c'è stata l'esplosione delle case popolari perché Pordenone nelle 70 aveva via Manzoni via Vugo Foscolo e forse non c'era niente non c'era Largo Cervigliano non c'era via Del Troio non c'era le case rosse di via Pirandero non c'era niente di questo e poi è successo questo perché? perché la gente continuava a lavorare ed ecco quello che ha detto il collega Dalmas prima non aveva le potenzialità per acquisirsi una casa quella volta già buona quando c'era l'edilizia speculativa oggi chiediamo di acquisire delle case in A più e quant'altro dove hanno prezzi doverosamente alti ma come diceva prima Dalmas solo per pochi ricchi e non facciamo neanche più le case popolari e dunque non hanno più la potenzialità economica per poter prendere neanche in affitto per cui vanno nella periferia che costa un po' meno sia nell'acquisto e sia anche nell'affitto perché non vanno a vedere tanto quando c'è la necessità non si guardano molto queste cose qua cioè se uno è disoccupato oggi guarda cosa quanto costa meno l'asilo non se l'asilo è di prima scelta perché deve collocare qualcuno per poter andare a lavorare non guarda se va in bicicletta pensa di prendersi la macchina per andare a trovarsi il lavoro cioè sono tutte componenti che vanno al di là della vita felice su un mondo felice è una vita possibile su un mondo possibile che è una cosa molto diversa molto diversa siccome noi siamo su una vita felice per una posizione felice per una vita felice noi diminuiamo come cittadini non siamo più attrattivi se invece fossimo sulla seconda versante qui avremo molta più gente che chiede 40.000 a Pordenone e non avremo questo gap dell'extracomunitario che ci copre perché noi saremmo qua 40.000 abitanti se non ci fosse l'extracomunitario saremmo 40.000 abitanti a Pordenone forse meno e questo è il dato che dobbiamo vedere perché questi 40.000 rimarranno a Pordenone perché l'hanno letta come città propria ma gli altri 10 in più domani mattina sono qua andate a vedere le zone vicentine quando c'erano le fabbriche delle concerie che poi hanno chiudito andate a vedere la popolazione che ce l'ha a case abbandonate fabbriche abbandonate è qua vicino è nel Veneto non si è andato lontano ecco allora perché perché chi è nato qui chi ha eletto la città come sua città e non ha la funzione migratoria in canna cioè nella sua DNA battaglia e cerca di conquistare nella sua città le posizioni favorevoli per poterci vivere per far crescere i propri figli e perché ci sia il lavoro e la parte economica importante per andare guardate uno per tutti lo dico così vedete noi siamo un paese un paese che non abbiamo nascite un paese che non abbiamo nascite qual è la risposta di questo paese che non ha nascite destiniamo 3 miliardi a povera gente che chiamiamo qua senza pensare che per ognuno che viene qua mille rimangono là a morire e nessuno li salva 780 milioni all'Africa per ognuno che arriva qua mille rimangono là a morire distenti perché là non ci va nessuno manteniamo quelli che vengono qui invece dovremmo secondo una politica andare là e insegnare a loro come si vive democraticamente in un paese tutelarli e far sì che là facciano economia industria e là mantengono le proprie famiglie su questo e stiamo praticamente qui che non riusciamo più a dare risposte a noi che ci siamo e tante volte si va all'estero a lavorare ma penso che una volta si veniva dall'estero nel proprio paese adesso si va per specializzarsi per poi portare un know-how importante nel tuo paese per poterlo crescere metterlo competitivo con gli altri paesi invece no mandiamo i nostri cervelli migliori negli altri paesi che diventano competitivi e vengono contro di noi questo è un dato di fatto così molto molto elementare forse il mio è un modo di pensare molto elementare ma è la cosa che pensano tutti perché nessuno vuole un figlio lontano saremo mammoni saremo come giustificati ma io penso che noi abbiamo la miglior parte di noi che va fuori e non fa ricco questo paese fa ricco altri paesi che sono concorrenti a noi voglio chiudere dicendo sull'inizio che avevo detto l'assessore Toff l'assessore diceva anche il collega Loperfido ora siamo solamente sulle osservazioni fatte alla regione lei ha fatto un lavoro anche di buona propaganda sul piano regolatore che è un documento importante è una cosa che si aspetta 40 anni questa cosa durrà per altri 40 anni non è che uno viene domani mattina a fare un altro piano regolatore allora si presume che quando si fa una cosa di questo genere ottenendo anche le posizioni favorevole con una regione amica e una nazione amica e dunque con un dialogo posto nella stessa servizio d'onda queste cose potevano forse avere qualche pagina in meno del ross perché come diceva qualcuno prima su quello che ha detto questo è come se quando uno va a fare la casa e si mette d'accordo solamente con il proprio architetto senza controllare le carte che dice la legislazione per la fabbricazione poi l'architetto viene qua ha preso una bella casa con un bel salotto con una bella open space e poi torna indietro l'architetto a dire ma guarda tutta questa roba qua non si può fare e dico vabbè continuo a vivere nella baracca perché se tutta questa roba non si può fare per solo del tempo perché se manca l'angolo o se manca uno ancora ancora forse con un sostegno stampa se mancano due angoli la casa crolla e dunque questo sistema questo documento che voi state preparando è pallito in partenza perché non raggiunge l'obiettivo ed è pure un documento che dovrebbe pensare per i prossimi 30 anni almeno a questa città ma non solo alla città perché non è una a quelli che ci vivono e che hanno forse diverso di altri pensato che questa è la propria città la mia città la città dei miei figli e dei miei nipoti io la penso così poi forse se questa semplicità che vi ho detto la pensavate così forse tutte queste pagine rosse non ci saranno state grazie grazie consigliere da Bortoli consigliere franchin prego grazie signor Presidente il mio è un intervento ovviamente da maggioranza e quindi mi sento così in dovere di intervenire perché sono qua stamattina prima di tutto e quindi almeno mi do una scossa e poi perché non so se domani l'architetto Giuliani sarà presente a discussione su questa cosa volevo dire che noi abbiamo molto apprezzato il lavoro l'abbiamo ritenuto fondamentale in termini di come è stato costruito abbiamo condiviso i percorsi la finalità la visione di città abbiamo pensato che abbia interpretato quello che starà e che avverrà i prossimi anni in questa città che il lavoro non sarà più un lavoro manuale operaio ma sarà un lavoro della conoscenza il valore cognitivo e quindi quello che lei ha in qualche modo con l'amministrazione ma io mi rivolgo a lei perché non so quando avremo l'occasione di riparlarne insieme io mi rivolgo a lei perché lei ci ha dato una visione di città assolutamente condivisibile dal nostro punto di vista una città verde attraente per come la città ha qualità interne e non solo perché ha la fabbrica che in questo momento non è per Pordenone è per il mondo intero che sta cambiando detto tutto questo però non ho sentito oggi dire una cosa importantissima nelle nostre molte riunioni moltissime riunioni devo dire in questi anni non in questi mesi abbiamo sempre in qualche modo dibattuto su un tema che era la perequazione no e questa compensazione che lei ha cercato di spiegarci che io però sono limitato e non so se ho capito bene e non so neanche se il regolamento l'ho capito bene neanche ancora però c'è una cosa che penso di aver capito e che non è venuta fuori e che penso sia fondamentale che venga fuori per questa città e che questo piano regolatore ha rotto quell'equilibrio che c'era tra cittadini in serie A e cittadini in serie B cittadini che hanno un terreno edificabile e che ha un terreno invece destinato ad altri usi magari sociali magari ad uso della comunità e con questo piano siete riusciti a togliere questa differenza allora io lo trovo che al di là di questo non saprei dire dopo se saremo in grado effettivamente di fare il passaggio per cui io che ho un terreno che è edibito a scuola di fatto non vengo penalizzato rispetto a uno che ha un terreno edibito a edificio pubblico privato o quello che sarà io questa cosa la ritengo centrale e siccome la ritengo centrale ci tenevo a dirgliela prima che lei andasse via perché questa è di fatto un'identità di un governo come il nostro che ha la pretesa di essere un governo vicino alla gente e di interpretare cittadini tutti uguali di fronte alla nostra amministrazione e quindi io la ringrazio a nome del nostro gruppo non so se avremo modo di dirlo meglio domani meglio di come lo posso dire io però questa cosa secondo me va detta ridetta perché la città non l'ha ancora capita non è vero che noi non vogliamo costruire più in città vogliamo costruire dentro un percorso di equilibrio ma che veda fortemente identitaria la crescita economica della città con quello che è la città e di come noi l'abbiamo immaginata di come noi la vorremmo e mi meraviglia molto sentire altre forze politiche più in qualche modo fuori dal governo anche sembrano più progressiste che vogliono una città senza macchine con le biciclette con le piste con i fiumi col verde che sono tutte cose scritte in questa cosa che si chiama piano regolatore piano programmatico chiamiamolo come vogliamo è quello che noi vogliamo per la nostra città del domani e quindi basta ho finito volevo dirle questo prima che lei andasse via bene grazie consigliere bene dichiaro chiusa la discussione pertanto adesso do la parola di nuovo all'assessore cosa succede? no chiedo se l'architetto sarà presente domani oppure no perché se no ah mercoledì no perché se no mi associo a quanto è stato detto dal collega rispetto lo rivediamo mercoledì no 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 si mi associo a nome anche del gruppo credo del PD rispetto a questa a questo lavoro che lei ha fatto e che ha donato in qualche modo alla città tra l'altro se mi permette presidente vorrei anche aggiungere che le riserve in qualche modo hanno rafforzato perché sembra di no ma si deve anche essere come schietti e sinceri sul fatto che naturalmente gli organi sovraordinati a volte magari possono anche esagerare sicuramente anche nel caso possono avere anche esagerato ma certamente hanno aiutato poi l'amministrazione nelle contradduzioni e nel richiamo nel riprendere queste riserve io credo che abbiano secondo il mio punto di vista migliorato la flessibilità e la cogenza del piano rispetto agli obiettivi che si era dato almeno questa è la mia impressione ed è per questo che secondo me è positivo che oggi ne discutiamo certamente ognuno fa il suo ruolo e credo che l'opposizione normalmente tende a essere molto critica io penso che questa maggioranza lo è stata anche in passato nei confronti di se stessa però poi alla fine ha riuscito a trovare una sintesi che noi speriamo di poter portare avanti proprio per il benessere e per il bene della nostra comunità quindi non è solo una questione come giustamente ha sottolineato il collega Franchin riguardo alla perequazione tra cittadini ma anche il tentativo veramente di traguardare il futuro rispetto alle potenzialità all'identità della nostra città grazie grazie sì do la parola anche a lei consigliere Freschi però da questo momento no 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 scusi va bene ma per organizzare i lavori da questo momento se non vedo nessuno iscritto e dichiaro chiuso non do più la parola a nessuno perché se no è tutto un tiremola non finiamo più prego no no intervenga pure l'ho dato al consigliere Passoni la do anche a lei prego però quando chiuderemo questa discussione poi non transigo più se no si iscrivetevi a parlare io dopo do la parola se no non riesco a organizzare i lavori io mi sono iscritto non quando lei ha detto ho chiuso mi sono iscritto intanto che un consigliere parlava per cui sì comunque le porterò via pochissimo tempo no al passaggio dell'assenza dell'architetto Giuliani penso sia giusto fare una precisazione allora mi sento di dire questo è stato svolto un grande lavoro su stiamo parlando delle riserve e mi soffermo a quello è stato fatto un grande lavoro sia in commissione sia in consiglio ma il grande lavoro è stato svolto dagli uffici dei redattori del piano e penso che un grande lavoro sia stato svolto anche dalla regione ognuno per le sue parti ognuno nelle sue posizioni le riserve sono state molto molto articolate molto anche puntuali e precise in alcuni passaggi ma penso che la discussione emersa in fase di commissione e il lavoro fatto da chi ha risposto alle riserve sia stato un lavoro particolarmente preciso puntuale intenso e non posso pensare che questo sia nato da una non collaborazione da un dialogo con la regione come è stato in qualche modo sottolineato anche negli interventi che voi avete fatto di precisazione e di replica per cui ritengo che i passaggi anche di tipo normativo sui quali io non entro nel merito e non mi soffermo perché non sono un tecnico della materia ma a noi aspetta un ruolo politico cioè aspetta il ruolo di capire se questo piano e di conseguenza le riserve rispondeva risponde a delle direttive che erano state che erano state date ecco mi pare che le risposte che sono che sono emerse che sono emerse nel dibattito e che sono emerse anche in seno alla commissione siano risposte coerenti siano risposte coerenti con quante con quanto sono state le direttive le direttive di piano è chiaro che noi ci troviamo di fronte ad una situazione ad uno strumento completamente nuovo ma nuovo non perché un PRG è nuovo ma nuovo nell'impostazione nella filosofia e penso che sia noi che siamo chiamati ad approvarlo oppure no noi siamo in fase come si diceva prima di riserve di osservazioni per cui noi stiamo approvando degli emendamenti ad un ad un piano che abbiamo già adottato e dobbiamo rimandare i nostri ragionamenti a quel 6-7 luglio del 2015 in cui siamo entrati nel merito di quello che volevamo e di quello che in qualche modo prefuguravamo per la nostra per la nostra città io mi rendo conto di una cosa e su questo penso di essere intellettualmente almeno obiettivo che non è uno strumento facile da comprendere e da calare nella realtà e penso che questo sarà il grande sforzo a cui la macchina amministrativa di questo comune sarà chiamata perché mettere insieme una filosofia completamente diversa di approccio e la perequazione forse è il diciamo il punto di riferimento principale diventa uno strumento che necessita di continue e dinamiche aggiornamenti e flessibilità io penso che questo piano avrà la necessità di un successivo percorso di continui adeguamenti e aggiustamenti però questo significa che si dà la lettura di una società di una città che è in movimento vedete quando si è detto che la città era stata prevista in un certo modo per cui diciamo che questo modo di pensare ha portato ad avere tutta una serie di edifici sfitti in città si parla di 2000 alloggi inoccupati e la dimostrazione che la visione era di altro tipo quando i dati ci dicono ma non a Pordenone non in questa città ma ci dicono che nell'arco di qualche penso nell'arco di un decennio se non ricordo male di aver letto la popolazione del Friuli Venezia Giulia nonostante i flussi migratori passerà da un milione e duecentomila a poco sotto un milione di abitanti significa che il modo di pensare di approcciarsi alle politiche urbanistiche dovrà essere di altra natura e di altra filosofia penso che noi iniziamo questo percorso lo iniziamo con lo dico in maniera molto tranquilla con le difficoltà che il caso comporta perché riuscire a traguardare il futuro è una cosa abbastanza difficile nessuno è dotato di sfera magica ma si cerca di interpretare ciò che può essere un percorso un po' forse difficile un po' imprevedibile ma che sicuramente va in una direzione che deve prevedere qualche aggiustamento per cui penso che tutto quello che il piano e anche le riserve in qualche modo sollevano e alle riserve è stata data risposta coerente penso che sia un percorso nuovo non facilmente comprensibile che avrà bisogno di continui e attenti aggiustamenti e per quello la mia preoccupazione non è tanto sul piano è sulla traducibilità poi su chi dovrà tradurlo su come vorrà tradurlo e su quali competenze ci saranno per tradurlo ma certamente è una sfida che dobbiamo in qualche modo percorrere e amministrare significa anche qualche volta esporsi a delle novità a delle sfide ma bisogna avere l'accortezza e l'attenzione che queste possono essere affrontate possono essere risolte e forse possono aprire scenari nuovi al quali non eravamo abituati ma che le situazioni del momento forse impongono grazie consigliere freschi voglio vedere se c'è qualcuno che vuole ripensarci bene immagino non ci sia proprio più nessuno pertanto dichiaro chiuso la discussione do la parola adesso all'assessore per per illustrazione per gruppi abbiamo detto che ordine seguiremo partiamo dalle seguiamo lo stesso ordine che abbiamo seguito in commissione quindi partiamo dalla lettera G come aspettate un attimo che prendo tutte le mie carte pace allora sono nel periodo di come dicevo prima di pubblicazione del piano ho l'architetto Giuliani che sta andando via e quindi lo saluto però non lo guffiamo più perché mercoledì è di nuovo con noi scusi volevo sapere come procediamo adesso voi leggete tutte le osservazioni dei cittadini poi noi chiediamo chiarimenti sì ok però li fate tutti poi noi chiediamo chiarimenti e rispondete chiarimenti e poi passate al gruppo dopo e quello che dobbiamo dire lo diciamo alla fine gruppo per gruppo diciamo mentre chiarimento è gruppo per gruppo osservazione per osservazione anche no scusa sì no scusi quando è che finiamo 10 e mezza 22 e 30 previsti allora nel periodo di pubblicazione del del piano nel quale i cittadini hanno potuto presentare osservazioni e nel periodo poi successivo che è coinciso con che è terminato con la prima seduta dei commissione nella quale effettivamente abbiamo iniziato la disamina delle risposte alle osservazioni sono pervenute complessivamente 166 osservazioni di cui dalla risposta che si presenta risultano 31 accolte 68 parzialmente accolte e 67 respinte mi riferisco al discorso che hanno alla tematicità che hanno affrontato prima alcuni consiglieri in particolare il consigliere freschi che correttamente diceva come l'analisi delle osservazioni e delle risposte e anche quelle delle riserve naturalmente ha tenuto conto e si è basato su quel 7 luglio nel quale abbiamo adottato il piano perché è lì che noi con l'adozione abbiamo sancito i contenuti del nuovo piano regolatore e quindi tutte le osservazioni le riserve e le opposizioni sono state analizzate perché fossero coerenti e perché le risposte fossero coerenti con quegli obiettivi e quelle strategie che si incardinano nella nostra adozione del 7 luglio le osservazioni per congruità di risposta sono state suddivise in famiglie in modo che noi si dessero delle risposte appunto coerenti tra di loro e potessimo controllare che non ci fossero delle scelte dettate da una visione non complessiva le famiglie che a priori abbiamo identificato sono la categoria A osservazione di carattere generale o politico B osservazione aree di trasformazione C osservazione di superequazione di osservazione di carattere normativo E osservazione vincoli geologici e sismici F osservazioni area standard G osservazioni per cambio di destinazione d'uso H osservazioni di errori cartografici I osservazioni sul rapporto ambientale L osservazioni sul relazione M osservazioni di azonamento Facendo poi l'analisi di tutte le osservazioni abbiamo visto che ne avevamo nella categoria A B C D E F G ed M quindi non abbiamo osservazioni per errori cartografici osservazioni sul rapporto ambientale e osservazioni sulla relazione Una cosa per siccome il lavoro è molto il raggruppamento delle osservazioni rispetto al librone che ci avete dato come facciamo a sapere quali fanno parte No No Cioè non le avete raggruppate qui sono in successione dalla 1 alla Quindi non le avete raggruppate Lì dentro no Ma da qualche parte sono raggruppate da qualche parte Nei file per poterle presentare E lì non c'era il banco della segreteria non c'era No Voglio dire a 1 no No ho capito dico a 1 non interessa il primo gruppo va bensi il caffè faccio per dire questo non è possibile saperlo Faccio un esempio Cioè lei vuole sapere se c'è un elenco dei numeri delle singole del primo gruppo c'è la 1 7 21 No ce l'abbiamo Oh ecco questo volevo dire no bravo Mentre l'ingegner Tone Guzzi No oppure basta una fotocopia del vostro elenco no perché lei assessore comincerà con la 5 poi la 7 avrà un elenco No io ho un file tutto completo e vado a seguire tutte quelle che mi cadono nella lettera Sì ma capisci che un conto è stare attenti a questioni diciamo di un tipo A un conto tipo B non ce l'abbiamo questo elenco No Eh va bene Colgo l'occasione anche per far presente al Consiglio la seguente questione ovvero che abbiamo visto con il segretario che il decreto legislativo 267 del 2000 all'articolo 78 doveri e condizioni giuridica io non non entro nel merito ma ve lo leggo perché sia di vostra conoscenza dice che gli amministratori e i consiglieri devono astenersi dal presente dal prendere parte alla discussione e dalla votazione di delibere riguardanti interessi o di loro parenti o affini fino al quarto grado cosa vuol dire affini affini vuol dire il fratello di sua moglie il cugino di sua moglie cugini della moglie cugini proprio e cugini della moglie ecco ecco grazie non è corretto è una legge malinterpretata adesso chiama l'avvocato sì sì prego voglio dire possono possono partecipare comunque ai chiarimenti come possono partecipare comunque a questa fase ai chiarimenti sì sì non possono solo partecipare c'è scritto allora partiamo dalla lettera G abbiamo faremo gruppo G gruppo sì lo so ero in commissione ma se può non mi ricordo no 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 ecco ah sì scusate sì adesso ho capito i segni G B D F M E C A prego parto allora G Fernande la parola chiede che il terreno che il terreno di proprietà destinato dal nuovo piano regolatore generale a zona E6 zona di preminente interesse agricolo produttivo venga destinato a zona B1 residenziale a bassa densità la proposta dell'amministrazione non accolta in quanto è in contrasto col tessuto agricolo e contrasta con l'obiettivo del piano finalizzato al contenimento del consumo di suolo 2G Brusadin Beniamino chiede 1 la modifica del punto 4 indici urbanistici ed edilizi dell'articolo 78 in particolare che siano rivisti gli attuali indici fondiari da 0,03 metri cubi metro quadro ad almeno un valore pari a 0,1 metri cubi metro quadro il punto 1 viene non accolto l'indice di edificabilità dei terreni agricoli è fissati dal PURG e quindi non risulta modificabile il punto 2 in subordine la modifica della zona da verde privato WP a E6 zona di preminente interesse agricolo produttivo il punto 2 si propone di non accoglierlo in quanto nel disegno complessivo risulta incongro identificare una zona agricola all'interno di un tessuto edificato prevalentemente a destinazione residenziale questo ha motivato la scelta di verde privato la 2 G6 Andretta Benito chiede che il terreno di proprietà destinato dal nuovo PRGC a zona E6 zona di preminente interesse agricolo e produttivo venga destinato a zona B1 residenziale a bassa densità risulta non accolta in quanto è in continuità con tessuto agricolo e contrasta con l'obiettivo di piano finalizzato al contenimento del consumo di suolo G9 archetipo costruzioni SRL di architetto Barreca e Sesso per un terreno in Viano Garedo chiede che venga rimosso il tratteggio ridefinizione del fronte urbano che impone la distanza minima pari a 3 metri risulta accolta si elimina il tratteggio come richiesto dall'osservante in quanto il permesso di costruire è già stato rilasciato G11 Rigorenzo e Rigorenato chiedono di ampliare la zona residenziale fino ad una profondità di circa 22-23 metri ottenendo così una superficie complessiva di 680-700 metri quadri di aumentare l'indice edificatorio la presente istanza è superata da quella presentata in data 14 settembre 2015 protocollo numero 0059063-A con la quale la proprietà chiede l'archiviazione della presente e quindi viene assorbita dalla risposta all'osservazione numero 40 G13 Santa Rossa Mara, Franco e Clelia chiedono che il terreno di proprietà destinato dal nuovo PRGC a zona E6 zona di preminente interesse agricolo produttivo venga destinato a zona residenziale non accolta perché è in contrasto col tessuto agricolo e contrasta con l'obiettivo del piano finalizzato al contenimento del consumo di suolo G21 Immobiliare Valtramontina S.P.A. chiede il cambio di destinazione d'uso da zona E6 zona di preminente interesse agricolo produttivo a zona H3 zona commerciale produttiva di completamento risulta non accolta uno degli obiettivi del piano è quello di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli pertanto si conferma la destinazione agricola che risulta tra l'altro coerente con l'altro obiettivo del piano finalizzato al contenimento del consumo di suolo G29 Malvani Claudio in qualità di legale rappresentante della società Mattea S.R.L. di Porcia chiede 1. Il riconoscimento per l'area di proprietà della zona B4 residenziale ad alta densità il primo punto risulta non accolto l'area in oggetto richiede un intervento assoggettato a piano attuativo per motivi di cui al punto 2 2. Il ripristino della previsione del PRGC vigente ovvero BRU 7 senza obbligo della perequazione 2. Accolta verrà prevista una zona BRU estesa a tutta l'area di proprietà avente indice 4 metri cubi su metro quadro in accoglimento dell'osservazione numero 3 viene eliminato l'obbligo di perequazione G34 Rosset Mario anche per conto di altre persone chiedono una zona urbanistica confermativa dell'attuale attività di autolavaggio nei limiti degli impianti esistenti in sostituzione della previsione di verdi di arredo urbano risulta accolta e viene integrato l'articolo normativo 100 delle norme tecniche di attuazione definendo prescrizioni normative in relazione alle destinazioni d'uso di richiesta G35 Raffin Piero chiede la modifica da RPU parco urbano comprensoriale a zona residenziale non accolta la casa esistente è in fase di ristrutturazione l'intervento in essere risulta già attuabile e compatibile con la destinazione individuata non vi è quindi la necessità di cambiare il cambio di destinazione che indurrebbe ridurrebbe il valore ambientale dell'ambito G39 Bagaggini Mauro in qualità di rappresentante dell'ATAP di Pordenone chiede la modifica della destinazione ed uso dell'area di proprietà da zona agricola a TT attrezzature ed impianti per il trasporto pubblico al fine di consentire l'ampliamento dell'area a disposizione per l'attività della società ATAP-SPA accolta viene modificata la componente operativa del piano considerando congrua alla domanda di estendere la destinazione e l'interna proprietà trattandosi di attività di interesse pubblico quale il trasporto pubblico urbano G40 Rigo Renzo e Rigo Renato chiedono 1 che venga estesa la zona destinata a utilizzo edificatorio tutto il lotto parzialmente non accolta vista la qualità ambientale della zona di cui fa parte l'ambito oggetto dell'assorbazione 2 in subordine che venga ampliata la zona destinata a utilizzo edificatorio comprendendo interamente gli edifici esistenti parzialmente accolta viene modificata la componente operativa ampliando la zona residenziale fino a comprendere l'edificio residenziale e una congruarea scoperta di pertinenza 3 che venga modificato l'indice volumetrico dell'otto portandola a 1,5 metri cubi su metro quadro non accolta per la stessa motivazione del cui al punto 1 la presente istanza sostituisce l'osservazione numero 11 presentata in data 10 9 2015 protocollo numero 005783 barra A della quale si chiede l'archiviazione 44G faccina marina marchi anna marchi andrea chiedono la modifica della zonizzazione avi ville e chiese votive per realizzazione di 1 3 barra 4 campi da tennis in terra rossa 2 1 2 campi da calcetto in erba 3 strutture di servizio quali clubhouse servizi spogliatoi e depositi nella contenuta a misura di 0,05 metri cubi su metro quadro 4 parcheggi su elementi grigliati a verde 5 una contenuta incontrollata asportazione di impianti arbustivi con conseguente sostituzione finalizzata all'organizzazione dell'ingresso e della zona di sosta precisa che la parte nord della proprietà assoggettata zona AV contraddistinta presentata nell'allegato di circa metri quadri 8000 potrebbe essere ben utilizzata per servizi attrezzature collettive private quali gioco del tennis e calcetto ritenendo che la diversa utilizzazione di parte della proprietà peraltro inferiore al 25% di area totale 1 sia assimilabile a parco e aria verde 2 non limiti la continuità ambientale dell'area e del potenziale ecosistemico generale 3 garantisca alla città un servizio di grande qualità e di importanza proprio perché è vicino alla zona scolastica e sportiva di Pordenone 44 come non avete la risposta no io non stavo leggendo la risposta era il testo tutto dell'osservazione vi ho letto tutto il testo della richiesta che avete nel dischetto quando vi abbiamo dato il dischetto il 22 avevate tutto il testo non accolta in quanto in contrasto con gli obiettivi di piano 45 sempre G chiedono scusi chi Facin Marina Marchi Anna Marchi Andrea chiedono che la zonizzazione sia modificata da zona via zona B2 al fine di consentire la realizzazione di costruzione ad uso abitativo non accolta in quanto in contrasto con gli obiettivi di piano 49 G Puppin Flavio chiede che l'area di proprietà venga trasformata da zona agricola a zona per parcheggio mezzi per trasporto di persone e merci non accolta in quanto in contrasto con il tessuto agricolo e contrasta con l'obiettivo del piano finalizzato al contenimento del consumo di suolo G50 Santa Rossa Mara Santa Rossa Franco Moni detta Bidin Maria Clelia chiedono 1 che l'area di proprietà venga inclusa nel PAC 68 non accolta in contrasto con l'obiettivo di piano finalizzato al contenimento del consumo di suolo 2 in via subordinata che venga perimetrata con un nuovo PAC residenziale 2 non accolta in contrasto con l'obiettivo di piano finalizzato al contenimento del consumo di suolo 52 G Gobbo Analisa e Gobbo Daniela Rosa chiedono 1 che il mappale 591 è porzione del mappale 1109 per il mappale scusate la trasformazione da zona B0 ambito residenziale di interesse morfo tipologico a zona B1 e mezzo residenziale di moderata densità non accolta raro esempio di edificio rurale storico a ridosso del castello di torre e con affaccio sul parco il pregio morfologico dell'ambito sostiene la previsione di piano 2 per la rimanente porzione del mappale 1109 da zona B0 a R più parco urbano non accolta il pregio morfologico dell'ambito sostiene la previsione di piano G53 del Ben Guido in qualità di amministratore unico legale rappresentante della ditta immobiliare Minerva SRL di Pordenone chiede che venga modificata la destinazione urbanistica per l'area di proprietà da zona agricola a zona omogenea C1 zona di espansione residenziale non accolta in quanto in contrasto con l'obiettivo dei piani finalizzati al contenimento del consumo di suolo e con le previsioni del PAIL perché in questo ambito siamo a Vallenoncello in zona PAIL G54 Furlan Enrichetta in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Carini Auto SRL di Pordenone chiede 1 la modifica da zona E5 zona di valore ambientale a zona D3 zona degli insediamenti industriali artigianali esistenti non accolta in quanto in contrasto con l'obiettivo di piano finalizzato al contenimento del consumo di suolo 2 in subordine si è modificata la norma relativa alle zone E5 zona di valore ambientale in modo da consentire la realizzazione delle seguenti attrezzature protezioni stagionali antigrandine per le autovetture in attesa di riparazione o riconsegna ai clienti con strutture che non assumono ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 19 2009 la definizione di edifici 2 non accolta nella zona agricola è possibile realizzare tutte le strutture necessarie all'attività agricola congrua con la destinazione prevista dal piano si fa presente che l'area di 3 nella sua attuale conformazione risulta inserita all'interno di un ambito tutto agricolo e coerente ed è quindi presumibile che tale scelta fosse mirata al riconoscimento di un'attività in essere rispetto al modificato principio penificatorio adottato per la redazione del nuovo PRGC non è congrua con gli obiettivi del piano anche alla luce delle previsioni del PAIL di aumentare l'impatto edilizio 55G De Corte de Abreu Maria Leonete chiede da zona B1 residenziale a basso densità a verde privato risulta non accolta in quanto l'area risulta già parzialmente interessata da fabbricati tettoie esistenti G56 Salamon Domenico Salamon Nerio Mauro Salamon Laura Salamon Gabriele Ius Mauro chiedono di riconoscere l'area di proprietà ora compresa in ambito di zona AP centro storico primario come zona residenziale tipo B non accolta essendo l'ambito risdosso del centro storico e prospicente al fiume Noncello si considera congrua la scelta di mantenerla all'interno dell'AP centro storico primario e quindi subordinarla alla scelta del piano di recupero del centro storico anche in un'ottica di futura valorizzazione e pedonalizzazione di via Riviera del Pordenone in subordine come BRU non accolta si vede il punto 1 62G da Pieve Antonella e Boscareolo Umberto chiedono il parziale cambio di destinazione d'uso da B6 zona di interesse agricolo produttivo a zona B1 residenziale dei mappali individuati al foglio 5 particelle 361 e 331 non accolta in quanto in contrasto con l'obiettivo finalizzato al contenimento del consumo di suolo 64G Cecere Stefania chiede la modifica di destinazione d'uso da zona E5 zona di valore ambientale a zona B1 residenziale a bassa densità della parte di matpale sul quale ricade la parte di tettoia attualmente in zona E5 accolta si accoglie per la superficie della tettoia essendo la stessa ricadente in zona PA il P1 per la quale viene concesso il cambio di destinazione d'uso non è identificabile come aumento di consumo di suolo in quanto area già edificata G65 Don Tondato Roberto Rettore Seminario di Ocesano di Concordia Pordenone chiede 1 la trasformazione da RPC parco urbano comprensoriale a zona H3 commerciale produttiva non accolta in contrasta con l'obiettivo contrasta con l'obiettivo del piano finalizzato al contenimento del consumo di suolo e le azioni di mitigazione ambientale previste lungo l'asse della statale 13 2 in subordine a zona residenziale B ad attuazione diretta non accolta contrasta con l'obiettivo di piano finalizzato al contenimento di suolo e alle azioni di mitigazione ambientale previste lungo l'asse della statale 13 G66 corbucci fabio chiede che l'area identificata catastalmente al foglio 28 mappale 364 e 365 sia modificata da zona VP verde privato a zona omogenea B1 e mezzo residenziale a moderata densità accolta si tratta di area di interesse formale di acquisto precedente all'adozione a noi prevenuta successivamente all'adozione stessa si sottolinea che l'ambito è già interessato dalla presenza di un rudere all'interno di una zona densamente urbanizzata G67 Battistona Antonietta e altri 13 comproprietari chiedono e la stessa area di cui prima che l'area identificata catastalmente al foglio 28 mappale 364 e 365 sia riportata a verde VP verde privato zona omogenea B1 e mezzo residenziale a moderata densità accolta trattasi di area di interesse formale di acquisto precedente all'adozione a noi prevenuta successivamente all'adozione si sottolinea che l'ambito è già interessato dalla presenza di un rudere e all'interno di una zona densamente urbanizzata 2 che l'indice di fibricabilità sia portato in tutta la zona a un metro cubo metro quadro 2 non accolta si valuta congruo il mantenimento dell'indice in essere vista la dimensione limitata dei lotti presenti nella zona per essere chiari i secondi sono quelli che hanno venduto l'area e il primo è quello che l'ha acquistata quello di prima G68 Volpe Mario e Solimeno Paola chiedono il cambio di destinazione urbanistica da E6 zona di interesse agricolo produttivo a zona residenziale B non accolta in quanto in contrasto con l'obiettivo di piano finalizzato del contenimento del consumo di suolo 71G Presotto Simone in qualità di procuratore della Lidl Italia SRL chiede 1 l'intero lotto di proprietà individuato al foglio 6 mappale 228 abbia destinazione urbanistica H3 parzialmente accolta viene ampliata la zona H3 compatibile con le esigenze di salvaguardia e tutela ambientale espressi dagli articoli 120 e 122 dell'NTA 2 la distanza da riportare verso via ungaresca si è ridotta a metri 7,5 mantenendo così l'allenamento del fabbricato esistente non accolta in contrasto con l'impostazione generale del piano 3 si è rimosso ridotta la fascia di mitigazione al fine di poter utilizzare tra le zone a fronte statale 13 come parcheggio non accolta la fascia di mitigazione lungo la statale 13 rappresenta uno degli aspetti fondamentali per la diminuzione degli impatti generati grafico e delle attività presenti 4 all'interno dell'ambito di tutela del tracciato della statale 13 venga resa possibile edificazione dei parametri della zona H3 con i parametri scusate della zona H3 4 parzialmente accolta secondo le motivazioni del punto 1 5 sia consentita l'accesso all'area da tutte le vie perimetrali 5 non accolta in base ai contenuti dell'articolo 107 comma 3 lettera B delle NTA di cui si conferma la validità in pratica loro possono entrare da via montereale e da via ungaresca ma non da via ho sbagliato possono entrare dalla pontebana dalla statale 13 da via ungaresca ma non da quel piccolo affaccio che hanno sulla pontebana 72 su via montereale 72 G Vazzoler Enrico chiede 1 la traslazione della linea di separazione tra la zona B1 e la zona E6 in favore dell'area residenziale accolta si riconosce l'intera sagoma dell'edificio in zona B 2 in subordine l'incremento dell'indice di efficabilità dell'area 2 non accolta in quanto proposta subordinata 74 G Ongaro Roberto in qualità di presidente della società Pordenone Fiera SPA chiede 1 che per le aree di proprietà sia prevista la destinazione a parcheggio prevedendo la possibilità di indice di fabbricabilità congrua alla destinazione proposta 1 parzialmente accolta la tavola CS underscore 19 B alla componente strutturale verrà modificata con l'introduzione di una specifica previsione di struttura tipo business center come indicato nell'elaborato CS 19 D obiettivi e strategie di piano 2 la destinazione ad aree per servizio commercio dotate di un indice di fabbricabilità congruo con la destinazione proposta in sostituzione dell'attuale destinazione ad ambiti agricoli di riqualificazione e riequilibrio ambientale 2 parzialmente accolta con la motivazione di cui è il punto 1 77 19 G Micheluz Giuseppe chiede che 1 il triangolo nord-est del lotto di proprietà sia destinato a verde privato con la possibilità di realizzare parcheggi con pavimento green block accolta la scelta non modifica l'obiettivo di piano 2 si possa costruire in allineamento al fabbricato adiacente esistente della stessa proprietà 2 non accolta via d'ardago non è allargabile su entrambi i lati visto che uno di essi risulta edificato pressoché a confine e il PUMS conferma la larghezza della viabilità di 10 metri pertanto vista la norma di zona non è possibile prevedere la costruzione in allineamento 3 via d'ardago si è allargata a 8 metri con allargamento da ambo i lati della stessa per non pernalizzare solo lo scrivente proprietario 3 non accolta per il vedi il punto 2 G80 Antonioli Sanni in qualità di legale rappresentante società Antonioli SRL chiede la trasformazione da zona agricola a zona di 3 industriale artigianale non accolta contrasta con l'obiettivo del piano finalizzato al contenimento del consumo di suolo anche se l'area di proprietà risulta circondata da ambiti zonizzati di 2 di 3 nella realtà la zona la gran parte dell'area è greenfield ovvero verde e questo è la dimostrazione di quanto emerso dagli studi preparatori al piano e da quelli redati dalla regione che oggi dimostrano che c'è una sovrabbondanza di aree zonizzate a destinazione di EH rispetto a quelle realizzate effettivamente 81G Antonioli Sannio e Antonioli Ezio chiedono la trasformazione di zona omogenea E5 a zona B1 non accolta in contrasto con l'obiettivo del piano finalizzato al contenimento del consumo di suolo 82G Marcuz Mara chiede la trasformazione da zona EB a zona omogenea B di completamento ristrutturazione ed un'adattuazione diretta limitatamente ad una superficie di mille metri quadri non accolta in quanto in contrasto con l'obiettivo finalizzato al contenimento del consumo di suolo 83G Giacomelli Vittorio Magnino Gisella Diziol Paolo Miorra Anna Lucia Mauro Danilo salute Faraoni Luca e Brusadin Monica chiedono 1 la trasformazione da zona agricola E a zona omogenea B1 non accolta in quanto in contrasto con gli obiettivi e le strategie di piano con particolare riferimento alla tutela dei pozzi dell'acquedotto 2 in subordine a zona VP accolta si accoglie la trasformazione richiesta a verde privato 85G Pasini Edina Libera e Pasini Renata chiedono 1 che a tutti i terreni in oggetto sia riconosciuta piena capacità edificatoria in considerazione della futura riduzione di superficie del mappale 781 prevista per l'allargamento di via Navarons scusate e la nuova destinazione urbanistica riduce la capacità edificatoria dei terreni che con la loro ridotte dimensioni non potrebbero esprimere una volumetria sufficiente alla realizzazione di un edificio in linea con i caratteri urbani dell'area non accolta in quanto l'indice fondiare adottato con il nuovo PRGC è coerente con l'edificabilità prevista all'intorno 89G Bortolin Giorgio e Naccarato Marina chiede 1 di verificare attentamente le scelte alla luce del fatto che per poter mantenere dei fabbricati vetusti e privi di caratteristiche storico-architettoniche si costringe la viabilità ciclopedonale a transitare con pericolo verso il comune di Cordenons 1 accolta l'amministrazione ha proceduto ad attenta verifica della situazione viabilistica e dei vincoli costituiti dallo Stato in essere e la risultanza di tali analisi sono contenute nel Pums non è quindi necessaria alcuna modifica al PRGC 2 che sia ripristinata la previsione di BRU35 non accolta le scelte presentate e quelle in grado di contemplare da un lato la necessità della proprietà di valorizzare il bene zona B2 e contemporaneamente di perseverare un elemento storico di preservare un elemento storico testimoniale dell'antica matrice morfologica urbana zona B0 evidenziato anche nel parere espresso dalla soprintendenza al piano attuativo di Avea Fontane nel quale l'area era inserita 3 che sia eliminata la previsione a zona VP e che la stessa sia compresa nel perimetro della proprietà 3 accolta viene modificata la destinazione VP a B2 in quanto compatibile con l'obiettivo di rigenerazione dell'ambito 90G Palazzin Simone chiede che le previsioni di assetto dell'intero ambito di proprietà siano complessivamente riviste consentendo la ricollocazione dei volumi a seguito della demolizione delle parti prive di interesse storico architettonico utilizzando parte dell'area destinata a verde privato non accolta in quanto le norme tecniche di attuazione per le zone B0 consentono già gran parte degli interventi richiesti e contemplano un volume di adeguamento pari a 150 metri cubi inoltre la vigente normativa regionale piano casa prevede già anche se per un periodo di tempo limitato la possibilità di ampliare gli edifici esistenti in zona B0 fino ad un massimo di 200 metri cubi nel rispetto dei caratteri distintivi dell'edificio e del suo rapporto con l'area scoperta 91G Colussi Mauro per sé per conto di Colussi Bruno Colussi Giorgio Lucati Velia Colussi Guglielmo Colussi Sabrina e Scodellaro Bruna chiedono la modifica della destinazione urbanistica da zona B1 asteriscato a zona propria che consenta 1 il recupero e riuso degli immobili attualmente a destinazione produttiva per insediare l'attività commerciale di vicinato inferiore a metri quadri 400 di superficie di vendita attraverso un cambio di uso che armonizzi la destinazione urbanistica con la classificazione catastale in considerazione anche degli imposizioni fiscali 1 parzialmente accolta la destinazione d'uso B asteriscato 1 e gli usi in essa consentiti già permettono quanto richiesto nei limiti consentiti delle norme del PAIL e delle norme geologiche idrauliche del PRGC non è quindi necessaria alcuna modifica al PRGC 2 la trasformazione con ampliamento dell'immobile esistente a destinazione residenziale da sviluppare lungo i fronti di via maestre 2 parzialmente accolta in quanto la norma vigenza è già consente quanto richiesto nei limiti consentiti dalla norma del PAIL e delle norme geologiche idrauliche del PRGC non è quindi necessaria alcuna modifica del PRGC 93G Martini Andrea e Martini Marco chiedono che venga mantenuta la BRU numero 3 prevista dal PRGC vigente trasformando l'indice territoriale 40.000 con l'eventuale inserimento di elementi perequativi 1 accolta verrà prevista una BRU estesa tutta l'area di proprietà aventi l'indice territoriale uguale a 4 metri cubi su metro quadro si specifica inoltre che in accoglimento dell'asservazione numero 3 per tutte le BRU viene eliminato l'obbligo della perequazione 2 inoltre la conferma della possibilità di demolire i fabbricati esistenti e il libero riposizionamento delle volumetrie 2 non accolta la demolizione degli edifici di cortina e in contrasto con gli obiettivi generali del piano in merito alla rigenerazione urbana gli obiettivi di salvaguardia dei caratteri identitari dei luoghi e della necessità di relazionarsi con la presistenza della scuola materna comunale e agli obiettivi scusate di salvaguardia dei caratteri identitari dei luoghi e alle necessità di relazionarsi con la presenza della scuola materna comunale 97G Farinella Stelvio Loviso Rosanna Farinella Alessandro e Farinella Stefano chiedono la trasformazione da zona H2 a zona P3 in ampliamento dell'attuale zona P3 di Via del Bosco e il contestuale aumento proporzionale della volumetria potenziale attualmente metri cubi 20.000 scusate non accolta in contrasto con gli obiettivi e le strategie di carattere strategico del piano 98G Mazzega Sbovato Giacomo chiede il cambio di destinazione urbanistica da zona E B a zona B1 di tutto di parte degli immobili di proprietà al fine di poter edificare abitazioni e laboratori non accolta in continuità con il tessuto agricolo e contrasta con l'obiettivo di piano finalizzato al contenimento del consumo di suolo 101G Coccozza Vincenzo in qualità di legale rappresentante della ditta Coccozza SRL di Pordenone chiede la modifica da zona E6 a zona EB a zona D3 destinazione del PRG vigente che risulta compatibile con le attività esistenti parzialmente accolta si ripropone la zonizzazione del piano previgente esclusivamente per quanto riguarda la zona D3 che dovrà in ogni caso rispettare le specifiche norme di salvaguardia previsti dagli articoli 128 dell'NTA e dell'articolo 7.1 delle norme geologiche ed idrauliche 102G Mozzonna Renato Luisa Gabriella Rosetta Daniela Andrea Antonio Anna Maria Cristina Cristian Stefano De Biasiolina chiedono 1 che venga confermata la previsione del PRG vigente 1 parzialmente accolta la previsione del PRG vigente entreranno in vigore soltanto la decadenza e successiva revoca del vigente piano di recupero che attualmente consente quanto richiesto 2 la modifica da verde privato WP a zona residenziale verde pubblico mantenendo la capacità edificatoria ed eventualmente modificando la previsione d'attuazione indiretta d'attuazione diretta 2 non accolte in quanto in contrasto con gli obiettivi generali del piano 103G Falomo Maria Rosa chiede che la proprietà venga esclusa dal PAC 60 e venga destinata a zona agricola accolta in quanto coerente con gli obiettivi di piano finalizzato al contenimento del consumo di suolo aspettate che arrivo 109 G Pigat Olga Girardi Paola Girardi Paolo Girardi Sante Galante Remigio Pavan Maria Teresa Conficcone Gianfranco e Bertoli Alda chiedono la modifica da zona B0 a zona B4 1 non accolte in quanto in contrasto con gli obiettivi e le strategie del piano regolatore generale in relazione alla conservazione e alla valorizzazione delle caratteristiche tipologiche degli edifici esistenti di valore testimoniale 2 in subordine B2 non accolta per le motivazioni di quel punto 1 110G mio professore Sacchiara in qualità di presidente Banca Popolare Friuladria SPA di Pordenone chiede la modifica della zona BVE ad una zona B che consenta di realizzare all'interno del cortile la nuova sala conferenze ai servizi accessori con una volumetria pari a 2.000-3.000 cubi accolta verrà prevista una BRU che potrà disporre di una volumetria in ampliamento 110 111G Gianna Paolo chiede in qualità di presidente Banca Popolare Friuladria SPA chiede la modifica della zona BVE a zona B che consenta di realizzare all'interno del cortile la sala conferenze e i servizi accessori accolta verrà prevista una BRU che potrà disporre di una volumetria in ampliamento sala conferenze e servizi accessori D 111G Gianna Paolo chiede la modifica di una superficie di metri quadri 400 circa da zona RPC a zona B1,5 non accolta in quanto in contrasto con gli obiettivi e le strategie di piano in relazione al contenimento del consumo di suolo 112G Pigat Olga Girardi Paola Girardi Paolo Girardi Sante chiedono la modifica da zona B0 a zona B4 è uguale alla 109 non accolta in quanto in contrasto con gli obiettivi e le strategie del piano regolatore generale in relazione alla conservazione e alla valorizzazione delle caratteristiche tipologiche degli edifici esistenti di valore testimoniale in subordine in zona B2 non accolta per le motivazioni del punto 1 113G Dreamhouse SNC Dianese Fabio e Celeprin Antonio chiede la modifica da zona VP A a zona B che consenta l'ampliamento e la sopraelevazione come previsto dal piano di recupero di torre parzialmente accolta cambio da VP a B0 in coerenza all'intorno urbano 114G Falconieri Giovanni Pezzot Maura chiede la modifica da zona E6 a zona B1 residenziale a bassa densità del proprio immobile ed eventualmente propone la rettifica della cortina edificabile fino a comprendere anche i successivi terreni posti sul lato sud anche in aree di altre proprietà non accolta in quanto in contrasto con gli obiettivi le strategie di PRGC in relazione al contenimento del consumo di suolo 117G Tattai Aldo SRL Feletto Fides chiede 1. La modifica da zona agricola E6 a zona B residenziale parzialmente accolta previsione da inserire nella tavola CS19A componente strutturale da attuarsi con previa variante che preveda attuazione indiretta secondo quanto previsto dall'elaborato CS19D obiettivi strategie di piano in alternativa 2. Zona H commerciale a supporto della residenza non accolta in conseguenza il parziale accoglimento del punto 1 118G Scrizi Maria Teresa Tedeschi Mario Tedeschi Fulvia Pacetto Laura Pacetto Piero chiede la modifica da zona BVE a zona B4 parzialmente accolta l'isolato in cui è stato e situato l'edificio oggetto di osservazione manterrà la destinazione BVE nella componente operativa tuttavia verrà previsto all'interno della componente strutturale la possibilità di modificazione della sotto zona B anche in rapporto all'esito della valorizzazione relative alla proposta di rigenerazione urbana dell'isolato 123G Presotto Raffaele anche per conto di Presotto Mario e Presotto Andreino chiedono che entro breve la caserma scusatemi considerato che entro breve la caserma dei Carabinieri verrà dismessa e che l'attuale destinazione non trova ragionevole prospettiva di mercato chiedono 1 che l'area in cui insistono parte degli immobili attualmente adibiti a caserma dei Carabinieri sia trasformata in area ad uso residenziale con indice coerente o superiore a B3 1 parzialmente accolta accolta la previsione di trasformazione ad uso residenziale con la previsione di un piano attuativo BRU che regolerà i criteri e i tempi di trasformazione 2 in alternativa che venga destinato ad uso socioassistenziale o a medici per la persona 2 non accolta in ragione dell'osservazione di cui al punto 1 124G Zanco Fabio Legare questa in commissione era quella in cui veniva specificato che comunque non si doveva superare i limiti dell'edificio esistente attorno a questa a questa edificio quello per cui si della casamera dei carabinieri se deve essere destinato ad uso residenziale se non erro ma non c'è collega sperotto che era quello attento no niente 124G 124G Marco chiede il cambio di zonizzazione da D3 industria artigianale a zona mista che permetta l'insediamento di destinazione d'uso commerciale artigianale direzionale residenziale non accolta in quanto le previsioni di zona mista richiesta in contrasto con la definizione della zona mista prescritta dal PURG e in contrasto quindi generale con il PRGC 125G Abbate Cristiano e Pinn Rossella chiedono la modifica dell'area di proprietà da zona D3 a zona che permette la realizzazione di un edificio direzionale non accolta in quanto in contrasto con gli obiettivi generali del piano siamo sempre nella stessa area 130G De Marco Mauro Facchin Mara chiedono il mantenimento della zona B1 2 e soppressione della zona BW in quanto il lotto è primo di volumetria esistente e non è stato interessato dai fenomeni sondativi sostengono non accolta in quanto in contrasto con gli obiettivi del PIL e del PRGC le zone asteriscate sono tutte quelle individuate dalla dall'adozione all'interno del piano del PIL che è uno strumento sovraordinato di tutela del territorio con finalità idrogeologiche 133G Mozzon Fabrizio e Chimento Roberto chiedono la modifica da zona E B a zona residenziale B del terreno di pertenenza B non accolta in quanto in contrasto con gli obiettivi e le strategie del PRGC in relazione al contenimento del consumo di suolo 134G Alessandro Bruna Franca Laura Lorenzo nonché per Pavaran Francesco e Giuseppina chiedono la modifica da B0 a B3 per l'area censita al mappale numero 969 non accolta in quanto l'obiettivo di piano è preservare i tessuti urbani originari anche preesistenti nel territorio 141G Santa Rossa Eliana e Santa Rossa Anna Maria chiedono la modifica da zona BVE a zona B6 accolta verrà prevista una zona residenziale B6 146G Pignat Attilio legale rappresentante della società Vigne Fantinna D'Ara SRL di Pordenone chiede che le aree di proprietà e B per le aree di proprietà e B le seguenti destinazioni 1 destinazione alberghiero ricettivo direzionale e commerciale sono indicati i numeri col mouse vi indica le aree 2 artigianale di servizio servizio per il terziario sportivo e tempo libero e commerciale 3 artigianale di servizi servizi per il terziario e commerciale 4 recupero dell'edificio esistente con ampliamento di 600 metri quadri al piano terra ad uso ricettivo commerciale 5 parcheggio a verde attrezzato a servizio dell'area 4 collegandolo con un percorso pedonale interrato in subordine chiedono che l'edificio esistente al foglio 29 ma palle 102 ora ad oso agricolo venga riconosciuto come area con funzione ricettiva allora riguardo al punto 1 ovvero destinazione alberghiere ricettivo direzionale commerciale 1 parzialmente accolta l'area oggetto della specifica osservazione unitamente a quella dell'osservazione 2 e 3 verranno introdotte in un'area di trasformazione a destinazione ricettiva P3 nell'apposita scheda verrà specificato il mantenimento degli edifici esistenti con l'ampliamento del 20% ed utilizzo degli rimanenti area a compensazione ambientale per quanto riguarda il punto 2 artigianale di servizio servizi per il terziario sportivo e tempo libero e commerciale non accolta per le motivazioni di cui al precedente punto 1 per quanto riguarda il punto 3 artigianale di servizio servizi per il terziario commerciale non accolta per le motivazioni di cui al precedente 1 punto 1 4 recupero dell'edificio esistente con ampliamento di 600 metri quadri al piano terra ad uso ricettivo commerciale parzialmente accolta l'arrioggetto della specifica osservazione unitamente ai contenuti del punto 5 verranno introdotte in un'area di trasformazione a destinazione ricettiva P3 nella scheda verrà specificato il mantenimento degli edifici esistenti con ampliamento di 600 metri quadri e utilizzo delle rimanenti area a compensazione ambientale come da scheda apposita punto 5 parcheggio a verde attrezzature servizio dell'area 4 non accolta per le motivazioni di cui al precedente punto 4 147 G Pignatta Tiglio legale rappresentante società Vigne Fantin Nadar SRL di Pordenone chiede che venga soppresso il corridoio ecologico che blocca la capacità edificatoria di circa metri cubi 9000 così come garantita dal decreto del ministero dei beni ed attività culturali allegato all'osservazione parzialmente accolta la previsione del corridoio ecologico non può essere eliminata in quanto strategica per garantire gli obiettivi ambientali e di sostenibilità del piano tuttavia verrà modificata l'individuazione del corridoio in una zona dell'otto che garantisca ai proprietari le eventuali possibilità di edificazione così come prescritto dal vincolo della soprintendenza 149 G Carlette Maria Antonietta e Carlette Sergio chiedono che l'immobile venga destinato a zona B1 anziché B0 accolta verrà conseguentemente modificata da B0 a B1 151 G Mozzon Paolo e Mozzon Giovanni chiedono 1 che la proprietà in zona EB esterna ai 200 metri alle aree di tutela dei pozzi sia edificabile e abbia criteri e limiti specifici in materia di tutela ambientale e con destinazione coerente con le attività già presenti lungo la statale numero 13 non accolta in quanto in contrasto con gli obiettivi e le strategie del piano con particolare riferimento alla tutela dei pozzi dell'acquedotto 2 che l'area oggetto della presente osservazione sia ricompresa all'interno delle aree dotate di diritti volumetrici non accolta per le motivazioni del cui al punto 8 3 che siano stabilite le norme per le aree B localizzate all'interno delle aree a tutela dei pozzi di captazione ad uso idropotabile 3 non accolta in quanto la normativa relativa alle zone B risponde già perfettamente ai requisiti di carattere ambientale igienico sanitario 4 di integrare l'articolo 61.6 delle NTA in modo da consentire l'integrazione delle aree con termine per la realizzazione delle pertinenze ad uso ad esse connesse 4 non accolte in quanto in contrasto con gli obiettivi generali del piano 5 che anche all'interno delle relazioni di flessibilità siano inseriti i riferimenti per la pianificazione attuativa delle zone B delle fasce centrali di Pordenone all'esterno delle aree di tutela dei pozzi 5 non accolta l'impostazione strategica della relazione di flessibilità esclude l'impostazione suggerita dall'osservante in quanto la stessa aumenterebbe il consumo di suolo 6 che l'area di proprietà sia qualificata come aree sottoposta per equazione non accolta per le motivazioni del cui al punto 8 7 di integrare l'articolo 61.6 dell'NTA in modo da consentire l'integrazione delle aree con termini per la realizzazione delle pertinenze ad uso ad esse connesse 7 non accolta per le motivazioni di cui al punto 4 8 di trasferire la volumetria dell'edificio da demolire in altro sedime sempre all'interno della stessa zona EB 8 parzialmente accolta allo stato delle previsioni di ristrutturazione della statale 13 la presenza dell'edificio oggetto di osservazione non pregiudica la funzionalità della struttura tuttavia al fine di garantire anche in futuro il funzionamento e la possibilità di ampliamento dell'infrastruttura verrà previsto all'interno della componente strutturale che la volumetria dell'edificio esistente potrà essere recuperata in altro sedime con la modalità prevista dall'elaborato CS19D obiettivi e strategie di piano 152G Mozzon Giovanni Mozzon Paolo chiede di destinare a servizi e impianti tecnologici LI anche il mappare 525 39 42 144 per circa 16.000 metri quadri parzialmente accolta a salvaguardia delle attività produttive parte dell'area oggetto della presente osservazione verrà inserita con l'introduzione di una previsione di destinazione a LI o di 3 nella tavola CS19A 155G fresco geometra Iginio chiede di cambiare la destinazione dell'area da verde di arredo urbano a zona omogenea a Catere per realizzare un'attività di carattere commerciale legato alla vendita e produzione di piante da fiori e fiori da terrazzo accolta e coerente con gli obiettivi e le strategie di piano che prevedono il riuso di aree all'interno del tessuto urbano 158G geometra fabbro massimo in qualità di tecnico incaricato dalla signora De Marchi Luciana chiede di ridurre parzialmente il vincolo esistente RPC parco urbano comprensoriale escludendo da tale vincolo un'area di circa 3408 m2 di trasformare successivamente tale lotto in un'area edificabile assimilabile alle zone omogenee residenziali circostanti di tipo B e di propone l'accessazione al comune del lotto numero 3 di circa 1686 m2 preve a realizzazione di una recinzione e la creazione di una piazzola per il parcheggio di autoveicoli a spese sostenute dalla stessa non accolta in quanto in contrasto con gli obiettivi e le strategie di PRGC in relazione al contenimento del consumo di suolo 160 G Boranga Paola Presidente Fondazione Pia Baschiera chiede con specifico riferimento ai mappali 325 328 e 435 la porzione di mappali 530 e per una superficie complessiva di metri quadri 98.276 la modifica da zona E.B. ad una destinazione che consenta la realizzazione di corsi di guida sicura pista di circa 1500 metri di lunghezza con carreggiata di 9 metri ma anche di presentazioni di prodotti motoristici test drive nonché spazi per eventi meeting e formazione non accolta in contrasto con gli obiettivi e le strategie del PRG in relazione al contenimento dell'uso del suolo e con il contesto urbano adiacente 163 G Laura no Laurita Roberto parroco protempore della parrocchia di San Giorgio chiede che tutta la proprietà venga compresa nelle zone BVE prevedendo lungo la strada un'area destinazione a verde pubblico in continuità col verde già esistente parzialmente accolta verrà modificata la destinazione da VP a BVE per le parti di proprietà dell'osservante mentre la restante area pubblica assumerà la destinazione di verde di arredo 166 G Dattoli Francesco legale rappresentante dell'ABS G Caldaie queste ultime due osservazioni sono legate alla bretella sud sono state viste con l'ente realizzatore dell'opera chiede la modifica della destinazione da zona agricola VP dei mappali 744 745 764 747 748 vista la concessione incomodato d'uso come parcheggio privato dal commissario a seguito dell'osservazione della comunicazione dell'esproprio presentata dalla proprietà accolta viene introdotta la modifica richiesta dall'osservante in cartografia e si integra la normativa per le zone con l'individuazione di viabilità sotterranea con l'obbligo di reperire il parere dell'ente gestore della strada per gli interventi del realizzarsi in superficie 167 g stiva Laura chiede che venga ripristinata la zona di 3 sopra il tracciato della galleria e tolta la fascia di rispetto stradale attualmente prevista per poter edificare qualsiasi tipo di edificio anche sopra il sedime della nuova galleria uno parzialmente accolta in quanto viene integrato l'articolo 108 dell'NTA con un nuovo comma viabilità in galleria in cui si introduce la possibilità di utilizzare il sedime superficiale secondo le norme delle zone con termine previo parere favorevole dell'ente gestore della strada tale possibilità è da attuarsi solo a conclusione dell'opera viabilistica stessa le prescrizioni vale anche per la fascia di rispetto 2 che venga introdotta una nuova comma all'articolo della zona D3 che preveda la possibilità di realizzare una nuova edificazione sopra il sedime della nuova galleria previo parere dell'ente gestore della viabilità medesima 2 parzialmente accolta vedi punto 1 grazie assessore signori consiglieri ci sono richieste di chiarimento consigliere lo perfido c'è richiesta di chiarimento su ciò che ha esposto l'assessore no bene lettera B no scusa non l'avevo visto allora il consigliere lo perfido grazie grazie presidente grazie assessore anche per l'ora di lettura per quanto riguarda l'osservazione numero 110 quella riguardante la richiesta di modifica di zona di una zona B che consente di realizzare all'interno del cortile la nuova sala conferenze e servizi accessori con una volumetria come appunto richiesto che viene accolto il primo punto la motivazione è che verrà prevista una zona BRU che potrà disporre di una volumetria in ampliamento con le modalità morfo tipologiche previste dalla scheda normativa tenendo presente che non sono ammessi interventi del sottosuolo nel senso della normativa idrogeologica ma la tipologia di interventi che vengono fatti qua è una zona particolarmente delicata se non ricordo male c'è un altro intervento che però fa parte della categoria D quella per quanto riguarda per quanto riguarda la fondazione della Sacra Famiglia in cui si diceva che si accoglie parzialmente la vostra richiesta però si la vostra voi amministrazioni dite si accoglie la vostra richiesta però bisogna prima che ci presentiate un piano per quanto riguarda la tipologia di intervento per quanto riguarda anche se non ricordo male si parlava anche del piano finanziario dell'opera e stiamo parlando comunque di un'osservazione che riguarda degli interventi su edifici esistenti sui quali poi dovrebbe insistere un interesse pubblico cosa che se non erro in consiglio in commissione è stato detto anche per quanto riguarda questo interesse collettivo scusi che però non viene citato all'interno dell'osservazione allora per cercare di rinfrescare un po' qual è la situazione riguardante questa osservazione potrebbe specificare meglio qual è la tipologia di intervento previsto per quanto riguarda questo tipo di osservazione la numero 110 grazie consigliere Giannelli lei la parola perché rimedi questa è un'osservazione fatta da quel povero agricoltore di campagna al quale non si può dire di no ah no no alla banca vabbè alla banca non si può dire di no scusa domanda vi siete chiesti se quell'area che dovrebbe essere occupata dall'auditorium era standard a parcheggi prima domanda perché in quel caso saltano i parcheggi sentato standard di cui alla concessione edilizia numero del seconda si premetto che io abito vicinissimo ma sto facendo sta prima proprio per un fatto avete fatto la verifica sulle distanze tra le pareti finestrate oppure l'inserimento di una BRU vi fa bypassare no questo questo dettaglio tecnico perché si sa che con un piano attuattivo puoi andare in deroga alle distanze conosco molto bene il posto e naturalmente mi rendo conto che è difficile dire di no però verificate lo standard a parcheggi perché salta visto che avete impedito che è una cosa inconcepibile di poter fare i parcheggi interrati cioè in quel posto lì si può fare in tutto il mondo dal tunnel nella manica in poi si è dimostrato che costruire dove c'è acqua non è un problema quindi sono stato molto preciso grazie 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 presidente allora sì sempre sull'a questa osservazione la 110 chiedevo appunto quali erano le ragioni che vanno indotto l'amministrazione ad accoglierla in commissione appunto come anticipato fu riferito dell'interesse pubblico a questo punto chiedo appunto di spiegare qual è stato il senso quali sono le ragioni che hanno indotto l'amministrazione ad accogliere questa osservazione e chiedo anche se non sia visto che si tratta di interesse pubblico e visto che comunque dovesse essere verrà realizzata se tutto andrà a buon fine una nuova sala conferenze che ci sia quindi che l'amministrazione impegni la banca con una convenzione in questo caso a lasciare visto che c'è un interesse pubblico all'utilizzo delle associazioni del comune almeno due giorni alla settimana la sala conferenze per le associazioni territoriali o comunque sia legata a quell'insieme di luoghi pubblici del comune dove si possono svolgere appunto incontri convegni di interesse di questo comune visto che l'interesse pubblico sottende la decisione dell'amministrazione grazie altri chiarimenti altrimenti passiamo la parola all'assessore assessore a lei la parola per le risposte grazie presidente allora innanzitutto spiego spiego qual è il principio che ci ha portato ad accogliere tutte le o a parzialmente accogliere tutte le osservazioni pervenute all'interno del centro ring perché sono state trattate tutte nello stesso modo nel senso che noi abbiamo siamo partiti dalla considerazione che considerando la rigenerazione urbana uno dei principi fondamentali di questa città ci sembrava fondamentale far sì che la città costruita sia quella che può andare a modificare debba andare a modificarsi nel tempo al fine di innescare quei processi di trasformazione anche virtuosi abbiamo anche visto già successo in alcuni ambiti mi viene in mente l'ambito ad esempio del largo San Giorgio dove il ridisegno urbano ha indotto ad una serie di dinamiche ma ha condotto anche ad interventi su edifici che erano esterni all'ambito stesso e che improvvisamente vedendo la valorizzazione degli affacci delle parti retrostanti hanno messo in valutazione il ripensamento anche dei loro edifici quindi da questo principio abbiamo deciso di trattare in modo uniforme tutte quelle domande che ricadevano all'interno della parte centrale quindi entro ring con degli strumenti che erano diversificati a seconda delle esigenze ad esempio avete notato che c'è un accoglimento di un B6 che detta così ecco quel B6 è quella casetta piccolissima in largo piazzale Duca d'Aosta dove ci sono palazzoni di sei piani a destra e a sinistra e un lippuzzo di due piani schiacciato in quel caso naturalmente avendo di partenza con il piano detto tutto ciò che all'interno del ring è riconferma della cubatura esistente loro non avrebbero e non potrebbero innescare un processo di rigenerazione che stiamo aspettando da quando hanno fatto negli anni 60 gli altri edifici perché poi erano gli unici che non hanno aderito a quel progetto e tutt'oggi noi vediamo questo totale fuori scala perché la casa è incongrua rispetto cioè quell'edificio è incongruo rispetto all'intorno così come avrete notato che ci sono delle azioni invece inserite nei piani struttura perché sono delle case delle situazioni abitative consolidate dove tuttora vivono i genitori per essere chiari ma che un domani possono pensare di ridiventare un disegno urbano complessivo e quindi si è inserito nel piano struttura lì la previsione di trasformazione con l'aumento di cubatura questa è una tipologia di intervento tipica dell'urbanistica che si chiama densificazione e che ha logica proprio all'interno dell'ambito del ring dove però con lo strumento della BRU abbiamo anche voluto ad esempio preservare alcuni elementi che consideravamo importanti come la relazione tra altre situazioni intorno mi viene in mente due BRU che sono conseguenti l'una all'altra che sono diventate con un indice 4 dove però diciamo attenzione quando le progettate perché dietro avete una scuola materna e quindi relazionatevi con questo e col fatto che vi attestate su una di quei pezzi ancora di tessuto urbano disegnato sottile che è la memoria storico-testimoniale viene definita dall'urbanistica bene questo è il governo della zona centrale della città e quello che ci ha portato appunto ad accogliere queste tutte queste osservazioni tutte e che è molto diverso dal chiedere invece un cambio di destinazione ed uso esterno nella zona della campagna dove non ci sono i servizi dove non ci sono i sottoservizi dove non c'è tutta quella rete che è necessaria e che sono le opere di urbanizzazione che prevedono però anche delle possibili futuri ampliamenti della città per questo sono state trattate in ogni caso in modo diversificati questi ambiti in questo caso la richiesta era finalizzata la realizzazione di una sala con un relativo reperimento di standard perché naturalmente qualsiasi intervento loro dovranno dimostrare non è compito dell'amministrazione che reperisce anche lo standard di parcheggi loro lo devono altrimenti lo devono monetizzare e la monetizzazione può servire per la realizzazione di strutture ma in ogni caso è onere del proponente dimostrare il reperimento più che di interesse pubblico si è parlato di interesse collettivo nel senso che diventa un'altra delle proposte all'interno del tessuto della città per le quali le amministrazioni in futuro possono pensare di fare convenzioni di utilizzo e che in ogni caso vanno ad arricchire l'offerta che la città stessa ha nella zona centrale e che rende attrattiva la zona centrale anche se abbiamo già molti spazi a disposizione per quanto riguarda la questione legata all'osservazione che vedremo penso di averle dato spero di averle dato questo questo starà nella bravura di chi la contratterà dell'urbanistica agli altri non chiediamo nulla agli altri a quelli del B6 chiediamo che facciano il B6 che migliorino al fronte per quanto riguarda il paragone con l'intervento relativo all'opera Sacra Famiglia consigliere Loperfido sì sì era solo per capire se in commissione è stato spiegato come questo questo intervento fosse legato risulti e ci sia servito per fare un ragionamento complessivo sulle scuole superiori se si ricorda legato anche all'interlocuzione che abbiamo avuto con la provincia relativamente alla necessità di realizzazione o meno di nuovi istituti superiori con la provincia perché la provincia è l'ente gestore delle scuole superiori non lo è il comune la provincia sarà gestore non mi addentro in questo terreno però parlando con gli uffici provinciali competenti è emerso come piuttosto che nuove strutture che di nuove strutture la nostra dotazione scolastica complessiva abbia possibilità e necessità di prevedere degli ampliamenti o delle ristrutturazioni importanti di strutture già presenti negli ambiti quindi dei prefabbricati leggeri o pesanti che siano ma dei prefabbricati già in essere questa cosa ci ha portato visto che in questo caso si parlava di veniva richiesto dall'osservante lo vedremo nell'esamina dell'osservazione del riconoscimento della possibilità di realizzare una scuola ci ha portato a modificare e interpretare l'articolo complessivo per le scuole superiori dicendo che laddove ci sarà necessità di realizzare una scuola e quindi prevedere degli ampliamenti ci sembra congruo e necessario che gli studi propedeutici per la valutazione della sostenibilità dell'intervento vengano redatti prima del ma questo vale sia per quell'area che per tutte le altre le scuole superiori identificate perché sicuramente la scuola di per sé induce a delle caratteristiche di traffico di movimento eccetera che hanno necessità quantomeno di prevedere una serie di interventi che possono essere pianificati che siano a carico anche di altri enti ma che siano pianificati e che sia di cui sia tenuto conto nella fase propedeutica di progettazione non a posteriori per essere molto chiara come lo sono stata in commissione faccio tesoro dell'esperienza di via Ferraris che secondo me non è una delle migliori esperienze di gestione che noi abbiamo avuto visto che a seguito della realizzazione della scuola l'amministrazione ha dovuto mettere in atto tutta una serie di azioni e di correttivi indotte dalla frequentazione della scuola ecco mi sembra che sia opportuno che questa fase sia legata alla fase propositiva e progettuale perché diventa una garanzia per tutti per il consiglio per la città per i ragazzi che usano le scuole per l'intorno nel quale le scuole si vengono ad inserire perché le scuole hanno dei carichi importanti e costanti durante nove mesi perché c'è anche nove mesi della vita della città la banca fa una sala conferenze che utilizzerà se va d'accordo con il consigliere Sperotto per usi per usi non solo privati ma anche di relazione di interesse collettivo ma in ogni caso il carico indotto da una sala convegni rispetto a quello di una scuola in ogni caso una sala convegni di 150 persone rispetto ad una scuola superiore è leggermente diverso sia come quantità di giorni che come carico di persone bene grazie mi manca mi manca il consigliere Giannelli naturalmente nella BRU loro dovranno dimostrare l'avevo già detto ma era in mezzo al discorso dovranno dimostrare la verifica di tutti i parametri compreso quello dei parcheggi indotti che loro devono reperire terminato sessore sì bene andiamo al punto successivo adesso grazie famiglia B B3 la B numero 3 ve la legge un secondo l'ingegner Bertone Guzzi eccoci allora presentata da Pighin Livio in qualità di procuratore di Feletto Teresina l'assessore ha chiesto di lontanarsi due minuti è stato concesso al presidente ascoltiamo il funzionario tanto arriva l'assessore grazie non c'è problemi allora l'assessore numero 3 presentata da Pighin Livio in qualità di procuratore di Feletto Teresina Pighin Fernando Pighin Anna Maria Pighin Camilla e Pighin Luigi proprietari degli immobili licensiti cantastalmente giornale 19 2009 la stessa potrebbe essere destinata all'attuazione diretta proposta parziale accoglimento motivazione viene eliminata la perequazione nelle BRU ritenendo che tale scelta rappresenta un ulteriore stimolo alla rigenerazione del tessuto edilizio esistente che è un obiettivo del PRGC non è pensabile invece assoggettare all'attuazione diretta un'area così ampia che deve nel progetto contemplare azioni di ridisegno urbano demandabili solo allo strumento dell'attuazione indiretta richiesta 2 che la quota perequativa non sia un obbligo ma un'eventuale scelta dell'imprenditore per avere ulteriore volumetria nelle sole aree soggette a riqualificazione urbana proposta non accoglimento e motivazione vedi la risposta al punto 1 punto 3 richiesta 3 che ai fini della perequazione o compensazione l'amministrazione consideri anche le proprietà e di lavori eseguiti dagli iscriventi per interventi di viabilità e pista ciclabile a tale proposito la proprietà è disponibile a compensare con l'accessione delle aree di via Le Grigoletti via Rorario e via Casarsa non accolta vedi punto 1 4 che si è chiarito il valore prescrittivo o indicativo dei contenuti della scheda BRU 4 accolta in quanto già specificato nella scheda delle norme tecniche come già indicato nell'articolo 11 delle NTA 3 non è quindi necessaria alcuna modifica al PRGC 5 che le indicazioni di cui è la scheda specifica siano valutate alla luce di un effettivo progetto edilizio 5 non accolta si ribadisce che la volumetria indicata rappresenta il massimo volume realizzabile non il volume da realizzare comma 3 dell'articolo 11 dell'NTA 6 dal momento che lo standard di verde per abitante teorico è stato aumentato da 6 a 9 metri quadri si ritiene che lo stesso parametro debbano concorrere anche le fasce filtro perimetrali e le fasce di mitigazione 6 parzialmente accolta trattasi di refuso il parametro scusate di riferimento e 5 metri quadri vengono conseguentemente modificate tutte le schede 5b architetto Cancianna Andrea in merito alla BRU 48 e 49 di Torre chiede 1 che la BRU 48 sia assimilabile ad un'attuazione diretta con indice fondiario 2 metri cubi su metro quadro non accolta in quanto trattasi di ambito che richiede di una riqualificazione unitaria 2 che la BRU 49 sia assimilabile ad una zona B0 non accolta per il punto 1 B7 Cusina Antonio in merito al PAC 33 chiede che il terreno di proprietà destinato al nuovo PRGC a zona C aree di espansione assoggettate a piano autoattivo PAC 33 vengano destinate a zona B1 residenziale a bassa densità come di fatto lo era prima dell'approvazione non accolta il loto ad una superficie di 6.155 metri quadri circa che necessita quindi di un disegno complessivo B8 Coral Anna Maria che il PAC 33 in merito al PAC 33 chiede che il terreno di proprietà destinato dal nuovo PRGC a zona C area di espansione assoggettata a piano autoattivo PAC 33 venga destinato a zona B1 residenziale a bassa densità il lotto uguale a quella di sopra il lotto ha una superficie di 6.150 metri quadri circa che necessita quindi di un disegno complessivo risulta non accolta 10B Santin Ruggero e Santin Elisabetta in merito alla BRU 9 chiedono relativamente ad un'area non di sua proprietà 1. di prevedere la revoca rielaborazione della BRU 9 convenzionata 1. non accolta la BRU in oggetto di altra proprietà è vigente e già convenzionata nel rispetto delle loro intenzioni di piano pertanto sono fatte salve tutte le condizioni della convenzione stipulata l'eventuale rielaborazione potrà avvenire solo su richiesta dei legittimi proprietari 2. l'introduzione di una nuova norma che consente il recupero e la riqualificazione dell'edificio affacciante su Viale Martelli 2. non accolta vedi punto 1 14B Zuzzi Marco e Valentino per SPA società di macinazione in merito al pacco 80 chiede che si consente il recupero di tutta la volumetria della superficie esistente compresi i volumi tecnici impianti silos e altre destinazioni e altri locali scusate destinati alla produzione industriale parzialmente accolta viene modificata la scheda prevedendo il recupero di tutta la volumetria esistente compresi i volumi tecnici impianti silos se altri e altri locali destinati alla produzione industriale sia attuabili solo nel caso in cui l'attività in essere venga trasferita in zona propria all'interno del territorio comunale B15 Falome Luciano in merito al pacco 60 chiede 1. che venga ripristinata la condizione urbanistica del PRG vigente 1. non accolta la richiesta in contrasto con gli obiettivi del nuovo strumento urbanistico 2. in via subordinata che venga eliminata la fascia di filtro agroambientale prescrivendo in alternativa una fascia verde che la concentrazione fondiera sia prevista sull'intero ambito e che sia eliminato il ricorso al recupero dei volumi dal mercato dei crediti volumetrici 2. non accolta gli elementi per i quali si chiede l'eliminazione risultano essere quelli necessari a garantire la sostenibilità ambientale dell'intervento come verificati anche dalla VAS 17b Scorrano Scorrano Alberto in qualità di amministratore unico della società Ingeco SRL di Cordenonze ed in qualità di procuratore dei signori Milani Serafina e Brusadin Bruno in merito al PAC 34 e 71 chiede 1. che siano rettificati i dati della superficie riferite al PAC 71 e riportati nella tavola C0CO 03 e nella tavola COA 2B 1. Non accolta la superficie territoriale riportata sulla scheda è da ritenersi indicativa in quanto la superficie utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'indice territoriale deve essere quella rilevata topograficamente in sedi di progettazione del PAC 2. che si è rettificata la perimetrazione del PAC 71 escludendo la sponda del canale industriale privato a Mann in quanto non interessabili da alcuna pianificazione nella coerenza del nuovo PRGC 2. non accolta in quanto non richiesto dei proprietari dell'area interessati 3. che si è rettificata la scheda del PAC 71 indicazioni progettuali aree di trasformazione aree greenfield commerciali eliminando l'errore grafico costituito da un'errata perimetrazione con sovrapposizione dell'area del PAC 71 sull'area di pertenenza del PAC 34 3. accolta in quanto la planimetria contenente nelle singole schede riportano perimetri diversi 18. B Scorrano Aberto in qualità di amministratore unico della società NGQSRL di Cordenonse in qualità di procuratore dei signori Milani Serafina e Brusadin Bruno in merito al PAC 34 e 71 chiede 1 che l'accesso da via fornace al PAC 71 possa avvenire anche attraverso il PAC 34 tramite servitù di passaggio non costituendo questo presupposto per la qualificazione di complesso commerciale 1 non accolta in quanto come riportato nelle premesse dell'elaborato COA 12B i dati e gli schemi progettuali riportati nelle singole schede hanno valore indicativo e solo orientativi per la predisposizione dei progetti di trasformazione l'intervento di carattere edilizio verrà valutato in coerenza con le specifiche normative di settore e con il piano della grande distribuzione 2 si è ripristinata la coerenza tra i grafici di PRGC operativi e la scheda dei comparti riducendo nella scheda del PAC 71 la larghezza della fascia filtro lungo il canale Amman a 10 metri come indicato nelle tavole del PRGC accolta trastasi di un refuso va corretto ripristinando i 10 metri 3 di precisare la differenza tra piano di coordinamento che riguarda l'impianto urbanistico e il concetto di complesso commerciale che si verifica quando vi è una connessione funzionale così come specificato nella comunicazione regionale 3 non accolta in quanto il piano di coordinamento avrà lo scopo di coordinare le indicazioni progettuali di carattere urbanistico ambientale e funzionali già contenute nella scheda dei PAC 71 e 34 la classificazione del futuro intervento urbanistico ed edilizio verrà conformata rispetto alle leggi vigenti e ai piani di settore commerciali in materia di commercio 4 che la progettazione del PAC 71 si estenda anche nelle zone biagricole con termine non accolte in quanto nelle zone agricole sono consentiti esclusivamente interventi previsti dell'articolo 64 dell'NTA 5 di eliminare la previsione del marciapiede su via fornace presenti nella scheda operativa del PAC 71 non accolta si conferma i contenuti progettuali della scheda normativa che riguardano il PAC 71 ricordando che gli indirizzi progettuali contenuti nella scheda hanno valore indicativo e non prescrittivo 6 di ammettere la destinazione d'uso complementare residenziale per il 48% della superficie utile ammissimile nel PAC 71 non accolta in quanto nelle zone H non ammessa la destinazione residenziale in base alla normativa sovraordinata PURG 7 di inserire nelle relazioni di flessibilità la possibilità di trasferire i diritti volumetrici tra zone omogenee con termini non accolta in quanto non coerente con l'impostazione generale del piano 8 che le zone EB adiacenti alle aree di tutela dei pozzi dell'acquedotto e siano normate dalla NTA non accolta in quanto la normativa relativa alle zone EB risponde già perfettamente ai requisiti di carattere ambientale igienico sanitario 9 che l'articolo 61.6 interventi di rizzi ammessi nelle NTA venga integrato con l'integrazione delle aree con termini per la realizzazione di pertinenza ad esse connesse 9 non accolta in quanto nelle zone agricole sono consentiti esclusivamente interventi previsti dall'articolo 61 della NTA e la richiesta non è coerente con l'impostazione del piano relativamente alle zone agricole 10 che l'articolo 61.8 venga modificato a fine di poter pianificare e rispondere e rispettare la congruità ecosistemica delle aree in continuità con le aree del PAC 71 poste ad est 10 non accolta in quanto sono consentiti esclusivamente interventi previsti al capo 2 zone agricole 11 che l'articolo 61.3 non contempli esclusivamente gli interventi infrastrutturali nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico ambientale 11 non accolta in quanto in contrasto con l'impostazione generale del piano 19 B scorranno Alberto in qualità di amministrazione unico della società Ingeco SRL di Cordenons e in qualità di procuratore dei signori Milani Serafine Brusadin Bruno in merito al PAC 34 chiede 1 che venga zerata la quota per equativa in quanto verranno realizzate opere di interesse qualificato pubblico costituito dalla strada interna per la riconnessione dell'ottima Green Carniel 1 non accolta in quanto il piano adottato non prevede più la viabilità pubblica 2 le modifiche delle schede normative relativamente ai rifusi nella quantificazione delle superficie territoriale accolta trattasi di rifuso viene conseguentemente modificata la scheda 3 che la riperimetrazione corrispondente ai limiti di proprietà Brusadin Bruno Milani ed Ingeco scusate che la riperimetrazione corrisponda ai limiti di proprietà 3 non accolta in quanto non richiesto dei proprietari delle aree interessate 20 B Scorrano Alberto in qualità di amministratore unico della società Ingeco SRL di Cordenonse ed in qualità di procuratore dei signori Milani Serafine Brusadin Bruno 1 chiede che nell'ambito PAC C1 11 sia prevista che non è suo una quota del 50% per edilizia residenziale libera edilizia convenzionata edilizia in housing sociale e case parcheggio e il restante 50% del commercio 1 non accolta in quanto non richiesto dei proprietari dell'area interessata 2 che le NTA precisino che non costituisce complesso commerciale l'insieme di strutture di vendita di media distribuzione se le stesse sono previste da un piano di coordinamento 2 non accolta in quanto il piano di coordinamento vuoi previsto allo scopo di coordinare le indicazioni progettuali di carattere urbanistico ambientale funzionale le caratterizzazioni di futuri interventi urbanistici ed edilizie soggette del rispetto del rispetto delle leggi vigenti e dei piani di settore comunale in materia di commercio 3 di aggiornare il piano di settore del commercio indicando come grande distribuzione il PAC 34 in quanto il PAC 71 adecente avrà un accesso autonomo attraverso il PAC 34 3 non accolta il PRG non costituisce modifica il piano del commercio 4 di modificare la relazione di flessibilità inserendo nei limiti previsti dall'indice di perequazione l'indice l'IP è possibile trasferire diritti volumetrici dal PAC ad una con termine ad uno con termine appartenente alla stessa ZTC non accolta il PRG non prevede trasferimenti di volumi tra i piani con termini 22 B Nosella Danilo in merito al comparto C1 11 chiede 1 che sia ripristinato il tracciato originario di via delle acque non accolta il nuovo tracciato è stato identificato per mettere in sicurezza l'innesto della viabilità con la statale 13 2 che la zona RVR nucleo elementare di verde sia posizionato a cavallo delle due diverse proprietà compreso proporzionale all'estensione di ciascuna proprietà accolta non essendo l'indicazione grafica prescrittiva sarà compito dei proprietà della scusate proprietà osservante predisporre un disegno complessivo che eventualmente recepisca le loro intenzioni non è quindi necessaria alcuna modifica al PRGC 25B Barbariollo Giuseppe in merito al PAC 81 chiede 1 lo stralcio del mappale indicato dal perimetro del PAC 81 riconoscendolo come zona H3 zona commerciale accolta l'attività in essere già consolidata da molti anni è congruente come collocazione rispetto al contesto urbano 2 il mantenimento dell'accesso diretto su via Montereale accolta si conferma l'accessibilità attuale che però potrà variare in relazione a scelte di sistemazione viabilistica 3 lo stralcio del limite di fasce di rispetto stradale al fine di consentire eventuali ampliamenti non accolta via Montereale per caratteristiche viabilistiche e una strada che necessita di fasce di rispetto atte a garantire eventuali interventi di trasformazione 26B Brusadin Ivo e Piccin Francesco in merito al PAC C1 12 chiedono il ripristino delle previsioni del PRGC vigente non accolta non essendo più l'amministrazione interessata alla realizzazione di un polo scolastico non è più necessaria la previsione di perequazione di comparto che prevedeva da parte dei richiedenti l'accessione di una portazione di area da compensare per mezzo della cubatura generata dalla stessa 33B Vendrame Gianfranco in merito al PAC 22 chiede che venga sostituito con l'attuazione diretta non accolta l'attuazione diretta in contrasto con le necessità di coordinamento formale finalizzato a garantire la qualità dell'intervento tuttavia il richiedente potrà richiedere l'attuazione ai sensi dell'articolo 50,5 dell'NTA permesso di costruire convenzionato 38B Casa Grande Simone in qualità di regale rappresentante della società ed il gomma SRL di Pordenone in merito alla BRU 22 chiede che il nuovo PRGC preveda il cambio di destinazione ed uso dell'area da residenziale a commerciale con possibilità di ottenere un permesso di costruire convenzionato al fine di adeguare le opere di urbanizzazione e il fabbricato commerciale in fase di realizzazione accolta si modifica il piano da zona residenziale BRU a zona commerciale H2 PAC con specifica scheda 42B Casetta Marino in qualità di legale rappresentante della società programma costruzioni 3SRL il cotonificio di Torre in merito al PAC 37 chiede 1 di mantenere il volume oggetto di sostituzione edilizia previsto nel PRGC approvato non accolta la scheda del PAC 37 prevede il recupero della volumetria esistente in caso di sostituzione edilizia è consentito il recupero della superficie utile esistente in quanto le esigenze produttive industriali possono determinare edifici anche di notevole altezza ma non possono essere integralmente trasformate in volumetria residenziale 2 che la norma preveda se già non lo sia implicitamente la possibilità di trasferire parte dei volumi oggetti di spostamento sulla copertura dei fabbricati A e D con intervento non mimetico che comunque conservi la lettura dell'originario pificio per almeno un piano 2 non accolta in quanto si ritiene che tale possibilità venga valutata nell'ambito della progettazione del PAC e a tale fine si sottolinea che la relativa scheda già prevede per gli edifici costituiti antecedentemente al 1915 è possibile recuperare integralmente gli edifici originari attraverso un progetto di valorizzazione degli elementi storico testimoniali anche mediante una differente suddivisione interna dei livelli degli edifici nei limiti dei volumi originari e altresì consentito accolpare e realizzare su sedime diverso le superfici utili oggetto di demolizione purché ciò sia funzionale al disegno complessivo generale 3 in merito al nucleo elementare di verde pari a 9 metri quadri abitante teorico previsto per l'area considerato che l'intervento prevede l'accessione al comune di un'area a destinazione parco che tale standard adiacente scusate al PRPC di circa metri quadri 28.126 si chiede che tale standard possa essere garantito da parte della superficie extra ambito non accolta in quanto l'area archeologica citata dall'osservante è esterna al nuovo perimetro del PAC 37 essa ha una destinazione a zona archeologica e genera diritti volumetrici da sviluppare in altre aree di trasformazione pertanto non può essere utilizzata ai fini del soddisfacimento dello standard da verde per la realizzazione da reperire obbligatoriamente all'interno dell'ambito 47B Pasut Gabriella in merito al PAC 63 chiede che venga modificata la destinazione urbanistica del terreno di sua proprietà da zona omogenea C residenziale di espansione a PAC 63 a zona B1 parzialmente accolta in quanto l'accoglimento della divisione in due PAC non è in contrasto con gli obiettivi del piano 48B De Angelis Alberto in qualità di legale rappresentante della Paradiso SRL in merito al PAC 81 chiede 1 il ripristino delle previsioni urbanistiche come da PRGC vigente dal PAC 81 a zona H3 non accolta in contrasto per l'impostazione generale del PRGC che ha provveduto a una riorganizzazione funzionale della zona a nord della statale 13 allo scopo di determinare una maggiore tutela paesistica ed ambientale delle aree non edificate 2 in via subordinata di mantenere l'edificabilità diretta 2 non accolta in quanto l'edificabilità diretta non consente gli opportuni approfondimenti per garantire le necessarie qualità degli interventi programmati 3 di ripristinare la potenzialità edificatoria originaria pari a circa metri quadri 15.000 non accolta in quanto in contrasto con la nuova impostazione del PRGC anche in esito la mancata realizzazione dell'intervento 4 di limitare significativamente l'area di mitigazione non accolta in quanto le aree di mitigazione previste hanno lo scopo di ridurre gli impatti riguardanti gli interventi che il nuovo PRG prevede nell'area in oggetto 5 di eliminare l'ipotesi di trasferimento da parte della volumetria delle successive varianti non accolta in quanto in contrasto con l'obiettivo richiamato il punto 1 che è quello di aumentare la salvaguardia delle aree libere di limitare il consumo di suolo 51 B De Polanto in merito al PAC 20 chiede la modifica zona di tre zona di insediamenti industriali e artigianali esistenti non accolta questa osservazione è collegata alla numero 87 e alla numero 137 e quindi avranno sempre la stessa risposta in quanto l'ambito necessita di una riorganizzazione unitaria che solva anche agli oderni problemi di accessibilità dalla strada provinciale 251 si specifica inoltre che la richiesta e quelle ad esse correlate osservazione 87 137 nel complesso non risultano sottoscritte da tutte le proprietà interessate al PAC 20 70 B Bonetti Alessandro in qualità di amministratore unico società in ex OSRL di Imola in merito al PAC 15 si oppone 1 allo svuotamento integrale di contenuto delle previsioni urbanistiche d'ambito che arrecano gravissimo pregiudizio economico oltre già osservata patente in attuabilità della nuova previsione urbanistica conseguente e inevitabile mancata attuazione di quello che resta un centro nevralgico della città e viene espressamente definito quale ambito di pianificazione strategica per la città 1 non accolta in quanto in contrasto con le previsioni del PAIL che rappresentano un vincolo sovraordinato alle previsioni dello strumento urbanistico il PRGC considera l'area in oggetto strategica in quanto in essa sono presenti manufatti di archeologie industriali che costituiscono parte della memoria collettiva della città proprio per questo motivo il piano ha previsto tutte le destinazioni d'uso compatibili con i severi vincoli previsti dal PAIL 2 alla mancata previsione di usi residenziali commerciali e terziari 2 non accolta la destinazione d'uso elencate nell'osservazione in oggetto sono in contrasto con le previsioni del PAIL 3 alla previsione di un indice di copertura del 40% della superficie territoriale non accolta in quanto l'indice di copertura del 40% della superficie territoriale è quello che il PRGC considera più adeguato in considerazione delle complesse situazioni urbanistiche ambientali ed idraulica dell'area oggetto di osservazione 4 alla mancata conservazione delle previsioni urbanistiche previgenti relative agli oltre 190.000 metri cubi realizzabili di cui è il PRG vigente 4 non accolta la conservazione delle previsioni urbanistiche previgenti non possono essere mantenute in seguito alla nuova prescrizione prevista dal PAIL per l'area in oggetto vale inoltre la pena di ricordare che anche negli anni di vigenza del precedente piano la proprietà non ha voluto o potuto dare attuazione agli interventi previsti 5 alla mancata previsione di usi commerciali per almeno 15.000 metri quadrati di superficie di vendita e dalla mancata conferma della grande superficie di vendita per 8.000 metri quadrati non accolta in quanto in contrasto con le prescrizioni del PAIL come già esplicitato al punto 1 6 alle previsioni urbanistiche della destinazione ad attività per lo sport e il tempo libero delle superfici coperte 6 non accolta le analisi condotte preliminarmente alla formazione dello strumento urbanistico hanno messo in evidenza le dotazioni di servizi pubblici tra cui le aree a verde citate dall'osservante ma hanno evidenziato anche la potenzialità derivanti dai possibili interventi privati per la realizzazione di strutture e spazi per il tempo libero le previsioni per l'area in oggetto quindi sono frutto di un'attenta analisi dei fabbisogni ed anche delle potenzialità del sistema urbano ed inoltre si adattano in maniera razionale ai forti vincoli insediativi che gravano sull'area a seguito della prescrizione del PAIL 7 alla quantificazione e individuazione data dai fabbricati risalenti all'archeologia industriale preesistente che risultano di fatto sensibilmente inferiori dimensionalmente con conseguente minore loro quantificazione 7 non accolta la quantificazione e l'individuazione data dai fabbricati risalenti all'archeologia industriale è stata svolta in seguito a specifici sopralluoghi nell'area e tiene conto degli esiti di studi svolti nel corso di decenni sugli edifici di archeologia industriale naturalmente l'amministrazione comunale è disponibile su questo aspetto a svolgere verifiche in contraddittorio con la proprietà in sede di redazione di piano attuattivo 86B badanai scalzotto gidio in merito alla BRU 45 chiede che 1 nelle aree di riqualificazione urbana BRU non sia applicato il principio perequativo 1 accolta viene eliminato l'obbligo della perequazione per tutte le aree BRU a seguito dell'accoglimento dell'osservazione numero 3 2 di stabilire sulla scheda relativa alla BRU numero 45 di San Carlo la modulazione dei volumi con altezza tra 3 e 5 piani fuoriterra non accolta in quanto il contenuto della scheda ai sensi dell'NTA è indicativo 3 la quota di riferimento 00 sia quella dell'asse stradale comunale non accolta in quanto le modalità con le quali viene individuata la quota di riferimento e stabilità del regolamento edilizio 4 la possibilità di monetizzare lo standard relativo alla quota di parcheggi pubblici 4 accolta ad integrazione dell'attuale sistema normativo viene introdotto uno specifico comma all'articolo 30 dell'NTA 5 il verde da valorizzare trovi dimensione nella parte est dell'area di continuità ed ad integrazione del verde di corona dei laghetti San Carlo 5 non accolta in quanto il contenuto della scheda ai sensi dell'NTA è indicativo 6 per i terreni indicati con falda da 0 a 2 metri dal piano di campagna nella carta idrogeologica con elementi di morfologia si è inserita una specifica norma di salvaguardia che permetta di dimostrare attraverso uno studio idrogeologico la potenziale profondità della falda del sito del sito indagato 4 non accolta in quanto sulla base dello studio già adottato l'area evidenzia aspetti reali di rischio idrogeologico per eventi meteorologici critici 7 nel caso in cui la quota di riferimento sia una strada apposta ad una quota più alta del terreno interessato di considerare la possibilità di soddisfare il limite dei 2 metri di piano di calpestio portando il piano di calpestio del primo piano abitabile alla quota del piano stradale 7 non accolta in quanto la quota di riferimento è stabilita dal regolamento edilizio e non dal piano regolatore generale 87b Lorenzette Giorgio Lorenzette Luciana Lorenzette Renato in merito al PAC 20 chiede che il PAC 20 mantenga la perimetrazione del piano vigente al fine di evitare il coinvolgimento di altri proprietari è collegata a quella che ho già letto la numero 51 e a quella che leggerò la 137 non accolta in quanto l'ambito necessita di una riorganizzazione unitaria che assolve anche agli odierni problemi di accessibilità dalla strada provinciale 251 si specifica inoltre che la richiesta è quella ad essa correlata osservazione 51 e 137 nel complesso non risultano sottoscritte da tutte le proprietà interessate al PAC 20 88 B Bomben Nalida Zilli Pietro Zilli Aldo Tomasi Francesca Tomasi Monica Tomasi Roberto Bertoli Derna in merito al PAC 6 chiede 1 destinazione destinare una porzione di 4.000 metri quadri a servizi sanitari ed assistenziali di cui è sentita grande necessità per le caratteristiche sociali demografiche della zona non accolta all'amministrazione da parte degli enti competenti non è pervenuta alcuna richiesta che convalidi quanto dichiarato dagli osservanti si ribadisce che lo spostamento della scuola primaria di Via Noncello attualmente non più riconosciuta dal piano regolatore generale comunale rimane uno degli obiettivi del piano finalizzati alla migliore localizzazione dei servizi nel quartiere 2 destinare a residenza la rimanente quota dell'area non accolta vedi risposta punto 1 94B per Essinotte Elisabetta e per Essinotte Serena in merito alla BRU 50 chiedono 1 il cambio di destinazione urbanistica da zona ad attuazione indiretta a zona omogenea B1 accolta si elimina la previsione di BRU introducendo la zona B1 cancelletto i fronti prospicenti la via pubblica verranno regolati da apposita normativa finalizzata al mantenimento e riqualificazione della schiera originaria perché ci troviamo nel centro di torre 96B Montico Laura Manzon Lucio Manzon Mauro Manzon Bruna Favaro Amelia in merito al PAC 56 chiede 1 per la parte di proprietà il mantenimento della destinazione urbanistica esistente con la modifica ad attuazione diretta ad attuazione diretta parzialmente accolta si riconosce la zona ad attuazione diretta per i lotti edificabili lungo via Udine mappare 37 e 38 e conseguentemente si riduce il perimetro del PAC 99B Caroncini Davide Rossi Elena Boschian Claudio Boschian Antonio Boschian Marina in merito in merito al PAC 75 chiede il cambio di destinazione urbanistica da PAC 75 a zona omogenea B1 non accolta in quanto trattasi di lotto consistente superficie 7200 metri quadri e completamente inedificato B100 Gai Pietro Santa Rossa Paola Gai Paola Zanussi Enrico del Zotto Mauro in merito alla BRU 50 chiede la modifica della destinazione urbanistica da BRU 50 zona residenziale di completamento ad attuazione diretta B1 accolta viene eliminata la previsione di BRU introducendo la zona B1 cancelletto i fronti prospicenti della via pubblica vengono regolati da apposita normativa finalizzata al mantenimento e riqualificazione della schiera originaria e collegata a quella che ho letto precedentemente no 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 basta 107B Lorenzon Claudio in qualità legale rappresentante della ditta COSP Edil SRL di Fiume Veneto in merito al PAC 57 chiede di via Udine 1 individuazione delle opere di urbanizzazione già realizzate non accolte in quanto le opere di urbanizzazione verranno recepite a seguito dell'ultima azione e conseguente revoca del piano in fase di attuazione 2 individuazione delle aree private già edificate come zona H da attuazione diretta 2 non accolte in quanto il piano è convenzionato ed è in fase di realizzazione e non sussistono motivazioni per consentire alla richiesta dell'osservante sullo specifico punto 3 riperimetrazione delle aree di proprietà non edificate con nuovo PAC per realizzare per realizzare un edificio commerciale con superficie coperta massima di 2500 metri quadri superficie di vendita di metri quadri 1500 non accolta il PAC attualmente in fase di realizzazione prevede che oltre a quello ad oggi già edificato sia possibile la costruzione di un ulteriore volume ad uso commerciale artigianale di servizio per una superficie complessiva di 2380 metri quadri le analisi svolte in fase di redazione del nuovo PRG dimostrano come non ci siano ad oggi ulteriori necessità di superfici commerciali o tre quelle già zonizzate 115B Redigonda Architetto Massimo Augusto in merito al PAC 52 chiede 1 la modifica dell'articolo 143 situazioni giuridico pregresse del nuovo PRGC affinché si possa adottare varianti ai PAC approvati e non convenzionati facendo riferimento al PRG vigente prima dell'adozione del nuovo PRGC e non a quelle risalenti alle approvazioni del PAC 1 non accolta il riferimento normativo temporale non può che essere quello vigente alla data di approvazione del piano di particolareggiato stesso 2 il PAC 52 localizzato a margine di via Linus e non di via Quileia 2 accolta si tratta di refuso 2.1 no era 2.1 2.2 il PAC 52 approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 80 del 25 9 del 2006 riporta una differente perimetrazione dell'ambito che nella scheda deve essere recepita 2.2 parzialmente accolta il PAC approvato non convenzionato prevedeva alcune modifiche al perimetro in applicazione dell'NTA del PRGC vigente all'epoca si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione limitatamente alla sola modifica del perimetro del PAC che riguardano modesti assestamenti rispetto ai limiti di proprietà e ai confini fisici rilevati sul terreno 2.3 la superficie territoriale risulta essere di 112.800 bevo mi hai portato tu l'altra volta ho perso il filo 2.3 la superficie territoriale risulta essere di 112.870 metri 2.3 non accolta la superficie riportata sulle schede è da ritenersi indicativa in quanto la superficie utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'indice territoriale deve essere quella rilevata topograficamente 2.4 la destinazione d'uso principale risulta essere industriale artigianale mentre le destinazioni d'uso secondarie saranno terziario direzionale artigianale di servizio trasporto merce persone servizi attrezzature collettive ore previste nelle singole zone che disciplinano tali servizi commerciali al dettaglio solo se preesistente e se sussiste l'autorizzazione commerciale risalente anteriormente al 24 4.999 residenza massimo 100 metri quadri di superficie utile per edificio eccetera tali destinazioni d'uso sono coerenti con quelle prescritte dalla strumento urbanistico vigente 2.4 non accolta le destinazioni d'uso proposte con l'osservazione coincidono già con quelle previste dal PRGC adottato con eccetto del terziario si precisa che la riserva regionale numero 13 pone l'obbligo di ricondurre le destinazioni d'uso a quelle consentite dallo strumento regionale sovraordinato 2.5 il rapporto tra superficie territoriale ST e il verde piantumato venga ridotto da 20 metri quadri ogni 100 metri quadri a 10 metri quadri ogni 100 metri quadri in quanto risulta complesso reperire ulteriori superfici piantumate all'interno dei lotti 2.5 non accolta si ritiene di non accoglierlo in quanto in contrasto con gli obiettivi generali di piano 2.6 la superficie utile massima SU risulta essere di 54.144 metri quadri 2.6 non accolta come per la precedente punto 2 e punto 3 la superficie utile riportata nella scheda è da intendersi indicativa 2.7 la dimensione di 10 metri dalla fascia di mitigazione a margine dell'area residenziale esistente su via San Gregorio bassa risulta essere proprio proporzionata considerando la disposizione dei lotti interni dell'area del PAC infatti applicando questa misura la strada per la viabilità interna e di accesso ai lotti dovrebbe essere spostata rendendo di fatto i lotti 4.5.6 di dimensioni già ridotte ed irregolari ancora meno appetibili inoltre allo scopo di mitigare l'impatto delle attività dell'area si ritiene di individuare nei prospicenti lotti 9-10 destinazioni d'uso a carattere direzionale artigianale eccetera e non industriale pertanto si chiede di ridurre la fascia di mitigazione ambientale da 10 metri a 3 in corrispondenza della viabilità e da 10 metri a 7 sugli altri lati 2.7 non accolta la riduzione delle fasce di rispetto da 10 a 7 e 3 non è accolta in quanto in contrasto con gli obiettivi del piano 2.8 il percorso pedonale di prossimità previsto lungo via San Gregorio bassa risulta essere irrealizzabile vista le dimensioni del nastro stradale e soprattutto la conformazione altimetrica dell'area dell'ambito del PAC non accolta in quanto come previsto dall'NTA relative alle aree di trasformazione il proponente può presentare soluzioni alternative che tenendo conto dello stato dei luoghi individuino altri possibili tracciati 2.9 per le stesse motivazioni espresse nel punto 7 l'accesso veicolare alle aree di progetto non può avvenire da via San Gregorio bassa ma esclusivamente da via Linuscio come previsto dal PAC numero 52 approvato accolta verrà di conseguenza modificata la scheda dell'area in esame 126 B Casetta Mirella Grizzo Cirillo Grizzo Iole Pillonna Sabrina Ragogna Delfina Cipollat Vera Delzotto Maria Antonietta in merito al PAC 81 C1 8 chiedono che 1 venga concessa una volumetria edificabile di metri cubi 5.000 rispetto ai 4.000 previsti nel PRGC vigente 1 parzialmente accolta il piano ha valutato di trattare uniformemente tutte le aree C1 ad attuazione indiretta che presentavano indici diversificati questi anche sulla base della VAS sono stati portati da 0,6 metri cubi su metro quadro con tale indice l'ambito in oggetto esprime secondo il piano adottato una cubatura di 3.000 metri cubi circa tuttavia a seguito della constatazione che i richiedenti hanno presentato istanza di approvazione del piano ottoattivo per l'attuazione dell'otto del loro ambito dal 23.04.2014 ed essendo giunti al completamento del liter burocratico pur non avendo ancora ottenuto l'approvazione si considera opportuno confermare l'indice del piano rispetto al quale hanno sviluppato la progettualità e quindi portare l'indice a 0,8 metri cubi metro quadro non viene accolta la richiesta di aumentare l'indice fondiario all'ottenimento dei 5.000 metri cubi 2. venga concessa la possibilità di concludere l'iter amministrativo nel rispetto dei parametri degli standard fissati dal PRGC vigente al momento del perfezionamento della pratica accolta rispetto a quanto dichiarato il punto 1 si accoglie la richiesta di completare l'iter amministrativo iniziato in fase di perfezionamento relativamente alla modifica dell'indice tenendo conto delle indicazioni previste nella specifica scheda contenuta nel nuovo piano regolatore 132b Moretto Giuseppe legale rappresentante della ditta Moretto Giuseppe SRL in merito al PAC 62 chiede 1 che la scheda normativa venga modificata come da progetto di PAC presentato prima dell'adozione delle direttive non accolta in quanto in contrasto con gli obiettivi e le strategie del PRGC in relazione ai criteri urbanistico ambientali che devono regolare gli ambiti di trasformazione 2 che venga ridotta la quota di reperire all'interno del mercato dei crediti volumetrici parzialmente accolta le previsioni relative alla perequazione e alla compensazione di cui l'articolo 53 derivano dalla necessità di garantire la sostenibilità degli interventi di nuova costruzione come ben specificato dal rapporto ambientale che ha trattato in maniera diffusa ed esaustiva a questo aspetto rispetto al quale non sono state avanzate osservazioni l'amministrazione comunale ritiene tuttavia anche in relazione alle altre osservazioni ricevute sullo stesso tema e dalle riserve regionali 7b di modificare parzialmente l'articolo 53 permettendo la realizzazione della quota volumetrica aspettante all'otto e l'attuazione successiva della quota volumetrica relativa alla quota perequativa l'articolo 53 inoltre integrato prevedendo la possibilità di attuare l'intervento anche in assenza di crediti volumetrici che potranno essere successivamente acquisiti nel periodo di validità del piano attuativo 3 che venga eliminata la fascia di filtro agroambientale posta sul perimetro non accolta in quanto incide in maniera negativa sulla mitigazione ambientale delle aree di trasformazione 137b del Pol Anto in merito al PAC 20 è legato a quelle già lette 51-87 in merito al PAC 20 chiede 1 lo stralcio dell'area di proprietà dal PAC 20 non accolta in quanto l'ambito necessita di una riorganizzazione annettaria che solve anche agli oderni problemi di accessibilità dalla strada provinciale 251 si specifica inoltre che la richiesta è quella ad esse correlate 51-87 nel loro complesso non risultano sottoscritti da tutte le proprietà interessate al PAC 20 2 il ripristino della zona D3 previsto dal PRGC vigente non accolta per le motivazioni di quel punto 1 ed in quanto la destinazione D3 è incongrua rispetto al contesto residenziale limitrofo 144-B De Roia Luigi in merito al PAC 40 chiede che venga diviso in due parti una delle quali corrispondenti alla particella catastale 456 e 653 di sua proprietà non accolta in quanto in contrasto con la necessità di coordinamento urbanistico ambientale dell'area di trasformazione in oggetto 153-B Bresin Pia Bresin Dino Zanier Sergio in merito alla BRU 41 via Vallona chiede di modificare l'area in zona B ad attuazione diretta i signori Bresin mappali 1961 331 2156 2912 dichiarano che non attueranno mai e il signor Zanier mappale 330 è l'unico che dichiara di avere necessità di ampliare la sua abitazione parzialmente accolta vista la conformazione della BRU e il fatto che gran parte di essi è di proprietà dei signori Bresin proprietà di un condominio a tre piani per il quale è difficile pensare a un intervento di sostituzione edilizia viene prevista l'attuazione diretta con indice B3 per i mappali 1961 331 330 2156 e VP cioè verde privato per il mappale 2.912 161B Zuccolo Anna e Luca Miotto Giuseppina in merito alla BRU 15 chiedono che venga rimosso l'indicazione progettuale che prevede l'obbligo della fascia di metri 5 lungo i confini ovest e sud dell'area di proprietà non accolta in quanto in contrasto con i criteri generali stabiliti per le aree di trasformazione che prevedono la dislocazione delle fasce filtro di mitigazione ambientale finite le B grazie assessore prego signori consiglieri se volete chiedere dei chiarimenti su questo gruppo di osservazione nessuna richiesta do qualche minuto di respiro all'assessore quale sarà il prossimo gruppo di osservazione di domodosso a carattere normativo no Sperotto Alessandro una domanda così mi riposo prego consiglieri Sperotto sulla 38 se ci potete spiegare dove ci troviamo si poteva spiegare un po' le ragioni di questo accoglimento grazie Siamo sulla Pontebana al limite del sa dove è il Burger King bene l'area a fianco loro lì hanno un piano attuativo già approvato per il quale possono realizzare sul fronte un altro edificio commerciale il piano pregresso prevedeva la possibilità di realizzare un edificio ad uso residenziale nella parte retrostante cioè quella che confina con via Chioggia la domanda che loro fanno è quella di non avere più la zona residenziale ma avere un ampliamento della zona commerciale viste gli studi sulla Pontebana e quant'altro c'è sembrato congrua come richiesta nel senso che eccola qui la BRU che il prevedere la possibilità di fare un edificio residenziale in quell'ambito ci sembra qualitativamente scadente per la residenzialità stessa da punto di vista della viabilità scatturisce in Pontebana no non ci sono problemi perché il piano prevedeva già una viabilità collegata anche al Burger King nel senso che loro entrano c'è l'ingresso dal lotto Burger King la parte per capirsi insomma perché non ne so i proprietari la parte di parcheggi sul fronte la viabilità in continuazione con l'uscita al limite del lotto dei richiedenti quindi anche dal punto di vista viabilistico non si non si ravvedono problematicità si indica la non accessibilità al lotto e parcheggi da via Chioggia perché è una strada stretta che si vuole preservare questo avevamo parlato in commissione si ne avevamo parlato in commissione questo passaggio è stavolta le parole sulla 132 è stata parzialmente accolta questa era la numero scusi 132 vado cioè il parziale accoglimento è conseguenza necessaria all'accoglimento delle riserve regionali in modifica dell'articolo 53 speri che la rileggo sì sì beh capisco un attimo capisco allora il parziale accoglimento è il punto 2 che venga ridotta la quota di reperire all'interno sì 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 è una conseguenza indiretta indiretta consigliere Piccin prego grazie presidente assessore io volevo chiedere una delucidazione relativamente all'osservazione numero 22 categoria B no? abbiamo detto sì ecco limitatamente alla prima parte dove il presentatore chiede tracciato il ripristino di esattamente allora comprendo perché io in commissione non c'ero quella volta lì ma poi ne avevamo parlato però volevo un ulteriore specifico sì allora io comprendo che rientra tutto in una che questa è mi correggo una previsione di piano che rientra tutto nella riqualificazione della viabilità che dovrebbe essere fatta lì sì e che sarà subordinata rispetto ad una realizzazione sì bene ed è addirittura già in fase di studio ma non così avanzato avanzato da essere da vedere la possibilità di inserimento e cioè la realizzazione della riformulazione della viabilità in fase avanzata sì cioè è avanzato lo studio proposto da Scorrano quello che ha fatto le osservazioni precedenti che sta che essendo interessato al PAC 34 e 71 sta studiando la sistemazione del nodo che ad oggi è un nodo complicato e molto in difficoltà causata anche dalla dall'inserimento della via delle acque in quel punto allora io faccio però siccome non faccio fatica a comprendere tecnicamente la questione e ho compreso che qualora si realizzasse il tutto e venisse riqualificata la viabilità quel tratto di via delle acque verrebbe chiuso sostanzialmente perché la viabilità alternativa sarebbe quella che passa nel rigato C1-11 sì corretto bene allora lì però quindi l'attività produttiva che attualmente sta su via delle acque non avrebbe più l'ingresso da lì e qui c'è c'è ancora fatemi vedere perché io non lo vedo è una strada cieca che si ferma al D3 ma che non si collega poi con il resto di via delle acque cioè che serve solo quei due D3 sì ma che però esce poi sulla viabilità principale ma in una rotonda ridisegnata certo grazie nessun altro famiglia D passiamo alla famiglia D prego allora noi non facciamo la scena che prendiamo le schede usciamo le chiediamo un numero legale ma non c'è il numero legale no 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 presidente noi non facciamo la scena di quelli che prendono escono e chiedono un numero legale in modo tale che la maggioranza dimostri di avere almeno 21 quindi non siete siete in 18 ma secondo scusi ma io cosa dovrei fare ma scusa no ma no ma no scusi ma sì ma consiglio perfido no ma scusi ma io no 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 ma lei può avere anche ragione ma io non posso far finta che non ci sia l'opposizione cioè voglio dire se io controllo no no se controllo il numero legale io devo contare anche quelli del consigliere l'opposizione cosa devo fare perciò secondo me siete tanti però ma io cosa devo fare ma io cosa devo fare no scusate ho capito ma io non posso farci nulla cioè cosa vuole che ha fatto lui ha fatto un'osservazione ah che era rivolta a me ma perché sentisse a suocere perché senta vabbè va bene passiamo alle invito i consiglieri seduti tra il pubblico di sedersi al loro posto così riusciamo la famiglia di sono le osservazioni di carattere normativo d4 architetto canciana andrea chiede una modifica all'NTA cioè le norme tecniche di attuazione in particolare l'articolo 7.20 lettera c che recita c eventuali parapetti eventuali parapetti o altri elementi architettonici emergenti dalla copertura non vengono considerati se l'altezza inferiore a metri 1 risultante dall'estradosso del solaio oltre tale dimensione i suddetti elementi concorrono alla definizione di altezza aggiungendo dopo la parola inferiore la parola uguale accolta si modifica l'articolo 7.20 lettera c con l'inserimento dopo la parola inferiore della parola o uguale 24 di valenti mario e valenti andrea chiedono che la distanza dei confini di proprietà si ridotta a 5 metri con mantenimento della distanza tra pareti finestrate pari a 10 metri non accolta in quanto le distanze dei confini di proprietà è identica per tutte le singole zone 31 di mozzon maria assunta e mozzon alessandra chiedono 1 per l'immobile destinato dal nuovo prgc a zona e b ambiti agricoli di riequilibrio ambientale compresi in zona dinamica di protezione dei pozzi dell'acquedotto di via san daniele la possibilità di intraprendere l'attività di bed and breakfast accolta l'attività di bed and breakfast risulta già ammissibile negli edifici esistenti a destinazione residenziale non è quindi necessaria alcuna modifica agli elaborati di prgc 2 per l'immobile destinato dal nuovo prgc a zona e b ambiti agricoli di riqualificazione ambientale compreso in zona dinamica di protezione dei pozzi dell'acquedotto di via san daniele la possibilità di intraprendere terziario in genere 2 non accolta parte delle destinazioni definite genericamente terziari risultano già ammissibili negli edifici esistenti non è quindi necessaria alcuna modifica negli elaborati del prgc 3 l'ampliamento dell'attuale abitazione parzialmente accolta avevo detto accolta scusa grazie correggetemi se sbaglio 3 ampliamento dell'attuale abitazione non accolta la richiesta di ampliamento dell'attuale abitazione non risulta tra quelle consentite ai sensi della norma idrogeologica 4 la possibilità di mantenere l'attuale accesso carraio ed via maestra vecchia accolta in quanto risulta già possibile il mantenimento degli accessi esistenti articolo 107 dell'ENTA 57D Giannelli Franco chiede che nella zonizzazione BVE sia consentita un'altezza superiore a quella esistente purché l'intervento consenta a la realizzazione di una quota del 30% delle superfici dell'otto giardino anche pensilis con uno strato di terra maggiore ai centimetri 80 B il distacco dell'allineamento preesistente con gli edifici confinanti e o prospettanti la strada stessa salvo che per i piani terra o primo e ciò utilizzando anche i disposti dell'articolo 21 lettera B dell'NTA c c la realizzazione di una quota di parcheggio interrata in numero inferiore a due posti auto per ogni unità immobiliare osserva che l'uso della tipologia torre nei casi di demolizione e ricostruzione sviluppando il volume edificabile in altezza consente di riequilibrare il consumo di suolo recuperando giardini e anche pensili di ampie superfici inoltre se unito all'obbligo di realizzare i piani più bassi uno o due livelli in linea con gli allenamenti preesistenti consente il rispetto della morfologia urbana costituita di edifici in linea parzialmente accolta la problematica relativa all'altezza degli edifici nelle zone BVE ha come nodo centrale il tema della relazione spaziale e formale con il sistema degli edifici centrali in particolare gli interventi e le strategie compositive proposte dall'osservante non avrebbero comunque effetto nella mitigazione degli impatti derivanti dagli edifici con altezza superiore a quelli dell'intorno urbano tuttavia per garantire la possibilità di risolvere specifici casi che non possono essere determinati a priori la componente strutturale del piano elaborato CS19D obiettivi e strategie prevederà un'apposita procedura in grado di permettere all'amministrazione comunale puntuali valutazioni per verificare gli impatti di nuovi edifici nelle zone BVE 59D Cimolai Roberto in qualità di largare rappresentante presidente del CDA società immobiliare Cimolai SPA di Pordenone chiede 1 l'ampliamento delle casistiche dei servizi per il tempo libero ammessi nelle zone ESTP comprendendo le seguenti attività sportive percorsi 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 per mountain bike aree trial aree BMX percorsi per fuoristrada 4x4 bike park e tracciati per motocross enduro 2 in subordine la modifica della zonizzazione degli immobili in parola concedendo una destinazione che permetta l'utilizzo per attività sportive private parzialmente accolta si integra la normativa della zona ESTP specificando che sono consentite tutte le attività per il tempo libero ad eccezione di quelle motoristiche vista la compresenza nella zona di residenzialità consolidata 60 di Asquini Franco in qualità di legale rappresentante società Rialesco SRL di Udine Rialasco scusate chiede che per l'area di proprietà zona D3 venga integrate le destinazioni d'uso previste dall'articolo 36 dell'NTA inserendo le seguenti destinazioni d'uso così come definite dell'articolo 5 dell'NTA alberghiero ristorazione ricettivo completamento commerciale al dettaglio per negozi di vicinato con superficie di vendita inferiore a 400 metri quadri commerciale al servizio delle attività produttive insediate non accolta in quanto zone degli insediamenti industriali di interesse regionale e come tale in quanto zona D degli insediamenti industriali di interesse regionale e come tale soggetta alla norma sovraordinata del PURG come ridvadito nella specifica riserva regionale numero 13 69 di Vignandel Valtere e Vignandel Davide chiedono 1 che le NTA della zona RPC parco urbano compresso reale prevedano almeno per la parte di proprietari entranti in tali ambiti la possibilità di interventi finalizzati a servizi adibiti alle attività connesse alla cura della persona ricreative ricettive comprese le strutture destinate all'esercizio dell'agriturismo bed and breakfast accolta le attività richieste sono già previste dall'articolo 65 delle norme di attuazione essendo coerenti con le finalità di recupero e riutilizzo con funzioni diversificate e finalizzate al miglior funzionamento del parco non è quindi necessario alcuna modifica del PRGC 2 di consentire anche attraverso un piano particolaggiato la possibilità di un ulteriore amplimento all'interno del mappale 807 parzialmente accolta verrà modificato il comma 2 dell'articolo 65 prevedendo che per la destinazione proposta dell'osservante venga consentito l'ampliamento degli edifici esistenti con una volumetria massima aggiuntiva del 20% 95D ASD Festa in Piazza Villanova 1 chiede la possibilità di edificare nel centro sportivo comunale a Lupieri locali adibiti a magazzino deposito posto di ristoro esercizi igienici per circa 300 metri quadri parzialmente accolta essendo l'ambito già saturo si precisa che solo a fronte di presentazione di progetto specifico è già consentito dalla legge regionale 19 del 2009 per le opere pubbliche di interesse pubblico sulle zone destinate a servizi e attrezzature collettive la deroga agli indici urbanistici ed edilizi previa deliberazione del consiglio comunale in questa fase la normativa sovraordinata non permette l'individuazione di indici superiori 120 di rossette eugenio in qualità di legale rappresentante fondazione opera sacra famiglia di pordenone chiede uno di poter realizzare all'interno della zona ip ampliamenti degli edifici esistenti e la realizzazione di nuove costruzioni uno parzialmente accolta si inserisce una modifica alla componente strutturale che prevede la possibilità di adeguare le previsioni della componente operativa a fronte delle presentazioni di programma di attuazione tale possibilità verrà completata sia per le contemplata scusate sia per le zone ip che per le zone iis si ribadisce il concetto che la modifica tra previsione contenuta nel piano struttura e piano operativo deve essere anticipata e sostenuta dalla dimostrazione di sostenibilità dell'intervento studio viabilistico rispetto al contesto ai carichi indotti 2 la modifica dell'articolo 81 scuola secondaria di secondo grado i barra is i barra ip delle nta applicando la destinazione d'uso le destinazioni d'uso 2 non accolta le destinazioni per tale zone sono definite dalla norma sovraordinata e non sono contemplate nel purg zone miste comprendenti le destinazioni proposte dal richiedente 3 di consentire l'utilizzo degli immobili anche come distretto sanitario 3 non accolta in quanto per ogni zona a servizio la norma sovraordinata prevede una specifica destinazione d'uso in ogni caso la proprietà ad oggi ha un precario per l'affitto di parte della struttura al distretto socio-sanitario legato alla realizzazione della cittadella della salute 4 di ripristinare la perimetrazione dell'ambito come da PRG vigente e riunificare l'area con destinazione IIP 4 non accolta in quanto la riduzione della zonizzazione corrispondente alla viabilità di accesso esistente esterna alla recinzione dalla strada regionale numero 251 risulta rispondente alla classificazione acustica che prevede dei buffer di protezione tra le destinazioni IIP classe acustica 1 e la destinazione D3 classe acustica 4 121 D Lobby Amario in qualità di legale rappresentante della ditta Electroglux Professional SPA di Pordenone chiede 1 lo stralcio della frase ma anche per qualsiasi modifica i cicli produttivi relativi ad attività produttive esistenti al fine di ridurre le incompenze burocratiche 1 accolta si stralcia dal testo normativo la frase indicata dall'osservante 2 rispetto alla prescrizione dell'articolo 36.9 lettera E andranno adottate opportune mascherature in corrispondenza dei confini dei lotti con la messa a dimora di essenze arbore ed arbustive autoctone di chiarire a quali tipi di interventi si debba applicare tale disposizione di prevedere l'applicazione di tale disposizione alle sole zone dove risulti irrealizzabile la piantumazione di limitare tale imposizione i soli confini di zona e non i confini di lotti ed escludendo la piantumazione verso i confini prospicenti la strada parzialmente accolta si modifica l'articolo 36.9 lettera E nel seguente modo gli interventi di nuova costruzione e di riorganizzazione dei lotti andranno adottate opportunamente opportune mascherature in corrispondenza dei confini di zona con la messa a dimora di essenze arbore e arbustive autoctone 3 che la normativa del nuovo PRGC consente l'ampliamento degli edifici con piano di calpestio posto a quota inferiore della quota di riferimento mantenendo la quota del piano di calpestio dell'edificio esistente eventualmente subordinando l'ampliamento alla rinuncia di diritti risarcitori da parte dell'azienda nell'eventualità di interventi alluvionali per gli ampliamenti da realizzarsi sotto la quota di riferimento 3 non accolta in quanto trattasi di norma di carattere generale relativa alla sicurezza idraulica non derogabile 139D Ponticello Nicola per conto società serenissima trading SPA di Verona chiede il raddoppio dei volumi preesistenti considerato i costi da sostenere per il necessario adeguamento attisismico dell'edificio si tratta del Bronx non accolta in quanto il complesso risulta già un fuori scala rispetto all'intorno la richiesta risulta in contrasto con le strategie di piano 2 concedere la possibilità di realizzare unità abitative anche nel livello in cui sono allocati i volumi 3 tecnici 2 non accolta la destinazione d'uso residenziale già prevista nel piano adottato deve essere stralciata conseguentemente l'accoglimento della riserva regionale numero 13 3 prevedere che interventi di ristrutturazione ed ampliamento nonché quelli relativi alla realizzazione del piano ammezzato ad uso autorimessa apposta al di sotto della piastra pedonale rientrino tra quelli ad edificazione diretta 139 non accolta in quanto la vicinanza dell'ambito al centro storico e il riconoscimento dello stesso quale edificio progettato da Gino Valle esempio di architettura italiana del novecento come dimostrato dagli innumerevoli pubblicazioni richiede una progettazione urbanistica attuativa 148 di 139 di ok 148 di pignatta tilio legale rappresentante società vigne fantin nadara srl di pordenone chiede che l'articolo 47 che norma la zona per impianti ricreativi p3 confermi per villatinti la quota d'uso residenziale del 40% della superficie utile totale così come previsto nel prgc vigente accolta si integra l'articolo 47 dell'NTA come prgc vigente 154 di Toffolo Silvano non è mio parente legale rappresentante clara sas chiede 1 nell'azonamento mancano le delimitazioni degli ambiti unitari di interventi IRU accolta si modifica il POC con l'inserimento dei perimetri 2 inserire la lettera F all'articolo 44 dell'NTA residenza da ricavare nei due livelli più alti degli edifici esistenti nonché nella copertura in luogo dei vani tecnici non accolta la destinazione d'uso residenziale già prevista nel piano adottato deve essere stralciata conseguentemente all'accoglimento della riserva regionale numero 13 3 consentire un concreto ed adeguato riutilizzo dei vani tecnici attraverso il raddoppio dell'accubatura degli stessi 3 non accolta in quanto il complesso risulta già un fuori scala rispetto all'intorno e la richiesta risulta in contrasto con le strategie di piano 4 integrare il punto 7 lettera dell'articolo 48 con sino all'approvazione delle singole IRU restano in vigore le previsioni e le prescrizioni urbanistiche ed edilizie stabilite dal piano di lottizzazione nei termini stabiliti dalla legge vigente accolta viene integrata la norma 5 valutare se l'ipotesi di sola riconversione dei volumi tecnici associata o meno all'incremento richiesto possa prescindere dalla preventiva approvazione del piano particolareggiato non accolta in quanto la vicinanza dell'ambito al centro storico e il riconoscimento dello stesso quale edificio progettato da Ginovalle esempio di architettura italiana del novecento come dimostrato dalle innumerevoli pubblicazioni richiede una progettazione urbanistica attuativa 156 di Vignadel Valtere Vignadel Davide trattasi di osservazione presentata due volte l'abbiamo già letta nell'osservazione numero 69 finitele di grazie assessore qualcuno vuole avere dei chiarimenti dall'assessore consigliere Loperfido prego grazie grazie presidente assessore per quanto riguarda la 140 no come scusi no no scusi 138 9 139 139 quando chiedono raddoppio del volume preesistente considerato i costi da sostenere per il necessario adeguamento antisismico dell'edificio sono state tante le domande in cui a causa dei costi dell'adeguamento antisismico chiedono non ci sono altre grazie è l'unica questa del complesso del centro direzionale consigliere Sperotto prego un chiarimento sulla 154 volevo capire in che modo incideva l'adeguamento ovviamente del piano all'accoglimento della riserva regionale 13 cioè il non accoglimento deriva dall'accoglimento della riserva regionale cioè nel sembro cambia destinazione d'uso con varianti non sostanziali in passato erano state ampliate le destinazioni urbanistiche possibili da realizzarsi all'interno del centro direzionale Galvani e quindi il piano regolatore passato prevedeva la possibilità di non avere solo le destinazioni previste dalla norma regionale e le ampliava dando anche la possibilità di realizzare residenze agli ultimi piani vi dicendo convinti che la multifunzionalità sia la strada corretta convinti tuttora che sia la strada corretta per garantire una vivibilità maggiore a situazioni come queste dove la monofunzionalità è proprio limite nell'utilizzo e nella sua trasformazione di conseguenza noi con il nuovo piano regolatore ma come per questo anche per quanto riguarda il PIP anche per quanto riguarda le zone H di rilevanza regionale perché parliamo sempre di aree di rilevanza regionale abbiamo riconfermato l'allargamento delle destinazioni che si era venuto a formare negli anni di vita degli strumenti precedenti risottolineo convinti che sia proprio la plurifunzionalità che ha garanzie di vivibilità e di utilizzo di questi beni la riserva 13 regionale chiede che ci sia il completo adeguamento della normativa a quello che è il PURG del 78 dove queste aree venivano identificate e dove ne sanciscono la monofunzionalità perché coerenti con il disegno del 1978 e conseguentemente siamo stati costretti a eliminare tutte quelle altre destinazioni che siamo convinti invece siano necessarie altre richieste no bene scusate mi ero distratta passiamo alla famiglia F no scusa no scusa prego consigliere in passione si ricorda che in commissione si era accennato per quanto riguarda l'opera sacra famiglia rispetto lì si era detto non sono stato il solo a dirlo che c'è la previsione di una attuazione indiretta quindi con la necessità di presentare se ben leggo no la sostenibilità economica dell'intervento si e più lo studio viabilistico rispetto al villaggio del fanciullo non lo ritiene questo l'avevo detto anche in commissione ma credo che sia corretto dirlo anche qua rispetto a questo cioè nel senso che magari si poteva anche concedere un'attuazione diretta piuttosto che un'attuazione indiretta rispetto alla richiesta che è stata avanzata insomma mi pareva che poteva essere ragionevole questo questa richiesta ecco mi pareva insomma tenuto conto che nell'ambito sociale dell'impresa onlus di cui viene la richiesta l'ambito del villaggio del fanciullo è un ambito enorme è grandissimo basta vederlo nel piano regolatore le attuazioni indirette vengono chieste sempre per ambiti così grandi dove è necessario che le cose non vengano messe casualmente ma dove ci sia un disegno coordinato ed è meglio per chi lo fa avere questo disegno coordinato perché ne definisce anche una realizzazione e una realizzabilità dopodiché io sostengo sempre che l'attuazione indiretta permette anche di accedere allo scomputo delle opere di urbanizzazione cose che nell'attuazione diretta non c'è come dicevo prima al consigliere Loperfido relativamente ad un'altra categoria specificavo che le due osservazioni adesso abbiamo visto una perché in ambito D l'altra in la famiglia M quindi che erano relativi a dei ragionamenti complessivi cioè che erano relativi dei ragionamenti sulla realizzazione di scuole ovvero istituti superiori ci hanno portato come ho già spiegato in commissione a un ragionamento complessivo su quella che è la normativa relativa alle scuole dove queste rientrano perché gli istituti scolastici superiori fanno parte di un'unica famiglia sia che siano privati che pubblici e in conseguenza anche all'interlocuzione avvenuta con la provincia sulle necessità di ampliamento degli istituti scolastici superiori che per ora sono di proprietà provinciale di gestione provinciale sul nostro territorio consideriamo che sia opportuno e necessario che gli ampliamenti le trasformazioni affrontino insieme all'amministrazione quelli che sono i temi caldi che un istituto scolastico determina proprio per non trovarsi più a dover vivere errori che stiamo tuttora passate cercando di risolvere come quelli dall'istituto superiore di via ferraris dove una volta fatto abbiamo dovuto prevedere una serie di interventi insieme alla provincia correttivi a cause determinati dal fatto che non c'era stato in precedenza quello studio di approfondimento che serve quando si pensa di muovere migliaia di studenti che vengono da fuori quindi è una tutela per tutti io non è che non condivido anche però dall'altro lato c'è anche la preoccupazione diciamo delle attività che vengono svolte in questo senso che eccessivi appresentimenti diciamo di tipo prescrittivo come potrebbe essere questo che pur nella sua essenzialità è ragionevole in quello che lei giustamente ha spiegato qui diciamo che a volte rischia di creare delle difficoltà le attività che vengono svolte ma questo è legato all'attività che svolge nel suo complesso l'opera Sacra Famiglia io non credo che sia un aggravio nel senso che come diceva una precedente volta il consigliere Giannelli è la prima cosa che fa un privato nel momento in cui vuole intervenire valuta il quadro economico di sostenibilità quindi non gli viene chiesto un qualcosa che non sta nella vocazione di trasformazione dell'area ma il primo elemento che chiunque agisca deve avere perché se non gli torna il quadro finanziario è meglio che non si lanci diciamo ma questo lo dico per per chiunque sì sì anche perché altrimenti appunto sono o spese maggiori per la collettività o spese per quanto riguarda il punto 3 che non è stato accolto che si riferisce al distretto sanitario lì alla scadenza dovrà essere non potrà essere derogato ancora quella questione nel senso che non avrà questa attività diciamo in funzione la possibilità di un progetto loro non devono rinnovarla ogni volta perché ha durata fino al trasferimento cioè fino a quando l'azienda ne ha necessità loro lì hanno la sede dopodiché è incompatibile per le norme sovraordinate o sei scuola o sei o sei servizio sanitario non puoi essere scuola e servizio sanitario non esiste nella normativa sempre nell'ambito della preoccupazione dell'impresa sociale è chiaro che c'è una questione diciamo di tipo politico piuttosto che di tipo tecnico in questo caso ma in ogni caso verrebbe stralciata dalla regione perché non è compatibile con le norme sovraordinarie infatti l'aveva anche spiegato in commissione va bene grazie F grazie passiamo alla F F come no scusa pensavano gruppo e poi perché è evidente che siamo stanchi è difficile seguire se magari facciamo l'ultimo gruppo e poi ricominciamo da domani alle tre non so se siamo d'accordo visto che ormai la stragrande maggior parte a chiedere sì sì chiaro mi rivolgo perché andate avanti così è veramente martellante visto la mole di osservazioni che abbiamo già affrontato se siamo d'accordo tutti ovviamente scusa quanti gruppi sono rimasti F F M F A M F M E E ce n'è una E ce n'è una E C A E C ne abbiamo fatte 120 forse quella scusa eh la tina scusami le A le facciamo per ultime tutto e quella ce n'è una che va via un'ora solo quella la vederla ciò che la faremo domani ok allora potremmo terminare i gruppi lasciando fuori le A dove ce n'è quella quella degli architetti che richiede solo la lettura un'oretta pertanto quelle terminiamo le altre perché mi sembra che siano veloci bene vediamo se poi l'assessore ha una buona ha una tenuta io tengo ne abbiamo fatte 123 mi aggiornano sembra vai vado la F che vorrebbe dire osservazioni area standard 12F parrocchia San Francesco d'Assisi chiede di ampliare la zona destinata a VACL includendo la particella numero 616 accolta in quanto l'azonamento della tavola CO07 riconosce già la destinazione VACL per il mappare numero 616 oggetto dell'osservazione non è quindi necessaria alcuna modifica al PRGC F27 Valenti Marco chiede il riconoscimento della porzione del mappale numero 1826 destinato a scuola elementare come zona B1 non accolta in quanto si continua a ritenere necessario che l'edificio scolastico abbia una pertinenza con distanza dai confini atta garantirne la manutenzione 2 in subordine che tale area rientri nel meccanismo della perequazione 2 accolta non si riconosce nel meccanismo perequativo la tecnica utile al raggiungimento dell'obiettivo desiderato dal richiedente si individua in alternativa una possibile permuta tra il terreno in zona B di proprietà comunale limitrofo alla scuola e l'area destinata a scuola di proprietà del richiedente l'area di proprietà comunale naturalmente confina con l'otto dei richiedenti 73 presi in esame gli esempi allegati all'osservazione 2 parzialmente accolta viene accolta la parte di proposta che prevede l'accessibilità all'otto dalla viabilità esistente e conseguentemente viene modificato l'azonamento eliminando la previsione viabilistica e zonizzando la stessa con lo stesso indice previsto per l'ambito dei richiedenti la nuova previsione di viabilità determinerà l'eliminazione del verde di arredo 76 F cittadini residenti in via Leo Girolami primo firmatario Trame Andrea chiede che l'area 1 l'area adiacente ai condomini di via Leo Girolami civico 2 4 e 6 in prossimità di via Le Venezia e destinata dal piano adottato a parcheggio a stazioni autolinee urbane ed extraurbane sia salvaguardata e resa parte integrante del sistema verde cittadino accolta l'area oggetto di osservazione verrà destinata a verde pubblico salvaguardando la qualità dei diritti previsti dal piano adottato 2 che le aree individuate per i nuovi parcheggi e stazioni autolinee urbane ed extraurbana trovino collocazione nell'area della caserma dei vigili del fuoco 2 parzialmente accolta all'interno della previsione della futura destinazione della caserma dei vigili del fuoco nel piano struttura comunale come verrà indicata come area servizi verrà individuato un assetto che tenga conto della richiesta degli osservanti 78f Corrado Francesco chiede 1 il ripristino della perimetrazione della zonizzazione così come individuato nel piano di recupero di torre accolta si modifica il perimetro della zona come precedentemente individuato nel piano di recupero di torre riconoscendo una piccola porzione di zona residenziale in luogo del verde privato 2 il cambio di destinazione urbanistica da rvq a vp cioè verde privato essendo il vincolo preesistente da oltre dieci anni non accolta i mappali oggetti di richiesta sono già destinati a verde privato e verde privato di tipo ambientale 92F Sist dottor Maurizio direttore generale poliniclinico San Giorgio chiede 1 un parcheggio pubblico localizzato su tutto il mappale 229 e metà del mappale 621 la restante parte del mappale 621 rimarrebbe destinata a verde pubblico l'aroggetto della richiesta è quella relativa al parcheggio temporaneo localizzato in via Svevo sul terreno destinato dal PRGC vive gente a verde pubblico non accolta i proponenti l'osservazione non sono i proprietari dell'area che dal canto loro hanno presentato opposizione al piano indicando obiettivi in difformità con quanto contenuto nella presente osservazione arrivo no 108 Varei Luigi rappresentante Giglio SAS chiede il ripristino della previsione del PRGC vigente quindi la modifica da DM a VAC parzialmente accolta abbiamo modificato la zona da DM a VAC il ripristino della previsione del PRG vigente da EBA VAC con l'estensione del servizi verso nord non accolta in quanto in contrasto con gli obiettivi generali di piano 3 la realizzazione di un collegamento viario di uso pubblico verso via grande non accolta in quanto tale previsione avrebbe senso solo se collegata all'accoglimento del punto 2 119F Rossetti Eugeni in qualità di legale rappresentante fondazione opera sacra famiglia di Pordenone chiede 1 di poter realizzare all'interno delle zone IS ampliamenti degli edifici esistenti e la realizzazione di una nuova costruzione parzialmente accolta valutando che la finalità scolastica sia pubblica che privata debba poter prevedere ampliamenti finalizzati all'adeguamento della struttura della loro ottimizzazione rispetto al fine educativo si inserisce una modifica della componente strutturale che prevede la possibilità di adeguare le previsioni della componente operativa a fronte della presentazione di un programma di attuazione o di accordo di programma 2 la modifica dell'articolo 8.81 scuola secondaria di secondo grado IIS IIP dell'NTA applicando la destinazione d'uso le destinazioni d'uso proposte non accolta la destinazione per tale zone sono definite dalla norma sovraordinata e non sono contemplate nel PURG zone miste comprendenti le destinazioni proposte dal richiedente 3. di consentire l'utilizzo degli immobili la prima è stata parzialmente accolta la seconda dove chiede l'integrazione di poter ampliare la scuola la seconda non accolta ve le rileggo non accolta in quanto chiede un ampliamento delle destinazioni d'uso che non è previsto dal PURG 3. di consentire l'utilizzo degli immobili anche come distretto sanitario eccetera non accolta non è compatibile la compresenza di due destinazioni in quanto per ogni zona servizio la norma sovraordinata prevede una specifica destinazione 4. la modifica grafica da zona AG a zona IS vedessi il punto 1 129 F ingegnere Loretta del Col responsabile del nuovo ospedale chiede che l'area di proprietà comunale classificata come DM magazzini comunali venga modificata inviabilità e parcheggi 1. non accolta in quanto l'area di proprietà comunale risulta non necessario al reperimento dello standard dovuto per il nuovo ospedale come dichiarato dalla stessa azienda in occasione della richiesta del rilascio di permesso di costruire 2. che l'articolo 117 dell'NTA venga precisata la possibilità di procedere per giustificati motivi anche alla demolizione degli edifici definiti come esempio della produzione archeologica contemporanea compresi nell'ambito del nuovo ospedale 2. accolta viene integrato l'articolo 117 dell'NTA precisando che per giustificati motivi documentabili si potrà procedere anche alla demolizione degli edifici definiti come esempio della produzione architettonica contemporanea 131 131 Zanetti Anna Maria Gai Giuseppe chiedono che la porzione di terreno di proprietà già pertinenza dell'abitato come giardino e formazione e formante con la stessa unico corpo venga modificata da zona AG a zona B1 accolta viene modificata da zona AG e zona B1 la porzione di proprietà dei richiedenti 136 F Bortolin Milena chiede di modificare la destinazione urbanistica da zona IMT a zona B1 per una porzione dei mappari 988 e 990 a sostegno di chiare di chiesta precisa che è in corso con l'amministrazione comunale una trattativa di permuta per il terreno di proprietà comunale adiacente per il quale il PRGC vigente prevedeva un indice fondero di un metro cubo metro quadro ora aumentato a 2 metri cubi in metro quadro accolta si modifica la zonizzazione di piano come richiesta dall'osservante 138 F Babuin Leonora chiede la modifica di zona P parcheggio pubblico a zona residenziale B1 e mezzo parzialmente accolta l'area oggetto dell'osservazione verrà introdotta in un piano attivo C1 17 a destinazione prevalentemente residenziale con previsione di un parcheggio alberato di superficie pari al 40% dell'area 140F Ponticello Nicola per conto della proprietà costitutive il centro direzionale di Pordenone chiede che il parcheggio Marcolin venga confermato come in origine quale parcheggio di pertinenza del centro direzionale Galvani con conseguente enucleazione del sistema città-fiume così come definito nelle tavole CS19B della componente strutturale non accolta il parcheggio Marcolin non è mai stato parcheggio di pertinenza del centro direzionale Galvani anche se realizzato all'interno dell'ambito attuattivo in quanto standard pubblico che contribuisce alla sostenibilità complessiva delle attività terziarie presenti nel centro storico come tale è stato riconfermato nel piano operativo la richiesta non può essere accolta in quanto in contrasto con gli obiettivi di piano specificando che l'amministrazione nel momento in cui deciderà di trasformare una porzione di tale parcheggio a parco al fine di dare attuazione all'obiettivo città-fiume dovrà dimostrare che il reperimento dello standard al parcheggio pubblico introdotto dal carico delle attività presenti nel centro storico risulta reperito dai parcheggi in superficie in struttura 142F Falcomera Andrea in qualità di presidente della società sportiva ASD Rugby Pordenone chiede che l'area su cui insistono gli impianti gestiti della società di più di 30 anni venga riconosciuta quale area sportiva RSP accolta si modifica la componente operativa come da richiesta del richiedente 145F Pignatta Tiglio Regale rappresentante società Vigne Fantine Nadara SRL di Pordenone chiede che l'area venga perimetrata con un nuovo PAC dove poter realizzare un volume ad uso residenziale e o di attività compatibile a servizi della residenza con una volumetria conforme all'intorno e con una percentuale di RVQ a servizio dell'intorno ad accedere o a servire ad uso pubblico non accolta in quanto in contrasto con gli obiettivi generali del piano era l'osservazione sulla stessa area del policlinico quindi uno chiede la residenzialità l'altro il parcheggio 166F 165F 165F Dattolo Danilo per conto di Tabaro Danilo per conto di Ottabaro Giannino chiede di inserire l'intera area in un piano particolareggiato con la possibilità di realizzare una certa cubatura in cambio dell'accessione della maggior parte della residuare al comune per destinarla a dosi pubblici accolta viene inserita la zona C1 con per equazione di comparto al fine di riconoscere l'accessibilità diretta alla scuola materna di via dello stadio e di un'area di ampliamento del cortile scolastico a fronte del riconoscimento di un indice fondiario di 0,6m2 su metro cubo da calcolare sull'intera area in modo che tale zona rimanente esprima un indice gongro rispetto a quello delle aree edificabili limitrofe fine dell'EF benissimo grazie consigliere Giannelli prego volevo una precisazione nella 129 quella dell'ospedale quando vi riferite a edifici come esempi della produzione architettonica contemporanea vi riferite alla demolizione dei padiglioni A B cioè non a quello ottocentisco che c'è in fondo era siccome cioè quello lì in fondo che è quello la sua vicina all'asilo comunque è contemporaneo quindi precisatelo ma è stato no ma non scusi è colorato di giallo cioè è individuato è individuato come anche questo edificio della produzione architettonica contemporanea quello allora non si tratta di noi intanto perché è tutti gli edifici all'interno dell'area dell'ospedale sono non sono assoggettati a vincolo di conseguenza c'è questo lavoro dall'ordine degli architetti che ha identificato gli edifici di rilevanza architettonica del novecento tra i quali è inserito anche la terza medica il senatorio insomma come veniva chiamato l'azienda in questo momento si concentra sull'importo economico per la trasformazione degli edifici A e B e la loro messa in sicurezza dal punto di vista sismico e quant'altro piuttosto che la demolizione ma loro ragionano sull'edificio A e B no io dico solo che l'edificio questo qua ex sanatorio dovrebbe essere coperto da un vincolo è un raro esempio di edilizia ospitaliera ottocentesca anche se mettetelo noi non possiamo mettere vincoli perché? cosa c'entra la proprietà? con quale autorità mettiamo un vincolo? cazzo com'è? se lo mettete per gli altri potete metterlo anche per l'ospedale a casa mia mi avete pur messo un vincolo e lo mettete anche per l'ospedale quello non si può demolire punto a casa sua abbiamo messo un vincolo quello edificio lì a casa sua abbiamo messo un vincolo ho fatto un esempio ci sono no casa mia è diventata gialla va bene ma quello è lo studio che ha fatto va bene va bene anche lì anche lì c'è però voglio dire questo è un raro esempio di edilizia ospitaliera fatto in modo di cioè non so infatti è uno di quelli che tengono nel progetto dell'ospedale non c'è scritto da nessuna parte che lo tengono per ora nel progetto metteteli un vincolo M bene nessun'altra richiesta passiamo alle M M M E e poi che ce n'ha una e poi facciamo le C e le A domani sì le C e A anche le C che sono sì non facciamo le C stasera sono corpose no no sono meno ma ce n'è una che è lunga è lunga eh la A e la C la A e la C e adesso facciamo la M e poi la E che ce n'è una sola dimmi la prima M 16 Scorrano Alberto scusami richiesti e chiarimenti scusi dove avviamo prego sì volevo chiedere un chiarimento per quanto riguarda numero 92 il parcheggio chiarimento chiesto dal da Sist Maurizio che poi ho visto che è lo stesso del 145 con la differenza che eh quello chiesto con il 92 parla dei mappali 2,29 e 6,21 mentre il Pignat parla anche del 618 volevo un chiarimento circa questa differenza grazie la differenza sta nel fatto che il contratto di affitto che ha il Policlinico San Giorgio attualmente insiste solo sui mappali 621 e 229 mentre il proprietario è anche proprietario di un altro mappale infatti gliel'abbiamo rigettata la risposta è i proponenti l'osservazione non sono i proprietari dell'area che dal canto loro hanno presentato un'opposizione al piano indicando obiettivi in difformità con quanto contenuto nella presente osservazione quindi non l'abbiamo accolta 16M Aspettate che arrivo la M Scorrano Alberto in qualità di amministratore unico della società Ingeco SRL di Cordenonze ed in qualità di procuratore dei signori Milani Serafina e Brusadin Bruno in merito al PAC 34 chiede 1 lo spostamento in asse con la statale 13 della rotatoria posta all'intersezione di via Fornace conseguenti modifiche azonative tese a salvaguardare l'abitato residenziale a nord di via Fornace nonché l'individuazione di una viabilità pubblica a supporto delle attività suddette commerciali che si attestano sulla statale 13 parzialmente accolta si riconoscono quali aree per la viabilità o verdi del redo tutte le attuali aree pubbliche o di uso pubblico esterne alle recensioni che costituiscono l'attuale intersezione viaria tale modifica permette lo spostamento della rotatoria verso l'asse della statale 13 vengono inoltre corretti dei rifusi cartografici che prevedono la sovrapposizione della zona B1 con la zona di viabilità la proposta presentata che riguarda la ridefinizione del sistema viario a scala maggiore non può essere accolta in quanto in questa fase coinvolge diversi proprietari che non hanno sottoscritto l'osservazione tale ipotesi progettuale quindi viene inserita nella tavola CS 19 ho perso il segno 19 D 2 confermare la viabilità del PAC 34 già approvato per un periodo di 12 mesi dall'approvazione del nuovo PRGC consentendo varianti distributive interne tale opportunità deve essere esplicitata l'articolo 57 dell'NTA non accolta in quanto in contrasto con le impostazioni generali del piano 23 M Nosella Danilo in merito al comparto C 11 chiede 1 ridurre previsione di area parco urbano comprensoriale RPC lungo via dell'acqua per consentire la realizzazione del collegamento diretto di via dell'acqua alla rotatoria dall'incrocio con via fornace con la statale 13 non accolta il nuovo tracciato è stato identificato per mettere in sicurezza l'innestro della viabilità con la statale 13 tale ipotesi progettuale potrà essere presa in considerazione con una successiva variante riconfigurazione complessiva via area dell'ambito 2 spostamento della rotatoria all'incrocio di via fornace con la statale 13 verso l'asse stradale della statale 13 e la previsione di una barriera verde a protezione dell'abitato parzialmente accolta in quanto la richiesta di spostamento coinvolge diversi proprietari che non hanno sottoscritto l'osservazione tale ipotesi progettuale potrà essere presa in considerazione con una successiva variante specifica rivolta all'eventuale riconfigurazione complessiva via area dell'ambito e quindi viene inserita nella tavola cs19b 3 spostamento della rotatoria all'incrocio di via fornace con la statale 13 verso l'asse stradale della statale 13 la previsione di una barriera verde a protezione dell'abitato non accolta si vede il punto 2 4 individuazione dell'asse viario di collegamento tra via fornace e le attività commerciali a sud del comparto C 1 11 non accolta la viabilità a servizio di tali ambiti dovrà non interferire con la statale 13 e le opere ad esse connesse al fine di mettere in sicurezza l'innesto viario 5 individuazione delle aree non di proprietà del richiedente da occupare a seguito della traslazione della rotatoria non accolta la richiesta di individuazione di tali aree che involge proprietari che non hanno sottoscritto in osservazione 6 confermare conferma della revisione di una barriera verde a protezione dell'abitato non accolta si vede al punto 2 7 riperimetrazione del microarea al comparto C 11 dal comparto C1 11 a confine con la zona B1 al fine di farla rientrare nella stessa B1 accolta viene modificata la previsione cartografica 28M da Ross Mario e Toffoli Angelina chiedono 1 il mantenimento della zona urbanistica vigente ovvero B1 e mezzo accolta in quanto trattasi di refuso grafico 2 la possibilità di incrementare la quota non residenziale oltre 50% non accolta la normativa sovraordinata obbliga alla prevalenza residenziale nelle zone specifiche 30M De Bortoli Walter chiede che venga ripristinata la zona B1 e mezzo del PRGG vigente in luogo della previsione del corridoio ecologico adottato nel nuovo PRGC accolta si modifica la perimetrazione dell'ambito interessato dal corridoio ecologico visto che la porzione per cui viene richiesta l'eliminazione risulta ininfluente al fine del raggiungimento degli obiettivi di piano 32M Rugo Silvia Luciana considerato che il nuovo PRGC per terreni di proprietà non prevede alcuna destinazione urbanistica chiede la classificazione in zona E4 zona di valore paesaggistico ovvero E5 zona di valore ambientale ritenendo queste destinazioni più consone al contesto ambientale di riferimento rispetto a quelle previste dal PRGC vigente PAC 21 con destinazione residenziale questa questa osservazione è legata ad un'altra che fa parte sempre dello stesso ambito e che ci ha portato a scegliere per tutte la destinazione di verde privato ambientale VPA quindi questa risulta parzialmente accolta 36M Tomadini Sandri Raffin Mario chiede che il percorso indicato possa essere spostato nei terreni limitrofi che oltre che essere incolti ospitano dei lotti di proprietà del comune di Pordenone accolta viene spostato il tracciato indicativo del percorso ciclopedonale Tomadini 37M Tomadini Sandri in qualità di legale rappresentante della ditta Maglio SAS di Porcia chiede che venga rivisto il percorso indicativo tra via Beata Domicilla e via del Maglio nei terreni limitrofi non accolta in quanto trattasi di localizzazione di carattere indicativo saranno i progetti esecutivi a stabilire il corretto posizionamento dei suddetti percorsi ciclopedonali 41M Martell Rosa Maria e Martell Ezio chiede 1 l'eliminazione del vincolo tracciati ciclabili potenziali di collegamento PUMS non accolta in quanto la rete di percorsi ciclopedonali risponde agli obiettivi generali del piano 2 in subordine lo spostamento all'esterno della proprietà accolta si modifica conseguentemente il POC 43M Romano Clara chiede la correzione della tavola grafica con il reale posizionamento della viabilità pubblica e di conseguenza il nuovo posizionamento della pista ciclabile accolta si modifica conseguentemente il POC 47M Prata chiede che la previsione di gronda nord che grava da diversi anni sul terreno di proprietà venga accessare accolta si modifica il tracciato coerentemente con la riserva regionale 8A 61M Asquini franco in qualità di legale rappresentante della società reala ASCO SRL di Udine chiede che venga eliminato dalla tavola CO01 punto 3 il rettino di color giallo dell'edificio in questione non accolta l'edificio in questione progettato dall'architetto Gino Valle fa parte di quelli segnalati da uno studio corredato dall'ordine degli architetti della provincia di Pordenone finalizzati ad evidenziare architetture caratterizzanti lo sviluppo novecentesco della città l'evidenziazione che non comporta particolari vincoli non può essere eliminata 63M Bergamo Luigi per sé per nome e conto di altri chiede 1 la modifica della zona omogenea B1 residenziale a bassa densità in modo che la nuova configurazione planimetrica assuma una forma regolare e che un lato di tale figura segue l'andamento della linea di confine parzialmente accolta in quanto si tratta di regolarizzare il lotto di proprietà per la sola parte compatibile con la normativa del PAIL 2 l'ampliamento a tutto il mappale 249 della zona B1 residenziale a bassa densità parzialmente accolta vedi risposta al punto 1 75N cosa avevo detto Carlo chiede l'eliminazione del vincolo pista ciclabile dal lotto di proprietà proponendo percorsi alternativi accolta si modifica il POC prevedendo un tracciato alternativo 116M bellette Rina chiede la modifica dell'articolo 123 dell'NTA ridefinizione del fronte urbano relativamente alla possibilità di edificare fino al limite di zona come in precedenza accolta trattasi di refuso 2 di realizzare le eventuali misure compensative nella zona agricola non accolta le misure compensative atte a bilanciare dal punto di vista della sostenibilità complessiva del piano indotte dalla trasformazione edilizia devono essere individuate all'interno del lotto che genera tale possibilità scusate 127M interporto centro all'ingrosso poche no no è lunga da leggere ma le risposte sono rapide chiede zona ferroviaria 1 interporto centro all'ingrosso di Pordenone allora zona ferroviaria 1 onde consentire la realizzazione delle opere infrastrutturali al servizio del terminal intermodale già programmate da interporto vengono proposte modifiche al perimetro delle zone ferroviarie e delle zone TPI 2 al fine del meglio specificare l'infrastrutturazione delle aree si propone l'integrazione dell'articolo 110 dell'NTA affinché venga consentita la realizzazione di attraversamenti viari anche al servizio di altre zone nonché la possibilità di realizzare gate 3 al fine di definire l'ampiezza delle fasce ferroviarie viene proposta l'integrazione dell'articolo 111 dell'NTA precisando che la suddetta fascia viene misurata dal binario di corsa e non di manovra tutte queste tre sono accolte d2 zone di insediamenti industriali artigianali di interesse comunale e comprensioneale 4 viene proposta la riperimetrazione del perimetro del PAC 77 rispetto alle zone con termini accolta 5 viene proposta la modifica della relativa scheda normativa contenuta nell'elaborato COA2B prevedendo la possibilità di accedere al PAC 77 sia dal parcheggio di interscambio sia dalla zona di attrezzature ferroviarie accolta 6 che venga eliminata la previsione della mitigazione infrastrutturale sul lato nord del PAC 77 accolta 7 che la fascia di mitigazione ambientale di filtro sul lato ovest e sud venga ridotta da 20 a 10 metri parzialmente accolta si modifica la fascia di mitigazione da 20 a 10 metri limitatamente ai lati sud del PAC che confinano con la zona agricola 8 che la quantità di verde privato venga ridimensionata da 20 a 10 metri quadri ogni 100 metri quadri di superficie territoriale non accolta 9 altre modifiche normative degli articoli 50 35 e 7 parzialmente accolte si modificano la normativa e le schede per meglio precisare quali sono i contenuti prescrittivi rispetto a quelli di indirizzo progettuale H1 zone per attrezzature commerciali di interesse regionale per l'intrescambio di merci 10 modifica del comma 2 dell'articolo 37 dell'NTA con specificazioni sulle destinazioni d'uso ammissibili nelle zone H1 prevedendo servizi commerciali al dettaglio e togliere dalle destinazioni d'uso servizi e attrezzature collettive scusate togliere dalla destinazione d'uso servizi e attrezzature collettive e la specificazione di iniziativa pubblica e sostituire all'ultimo capoverso del comma 2 destinazioni d'uso da sono limitate al 30% della superficie utile territoriale ammissibile dell'ambito a sono limitate al 30% della superficie utile territoriale ammissibile delle zone H1 di cui trattasi la numero 10 risulta parzialmente accolta nei limiti indicati dalle riserve regionali numero 9 che predevede che le destinazioni d'uso della zona H1 devono essere quelle definite dal PRITML che sono centro direzionale circuito doganale centro logistico commercio all'ingrosso officine e servizi per gli operatori del trasporto sedi per operatori spedizionieri del trasporto 11 parcheggio d'interscambio eliminare al comma 2 dell'articolo 73 che prevede tutte le aree pubbliche a parcheggio a cielo aperto devono essere opportunamente alberate al fine di non inibire la possibilità di prevedere la realizzazione di fotovoltaico 11 parzialmente accolta si modifica l'articolo 77 come 2 prevedendo le caratteristiche prestazionali dei parcheggi 12 precisare al comma 5 che nelle aree di parcheggio con superficie maggiore ai 10.000 metri quadri è consentita la realizzazione di fabbricati per una superficie utile massima del 10% della superficie complessive dell'ambito accolta e infine 13 ambiti pubblici di tutela dei corridoi ecologici la modifica grafica e normativa dell'articolo 118 per consentire la realizzazione del terzo binario accolta la normativa già consente la realizzazione delle opere richieste in quanto non incompatibili con l'indicazione di corridoio ecologico 143M di Piero Stefano chiede lo spostamento dell'indicazione di pista ciclabile su sedime stradale pubblico accolta faceva una richiesta 2 la specificazione della norma delle B0 che consentono di edificare in caso di demolizione e costruzione anche a confine questa non è accolta perché nella categoria B0 non è prevista solo la categoria di demolizione con fedele ricostruzione quindi non può essere spostato 162M Vazzoler Gianfranco chiede che venga traslato il corridoio ecologico verso la statale 13 accolta 164M Canciana Andrea incaricato della signora Dabiani Brisotto chiede la possibilità di realizzare un'area attrezzabile con piccoli prefabbricati ammobibili in legno o metallici per sfruttare l'ambito come zona verde era quella che dicevo in relazione quella di prima per la quale abbiamo previsto la destinazione a verde privato ambientale VPA e quindi accolta e infine Carraro Armando e Milena Rosa 168 chiedono la modifica del perimetro del parco urbano RPC ampliando la zona B1,5 per riconoscere lungo il limite del fabbricato una superficie da sempre pavimentata che costituisce l'unico piano orizzontale utilizzabile prima della scarpata viene accolta aumentando di due metri e mezzo la perimetrazione grazie assessore richiesti chiarimenti su questo gruppo M consigliere Sperotto prego sì è tardi sono circa 12 ore che siamo qui però sulla 127 volevo capire perché vengono eliminate previsioni di mitigazione infrastrutturale ridotte fasce di mitigazione ambientale eliminata l'ambito pubblico il corridoio ecologico volevo capire se anche aiutandoci con una cartografia ci poteva spiegare l'impatto che tutte queste modifiche potevano avere sia sull'ambiente sulla zona agricola e anche ovviamente sulle zone residenziali perché comunque ci sono anche delle abitazioni qui siamo in una zona ovviamente è una zona di Pordenone in cui c'è ancora un po' di verde c'è ancora una zona agricola ed è una zona anche rimasta in qualche modo bella pertanto queste modifiche e questo accoglimento delle osservazioni andranno a impattare una zona che già ha visto un territorio massacrato dall'autostrada dalla presenza di una nuova viabilità e anche da questi interventi quindi volevo che si spiegasse un po' meglio le ragioni di questi accoglimenti e quali saranno gli impatti visto che verranno appunto modificate delle fasce di mitigazione sia ambientale che infrastrutturale grazie allora le fasce di mitigazione ambientale di filtro sul lato ovest e sud che è l'unica che viene richiesta venga ridotta da 20 a 10 metri noi abbiamo considerato che debba rimanere da 20 metri verso la parte risidenziale e possa essere ridotta di 10 solo verso la parte a sud ecco si parla del pac 77 che è quello viola solo di quel pezzetto consigliere è chiaro di quel pezzo lì quel pezzo che ha un obiettivo che è quello del vede una una traslazione una possibile sua destinazione a per il trasferimento dei mulini Zuzzi dal centro e Giannelli che fa il disco vede lo spostamento in quell'area legato al fatto che in questo modo i mulini possono ri inserire anzi riattivare lo scalomerci perché tutta l'asta diventa l'asta dello scalomerci dell'interporto era stata prevista una fascia di mitigazione per quell'area in modo generale verso i binari questa naturalmente viene eliminata perché dovendosi loro attivare o quell'attività in ogni caso relazionarsi con lo scalomerci se hanno una fascia di mitigazione di un'area produttiva con la fascia con la parte dei binari non ha alcun senso che venga mantenuta manteniamo la fascia di 20 metri di mitigazione verso il marrone lo vede la freccetta mentre nei confronti della parte a sud che è già verde e che rimane tale viene in questo caso ridotta a 10 metri quindi non è vero che sono state eliminate le fasce nel senso che nei confronti della residenza viene garantita uguale i 20 metri nei confronti di una zona agricola che manteniamo come tale e che è piantumata e che è di un parco la manteniamo la riduciamo a 10 metri e viene eliminata verso i binari perché se no come fanno ad accedere ai binari tant'è vero che quando loro chiedono la modifica del corridoio ecologico per la realizzazione del terzo binario questa non è necessaria perché all'interno del corridoio ecologico è già prevista la presenza del corridoio ecologico non è in contraddizione con la richiesta della realizzazione del terzo binario del resto è fondamentale che quell'intervento sì finisco subito mi guardano male che quell'intervento che giustamente lei dice ha modificato pesantemente il territorio e col quale noi dobbiamo fare i conti preveda quegli interventi utili ad ottimizzarne l'uso che dal nostro punto di vista è quello della sua trasformazione a vocazione logistica quindi l'operazione che è stata portata avanti in tanti anni e non è stata per niente facile anzi del riuscire a identificare lo scalomerci e quindi riavere uno scalomerci a Pordenone riconfermarlo e poterne fare le parti doganali risulta essere strategico per dar senso a quell'intervento che ha un impatto rilevante sulla sulla città però le dico gli interventi di mitigazione sono questi quelli che sono stati modificati ovvero la realizzazione di un corridoio ecologico verso la ferrovia il mantenimento verso la residenza e l'assottigliamento verso una zona che manteniamo a verde perché siamo convinti che debba fare da cuscinetto di mitigazione tra il polo il centro commerciale all'ingrosso che per noi ha come vocazione il centro della logistica e la zona residenziale tant'è vero che in tutti questi anni l'amministrazione ha continuato la piantumazione di quelle aree facendone un parco bene ne è rimasto solo uno vero? sì la E? no no la E qual è la E? questa la numero? la E ce n'è solo una di E ed è la 122 ed è di Pessot Marco anche per conto di Pessot Liliana Pessot Cecilia Pessot Stefano e Pessot Giambattista chiede che la zona che l'ex zona C in via Levade ora classificata come area di servizi privati a supporto della residenza normata all'articolo 30 bis dell'NTA rimanga area edificabile in quanto individuazione di un parcheggio di un impianto fotovoltaico è inappropriato rispetto al contesto non accolta in quanto qualsiasi altra previsione urbanistica potrà essere esaminata solo a seguito del declassamento di classe di pericolosità idraulica dell'ambito da parte degli enti competenti e sovraordinati l'azione atta ottenere tale declassamento sarà carico del privato si sottolinea che la domanda non è inoltre firmata da tutti i proprietari del comparto 2 che la zona B venga integrata alla zona P1 e che venga avviata la procedura presso le autorità competenti per le variazioni della classificazione dei fondi attualmente ricadenti in P2 non accolta vedisi punto 1 nel senso che è il privato che deve attivare la procedura per il declassamento perché è un interesse suo privato questa era l'unica e questa era la E qualcuno vuole avere dei chiarimenti su questa pertanto scusi la Sessore rimangono le A e le E la C e la A 7 in tutte però sono corposo però sono un po' lungo bene allora signore io direi che potremmo chiudere qui i lavori vi ricordo che domani i lavori inizieranno alle 15 abbiamo previsto una chiusura alle 22.30 salvo che non si sia in fase di votazione nel senso che non sappiamo domani la discussione quanto si protrarrà se dovessimo essere in fase di votazione non si possono interrompere voi sapete che salvo che che il Consiglio non decida altrimenti ci sono 169 votazioni tutto tutto tutte riserva ci sono 169 votazioni si votano le riserve regionali un'unica votazione si votano tutte le osservazioni che abbiamo stiamo esaminando e poi la votazione finale del piano del documento finale fino alla votazione finale tenete presente che c'è anche c'è anche regolamento che anche quella è una delibera che deve essere presentata discussa e votata è mercoledì salvo che vediamo domani vediamo domani bene sono le 22.48 dichiaro chiusi i lavori il Consiglio la seduta riprenderà domani alle 15 grazie a tutti buonanotte grazie a tutti